Ciao e benvenuto o benvenuta all'interno di questo esclusivo contenuto gratuito che ho deciso di portare qui sul mio canale YouTube. Se non mi conosci mi chiamo Ludovico Cianchetta Vasquez e sono considerato uno dei massimi esperti di affitti brevi in Europa e nel mondo. Ho vinto diversi premi e riconoscimenti grazie a questo fantastico business e oggi ho deciso di portarti alcune delle basi che mi hanno permesso di costruire un impero milionario nel settore degli affitti brevi. Sono il co-founder di B&B Academy, Rental Pro e Bedly Go, tre aziende leader nel settore degli affitti brevi che oggi mi permettono di avere una clientela sommata di oltre 5.000 persone. In portfoglio ad oggi ho oltre 100 immobili suddivisi tra property management, immobili di proprietà e sublocazione. Non ti preoccupare se non sai che cos'è il property management o che cos'è la sublocazione te lo spiegherò all'interno di questo contenuto gratuito. Sarà un percorso decisamente lungo, ma ti assicuro che ne varrà la pena. Calcola che questa è solo la punta dell'iceberg, perché queste sono le informazioni basilari per capire come funziona questo negozio. Ma la verità è che là fuori è pieno di informazioni di cui devi essere a conoscenza per svolgere questo business nella maniera corretta, legale e soprattutto profittevole. Ed ecco perché poi all'interno del percorso avrai la possibilità di accedere ad ulteriori contenuti ed eventualmente di iscriverti anche alla nostra accademia di formazione B&B Academy, che ad oggi conta oltre 4.000 studenti e tantissimi casi studio di successo. Si tratta dell'accademia di formazione più grande d'Europa ed una delle più grandi al mondo. Questo, devi sapere, è un video per me molto speciale, perché oggi svelerò con questo contenuto pubblicamente qual è il mio sistema, passo dopo passo, per guadagnare con gli affitti brevi utilizzando case di altre persone. Infatti noi svolgiamo questo business con immobili che non sono di proprietà, ma sono posseduti da altre persone che decideranno di collaborare con noi attraverso il property management o di sublocare gli immobili attraverso un contratto di sublocazione. Non ti preoccupare se non sai di che cosa stiamo parlando, perché ovviamente te lo spiegheremo all'interno di questo contenuto incredibile, gratuito. Ma perché ho deciso, nonostante la grande esperienza in ambito imprenditoriale, di focalizzarmi sul business degli affitti brevi? Beh, devi sapere che il settore immobiliare in Italia è sempre stato il principale metodo con cui i milionari sono diventati milionari. Ma fino a poco tempo fa questa si trattava di un'opportunità per pochissimi. Infatti non era un mercato realmente accessibile a tutti ed era possibile entrare in questo business solo se avevi grossi capitali da parte. Praticamente o avevi centinaia di migliaia di euro o milioni di euro oppure questo business lo vedevi solo ed esclusivamente col binocolo. Oggi però grazie alla rivoluzione digitale e ad internet non è più così. Io stesso ho iniziato da zero, affittando su Airbnb e booking case di altre persone e arrivando prima a lasciare il mio lavoro da dipendente, che devo essere onesto non mi piaceva per niente. E poi affari inizialmente 10, poi 20, poi 30 mila euro al mese e oggi le mie aziende di affitti brevi, che gestiscono oltre 100 immobili e hanno veramente affari a 360 gradi nel business degli affitti brevi, fatturano milioni di euro ogni anno. Ma perché ti sto dicendo tutto questo? Non per vantarmi, ma solo per farti capire che letteralmente chiunque può farlo, anche partendo da zero, anche senza un budget iniziale e soprattutto senza esperienza. Però devi essere chiaramente disposto a metterti in gioco. Quando io ho iniziato avevo poche migliaia di euro da parte, zero immobili di proprietà e zero esperienza. Ed oggi eccomi qui. Bene, bando alle ciance, adesso entriamo nel pratico. Ti lascio la prima lezione del corso gratuito e ti ricordo di iscriverti al canale col bottone che trovi qua in basso e di mettere un bel mi piace per supportare la realizzazione di questi contenuti. Buona visione e buono studio. Quest'oggi parliamo dei vantaggi e degli svantaggi del business degli affitti brevi. Perché non nascondiamolo, ovviamente ci sono tantissimi vantaggi. Io ne sono la prova, mi ha cambiato la vita, ha cambiato la vita mia madre, ha cambiato la vita tantissimi studenti B&B Academy che hanno rilasciato testimonianze qui sul nostro canale YouTube, ma chiaramente questo business ha anche degli svantaggi. Non starò qui a dilungarmi in maniera infinita perché poi ci sono tantissimi contenuti qui sul canale, però voglio in maniera molto schematica andare a, come dire, elencare vantaggi e svantaggi. Innanzitutto partiamo dagli svantaggi. Va bene, oggi facciamo il processo inverso. Di norma si parla prima dei vantaggi, oggi si parla prima degli svantaggi. Mi sono segnato qui, dopo un brainstorming con il mio team, chiedendo proprio a loro quali sono secondo voi gli svantaggi, perché io sicuramente posso elencarne alcuni, in qualità ormai di manager, cioè non property manager, ma proprio di manager. Ormai non mi sporco più le mani, passatemi il termine, nell'andare a magari fare il check-in di persona laddove viene richiesto, piuttosto che ormai non parlo quasi neanche più con le imprese di pulizia e quindi ci sta che magari possa dimenticarmi di qualche aspetto negativo. Ecco perché ho chiesto direttamente alle persone che lavorano quotidianamente con me nella gestione degli immobili. Primo svantaggio dunque che abbiamo individuato è letteralmente l'avere a che fare con le persone, cioè in qualsiasi business che tu abbia una pizzeria, che tu abbia un e-commerce, che tu abbia, forse solo nel trading non hai a che fare con persone perché hai a che fare solo ed esclusivamente con un computer, ma per il resto è uno svantaggio comune a qualsiasi altro business del mondo. In che senso avrà a che fare con le persone? Beh devi avere a che fare con gli ospiti, c'è la volta che ti capita l'ospite più simpatico, c'è la volta che ti capita l'ospite più esigente e quindi lo svantaggio è che ti può capitare quello rompiscatole che trova il pelo nell'uovo e trova quella cosa che non va. È uno svantaggio? Sì, ma anche no, nel senso che se lo confrontiamo ad altri lavori comunque va benissimo. Così calcoliamo poi che è un ospite col quale abbiamo a che fare principalmente da remoto, nel senso che da remoto attraverso un'applicazione di messaggistica mi può far notare un qualcosa e io mi rendo conto che questa persona può essere pesante tramite chat, ma si può sorvolare, nel senso forse sono anche un po' forzati questi svantaggi, però insomma questo è. Possiamo anche dire che nella sfera dell'ospite magari maleducato, nell'ospite poco simpatico c'è anche l'ospite che magari può arrecarti qualche piccolo danno. Ospite che ovviamente risponde del suo danno come sfruttando le assicurazioni presenti in piattaforma, come ad esempio AirCover nel caso di Airbnb o tramite Booking attraverso la riscossione di un'eventuale caparra che è stata data. Caparra che si imposta direttamente su Booking, ovviamente lo spieghiamo per filo e per segno all'interno di B&B Academy, però sappiate che su Booking può essere impostata una caparra e quindi se l'ospite fa effettivamente un qualcosa, un danno o che, noi possiamo andare a riscuotere quella caparra e andare a compensare effettivamente il danno che è stato fatto dall'ospite. Un altro svantaggio è quello della stagionalità, ma anche lì lo sanno tutti che in Sardegna o in Sicilia o in determinate parti della Toscana si lavora molto di più a partire da maggio fino ad ottobre rispetto a gennaio ad aprile. È ovvio, non sto raccontando nulla di nuovo. È uno svantaggio? In realtà anche no, perché negli anni abbiamo visto testimonianze di studenti B&B Academy che magari dicevano letteralmente io lavoro sei mesi l'anno, gli altri sei mesi all'anno c'è chi va in vacanza, c'è chi fa questo business in un'altra città, c'è chi si gratta, c'è chi continua ad affittare perché poi in realtà anche in zone fortemente estive si riesce ad affittare anche d'inverno talvolta. Quindi è uno svantaggio, ma neanche così, diciamo, pessimo, se possiamo chiamarli svantaggi pessimi. Perché dico che non è poi un vero e proprio svantaggio? Perché comunque sì, lavori solo d'estate, ma guadagni molto di più. Cioè località estive fatturano talmente tanto in quei mesi lì che ti bastano i soldi non solo per tutta la stagione estiva, ma per anche quella invernale e se sei bravo ti avanzano pure. Quindi è uno svantaggio da certi punti di vista, ma è fisiologico, non riguarda il business degli affetti brevi, riguarda qualsiasi tipo di business legato a determinate zone stagionali e turistiche. Quindi riguarda anche gli hotel, riguarda anche le lavanderie, riguarda anche i ristoranti, riguarda anche i bar, le discoteche, qualsiasi cosa. Insomma, se sei in un luogo stagionale ne risenti chiaramente d'inverno. Ma, ripeto, lavorando bene, con un giusto metodo, si fanno dei guadagni talmente importanti che non ti preoccupi neanche d'inverno. E poi nulla ti vieta, ad esempio in Toscana, è ovvio che a Marina di Cecilia lavori d'estate, nulla ti vieta poi d'inverno di puntare a città come possono essere Pisa o Lucca o Firenze, dove si lavora bene anche nei mesi invernali. E lo stesso vale per qualsiasi regione, perché ragazzi anche in Sicilia a Palermo lavori bene anche ad esempio d'inverno. Perché? Perché è una grande città e ovviamente c'è gente che va a Palermo anche d'inverno, per i motivi più disparati. Svantaggio numero tre, i regolamenti regionali. Ci sono regolamenti che variano al variare della regione, quindi i regolamenti che ci sono nella regione Lazio sono diversi da regolamenti che ci sono nella regione Lombardia. È un gran bel mal di testa se non si ha tutto ben organizzato, ben strutturato e magari un qualcuno che ti spiega anche quali sono le differenze, ad esempio tra foresteria e affittacamere. Però diciamo che se fai parte di una community corretta o hai un corso di formazione non è un problema perché comunque hai tante persone che prima di te sono passate da questo step qui e di conseguenza ti sapranno spiegare tutto per filo e per segno. Oppure se sei appunto dentro il giusto corso di formazione hai un corso che ti spiega tutto quanto per filo e per segno. A tal proposito si vocifera comunque che nel corso del 2024 verranno fatte delle regole omogenee a livello nazionale e tecnicamente quello che vale al nord a quel punto varrà anche al sud, al centro, in qualsiasi regione d'Italia. Tornando un po' al punto 1 poi un ulteriore svantaggio è quello di avere a che fare con esseri umani, tra virgolette, che hanno le sfaccettature più disparate, ma versione proprietario. Cioè hai a che fare non solo con gli esseri umani, ospiti del tuo B&B che vengono e possono lasciarti la casa sporca, possono chiederti l'asciugamano extra eccetera 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 e ricordatevi che noi stiamo comunque facendo ospitalità. Significa essere ospitali e andare incontro a quelle che sono le esigenze, le richieste dei clienti qualora siano sensate e non esagerate. Bene, abbiamo anche a che fare, non dimentichiamocelo, con i proprietari di casa. Nel caso della sublocazione ovviamente questo averci a che fare è molto più ristretto, quindi proprietario di casa in sublocazione lo senti probabilmente una volta ogni 4 anni quando devi rinnovare il contratto, mentre un proprietario in property management lo senti più frequentemente perché magari gli devi anche mandare la fattura a fine mese piuttosto che se fai sostituto di imposta devi mandargli tu il resoconto delle prenotazioni, quindi lo senti in generale per avvisarlo di come sta andando il business, può capitare che se hai un proprietario un po' più esigente magari non una volta al mese ma a metà mese ti chiede come mai questa data è vuota, come mai abbiamo affittato a 149 al posto di 199 e lì devi stare a spiegargli ho affittato a questa cifra perché un software mi ha consigliato di fare questo prezzo, ho affittato a questa cifra perché altrimenti l'immobile sarebbe rimasto vuoto e quindi anche se magari tu stai lavorando benissimo con un tasso di occupazione incredibile e hai dovuto abbassare il prezzo per sole due notti, comunque magari quel proprietario puntiglioso ti verrà a chiedere, gli rispondi, gli dai la tua spiegazione e via, quindi questo lo reputo uno svantaggio perché comunque devi rendere conto a queste persone, però ripeto paragonato a tanti altri lavori che ho fatto o ho visto fare ad esempio a mia madre nel mondo della ristorazione siamo molto fortunati nel mondo dell'affitto breve e dell'ospitalità ve lo posso assicurare siamo molto fortunati perché nella ristorazione devi avere a che fare con ogni, lo vedevo mia madre aveva un ristorante a 70 coperti, 70 pranzo, 70 cena ogni giorno doveva avere a che fare con, diciamo che non era sempre piena, con un centinaio di persone, però devi avere a che fare con una persona che magari ti genera un fatturato di 8 euro perché uno che si prende una pizza, una coca cola ha speso 10 euro a esagerare e lì devi rendere conto ad un qualcuno magari di esigente per 10 euro, fortunatamente nell'affitto breve lato clienti comunque si parla sempre di 100, 200, 300 euro a salire a notte, lato proprietario comunque un proprietario sai che in media in property management ti genera quegli 800, 1000 euro quindi un conto avrà a che fare con uno per una pizza da 10 euro e un conto avrà a che fare con uno per un immobile che sai che ti genera a fine mese quel singolo immobile magari 1000 euro, per non parlare di quelle casistiche dove poi il singolo proprietario possiede più immobili, io ho singoli proprietari che magari mi hanno dato in gestione poi 5, 6, 7 case, abbiamo degli studenti B&B Academy che da un unico proprietario hanno tirato su 10 case, a quel punto diventa un rapporto dove tu sai che parli con una persona ma quella persona ti fa letteralmente guadagnare migliaia e migliaia di euro al mese come property manager. E ultimo svantaggio ma anche qui è uno svantaggio che accomuna tutti quanti business è quello della tassazione che anche qui è uno svantaggio barra vantaggio perché se calcoliamo che molte ipotesi noi possiamo pagare solo la cedolare secca del 21 per cento beh ragazzi è tanta roba perché è un business dove maniera 100 per cento legale abbiamo delle forti agevolazioni fiscali, noi, i proprietari, noi se facciamo subloccazione come persona fisica eccetera eccetera eccetera. E' anche un business dove si può applicare il regime forfettario quindi anche a livello di partita IVA abbiamo delle forti agevolazioni e la cosa bella è che riusciamo anche con un forfettario a metterci in tasca delle cifre nette importanti con poco sforzo e senza dover creare degli imperi. Se io penso a dieci anni fa uno per mettersi in tasca 5.000 euro netti al mese probabilmente doveva avere un'azienda di medie dimensioni, tanti dipendenti, tante responsabilità e anche tanti investimenti da fare up front con questo business invece in property management puoi raggiungere questa cifra ad investimento zero senza possedere case e con una partita IVA forfettaria. Quindi per quanto la tassazione sia uno svantaggio sicuramente dall'altra parte è anche però un vantaggio. Non si sfugge se operate in Italia con immobili in Italia. Chiaramente le tasse le dovete pagare. Chiaro che se andate a Dubai ad esempio allora lì è un discorso diverso. La cosa bella di questo business è quindi dagli svantaggi iniziamo a passare magari ai vantaggi è che è un business che una volta che tu lo impari lo puoi fare ovunque. Come se fai il ciclista cioè se sai fare il ciclista in Italia guadagni di ciclismo in Italia guadagni di ciclismo in qualsiasi parte del mondo se sai fare il personal trainer sei personal trainer in qualsiasi parte del mondo. Non è che il personal trainer in Francia insegna cose diverse rispetto a un personal trainer in Italia. Quindi laddove può essere uno svantaggio la tassazione tipo l'Italia in altri luoghi del mondo invece questo è un business detassato. Una volta che lo imparate comunque potete praticamente esportarlo ovunque. Passiamo adesso ai vantaggi. Quindi abbiamo visto le cose brutte adesso riaddolciamoci con alcuni dei vantaggi che secondo me sono veramente tantissimi. Ripeto poi nei nostri webinar e quant'altro ne parliamo da cima a fondo. E a tal proposito essendo all'incirca metà video ricordatevi di iscrivervi al canale e che al termine del video trovate in descrizione una serie di contenuti gratuiti e bonus che vi aiutano ad entrare ancora di più nel mondo dell'affitto breve. Come un ebook che abbiamo realizzato in maniera completamente gratuita con ulteriori informazioni validissime e la possibilità di fare una consulenza gratuita con il nostro team per capire la vostra situazione se fa il caso vostro questo business e come eventualmente potrete entrare in accademia. Tutto qua in descrizione. Partiamo coi vantaggi quindi? Beh sicuramente il reddito che tu puoi generare. Cioè puoi guadagnare detta proprio la francese un sacco di soldi con questo business. C'è chi ci mette sette mesi, c'è chi ci mette un anno, c'è chi ce ne mette tre. Raggiungere il proprio obiettivo monetario a meno che non sia voglio diventare nuovo Bill Gates. Beh con questo business è assolutamente possibile. Abbiamo veramente intervistato centinaia di casi studio in base all'obiettivo che ti sei prefissato. Ripeto ci può volere un po' di più, un po' di meno ma questo è uno dei pochissimi business al mondo che ti può permettere di raggiungere questi obiettivi economici in maniera scalabile. Perché è appurato che da un immobile di un certo tipo puoi tirare fuori in property management senza investimento in media dagli 800 ai 1000 euro al mese, perché per grazia di Dio viviamo in un luogo dove il turismo è la fada padrone, è il business principale. Quindi si può affermare con quasi assoluta certezza che in una qualsiasi città italiana con un immobile in property management è possibile generare determinate cifre. Grazie a queste cifre poi quindi si può raggiungere l'obiettivo che ci si è prefissati in maniera molto scalabile. Quindi abbiamo basicamente Mario il cui obiettivo è guadagnare 5000 euro al mese. Mario sa che in media dalle 5 alle 7 case gli permetteranno di guadagnare 5000 euro al mese. Se il tuo obiettivo è 3000 euro al mese sai che dovrai prendere dalle 3 alle 5 case e così andando. Non posso fare lo stesso discorso a mio parere con l'e-commerce ad esempio, perché io che ho degli e-commerce in ambito affitto breve è veramente molto variabile e devi spendere soldi in pubblicità e giustamente ci sta che le persone abbiano bisogno di quel determinato bene una volta all'anno, le lenzuola magari le compri una volta all'anno, devi investire in shop, fai tutta una serie di software per automatizzare e non è detto che tu rientri dell'investimento. Quindi non posso fare soldi a comando o stabilire in automatico quanto potrò guadagnare, quanti e-commerce dovrò fare, è sempre tutto un po' un'incognita. Cioè io questo mese non so perché ho triplicato i guadagni con i miei e-commerce ma non ho fatto nulla per triplicarli, magari il prossimo mese diventeranno 5 volte di meno i guadagni. Quindi questo secondo me è uno dei pochissimi business, togliendo i vari holly fans che secondo me sono delle robe assurde, applicabili da pochissimi, dove comunque ti rovini la vita da un certo punto di vista, dove puoi generare reddito alto quasi a comando. Secondo grande vantaggio, flessibilità, ok? Perché letteralmente puoi fare questo business da qualsiasi parte del mondo, chiaramente sai che se automatizzi talvolta ci possono essere dei piccoli intoppi, sai che chiaramente quando arrivi a 15 case magari una risorsa deve iniziare a prenderla, però se 15 case tecnicamente viaggiamo sui 10, 12, 13 mila euro al mese, quindi assumere una persona non dovrebbe essere un problema e quindi è un business molto flessibile che ti dà molta flessibilità a partire dal primo immobile che puoi automatizzare a salire. Abbiamo nel nostro roster, chiamiamolo così, studenti con decine di case tutte automatizzate, io stesso in un modo o nell'altro ho automatizzato tutto il mio portfoglio. Se parliamo di mega ville incredibili dove chiaramente non puoi fare il self check-in, ho una risorsa di fiducia che va a fare il check-in al posto mio. Se parliamo di immobili di fascia media, appartamenti, bei appartamenti, anche appartamenti da un milione di euro, assolutamente si può fare il self check-in e quindi è un business che ti dà assoluta flessibilità e la cosa più bella è che anche gli ospiti vogliono questa flessibilità. Cioè nessun ospite vuole stare lì ad aspettare te alle 5 del mattino per fare il check-out quando magari c'è il volo Ryanair che parte alle 8 del mattino o nessuno vuole doverti garantire un orario di arrivo. Ah sì, arrivo alle 16 e se poi mi voglio fermare a mangiare un panino non posso perché tu che mi stai aspettando. Quindi la stessa flessibilità che ci permette tramite dei dispositivi smart di vivere serenamente è la stessa flessibilità che dall'altra parte vuole l'ospite. Quindi una situazione win-win dove guadagna l'ospite in flessibilità e ne guadagno io in tempo libero che poi è posso investire con la mia famiglia, con i miei cani, per lo sport, per viaggiare in altri business e quant'altro. Un altro vantaggio è il fatto di poter entrare in questo business ad investimento zero come dicevo prima. Quindi posso guadagnare da immobili che non posseggo, non devo investire per gestire questi immobili se non magari nel percorso di formazione o in un determinato software per fare la ricerca di mercato ma in linea generale veramente questo è un business accessibile ad investimento zero. Se io prendo ad oggi il mio portfolio composto da oltre 100 proprietà quelle per i quali dovuto sborsare denaro sono principalmente le sublocazioni che rappresentano comunque una percentuale più piccola del mio portfolio e la maggior parte dei miei guadagni comunque arrivano da property management ad investimento zero. Quindi grandissimo vantaggio. Vado un po' più rapido sui vantaggi perché sono di più per grazia di dio degli svantaggi quindi devo parlare un po' più velocemente. È un business dove puoi iniziare senza competenze perché anche lì non puoi fare e-commerce se non sai fare facebook advertising se non sai un minimo di programmazione se non sai un po' secondo me di commerciale a che prezzo comprare a che prezzo rivendere quindi ad esempio nell'e-commerce devi sapere tantissime cose. Qui puoi iniziare veramente senza competenze perché tutto molto step by step. Se hai una guida da seguire come può essere BNB Academy letteralmente si tratta di compilare campi seguendo ciò che noi ti diciamo e le variabili sono veramente molto poche e inutile dirvi che ovviamente spieghiamo all'interno del corso anche come sfruttare l'intelligenza artificiale per alleggerire il carico. Spieghiamo sia senza intelligenza artificiale perché quando abbiamo lanciato BNB Academy non esisteva sia con intelligenza artificiale quindi comunque è un business sia altamente automatizzabile ma dove anche la parte che non si può automatizzare la si può dare in passo all'intelligenza artificiale o anche se ci devi mettere del tuo è veramente molto 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 semplice. Cioè penso che la cosa più impegnativa che tu possa fare a livello di creatività è scrivere la descrizione di un immobile e anche lì diamo un sacco di linee guida. Cioè alla fine basta prendere la descrizione che ho fatto io per il mio immobile e su quei punti raccontare il tuo immobile e non il mio. Altro grande vantaggio è che non richiede appunto marketing, non richiede pubblicità. Il marketing lo si fa all'interno della piattaforma stessa, Airbnb o Booking che sia e lo si fa semplicemente ancora una volta seguendo una guida che ti è stata data. Non devi pagare pubblicità o cose strane. Gli ospiti arrivano in maniera completamente automatica. Un altro vantaggio dipende dal tipo di persona che siete è quello di conoscere persone da tutto il mondo. Mi ricordo all'inizio facevo i check-in di persona, effettivamente si venivano a creare delle connessioni interessanti, conoscevi questa coppia arrivata dall'India, i signori americani che venivano a visitare l'Italia, il loro sogno nel cassetto. Chiaro che poi quando scali il tuo obiettivo magari è guadagnare di più, viene meno questa esigenza di dover conoscere le persone, anzi diventa quasi un ostacolo, no? Perché è chiaro che se vai a fare il check-in per ogni singolo immobile che hai, non è più il tempo di scalare il business, diventi un portiere d'hotel. Però anche semplicemente via chat o quando ti lasciano la mancia, quando ti lasciano il regalino, quando ti scrivono nella recensione un sacco di ringraziamenti, è molto piacevole, fa bene anche all'anima, non solo al portafogli, ed è un'ottima esperienza di vita secondo me, migliori anche un po' secondo me nella socialità, nell'approccio e capisci che diverse culture hanno diverse sfaccettature. Quindi questo business sicuramente ti apre la testa per essere un po' cittadino del mondo e non semplicemente chiuso nella tua terra con la tua mentalità e capisci, cioè a volte mi meraviglio anche di come arrivino nei BNB più disparati, infognati in dei luoghi incredibili, persone dall'altra parte del mondo. Cioè che ti arrivi uno dal Connecticat in Molise, tu dici ma come caspita c'è arrivato uno dal Connecticat nel Molise? Eppure succede, quindi è sicuramente uno dei grandi vantaggi. Poi qua è un vantaggio fiscale, non voglio essere ridondante parlando sempre solo di soldi, ma ragazzi questo è l'unico business che voi potete fare in maniera 100% legale senza partita IVA. Cioè e-commerce di avere una partita IVA prima ancora di iniziare. Dropshipping stessa cosa, Amazon FBA stessa cosa. Questo è l'unico business che potete fare in maniera 100% legale senza partita IVA. L'abbiamo detto in un altro video, andate a pescarvelo se non l'avete visto, ne abbiamo parlato sul canale poi in realtà centinaia di volte. Questo è un business che si può fare pagando l'acidolore secca, di cui abbiamo parlato anche prima. Perché? Perché si tratta poi di reddito d'allocazione. Chiaro che facendolo in determinati modi con tanti immobili eccetera 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 c'è bisogno di una partita IVA. Ma questo è l'unico business dove sino a 4 immobili in maniera appunto legale potete operare senza partita IVA. Come ovviamente lo spieghiamo all'interno di B&B Academy in ore e ore e ore di lezioni tenute tra l'altro anche dallo studio allievi, studio di commercialisti numero uno in Italia per tutto quello che riguarda il digital business. E quindi questo è un vantaggio non da poco. Infine decidi tu quanto guadagnare. Come dicevo prima, se il tuo obiettivo è 5.000 euro al mese, una volta che hai raggiunto quelle 6-7 case necessarie a fare 5.000 euro al mese, ti fermi, non hai capi, non devi rendere conto di niente a nessuno. Ed infine proprio per questo motivo è super scalabile. Così come tu dici ho raggiunto i 5.000 e voglio fermarmi qui, ci sta che tu dici voglio raggiungere i 7.000 e allora sai che acquisisci altre 2-3 case e hai raggiunto il tuo obiettivo. Non dico che acquisisci con uno schiocco di dita, magari per arrivare a quelle sette case ci metti un anno, però trovatemi un altro business dove da zero a un anno voi riuscite a guadagnare 5-6-7 mila euro al mese. Cioè letteralmente nessuno a meno che non vendiate le foto dei piedi su OnlyFans o similari. Cioè come business legali dove non devi fare cose losche e dove la tua immagine rimane pulita, questo è l'unico business letteralmente. E ve lo dice uno che di business ne ha fatti e ne fa tanti. Bene questo video è durato più di quanto volessi che durasse, quindi spero di non avervi annoiato. Questo è solo una piccola parte secondo me dei grandi vantaggi che ha questo business, mentre gli svantaggi penso di averli elencati letteralmente tutti. Le pulizie ovviamente le fa l'impresa di pulizia, quindi non venitemi a dire ah lo svantaggio di quando ti lasciano la casa sporca. Ci pensa l'impresa di pulizie, pulizie che tra l'altro vengono pagate dall'ospite, quindi non sono neanche un vero e proprio costo per noi. Quindi non lo inserite negli svantaggi per questo motivo. Oggi parliamo di leggende metropolitane, ovvero di tutte quelle diciture, quelle false credenze che costernano questo business, che spesso limitano le persone, magari non entro in questo business perché penso che, o che frenano i proprietari a darci in gestione l'immobile, quindi no, non voglio fare subloccazione perché penso che sia illegale, o che semplicemente riempiono la bocca di tante persone che in realtà non sanno di che cosa stiamo parlando. Quindi questo vuole essere un video barra lezione utile a te che magari vuoi entrare in questo business per farti capire che in realtà molti scogli che tu pensi che ci siano non esistono, o per aiutarti se già sei dentro questo business a, come dire, spargere il verbo corretto e far capire ai tuoi interlocutori che molte delle cose che si dicono sono assolutamente errate. Quindi partiamo dalla prima questione che abbiamo già trattato in altri video, l'ho detto e ridetto e lo ridico per la millesima volta, la subloccazione è legale. Tantissime persone dicono che la subloccazione è illegale, no, la subloccazione è legale. È regolamentata dall'articolo 1594 del codice civile che dice che la subloccazione è 100% legale a patto che venga espressa nel contratto. E a questo punto qualcuno direbbe, eh ma non te la dà nessuno la subloccazione, non è che non te la dà nessuno, devi chiederla, devi contrattare, devi convincere il tuo interlocutore, poi te la dà la subloccazione. Se prendiamo la maggior parte dei contratti che troviamo su Google dicono che la subloccazione è vietata, ok, ma non significa che sia illegale, è una cosa completamente diversa e non significa che i proprietari non l'accettino, perché se sappiamo, ehm, come dire, come convincerli, se abbiamo padronanza di quelle che possono essere le leve, in realtà la subloccazione è possibilissima da ottenere e anzi è molto più frequente di quanto non si pensi. Quindi, prima, leggenda metropolitana, la subloccazione è illegale, errato, è legalissima e, secondo la leggenda metropolitana, la subloccazione è impossibile da ottenere, no, non è impossibile da ottenere, al contrario, è molto più semplice di quanto non si possa pensare. Terza leggenda metropolitana è quella del è mai obbligatoria la partita IVA. In realtà, questo dell'affitto breve è uno dei pochissimi business dove in maniera 100% legale si può operare senza partita IVA. Perché? Perché il reddito che noi andiamo a generare può essere classificato anche come reddito da locazione. E il reddito da locazione, per legge, sino a 4 immobili, è possibile tassarlo come cedolare secca. Poi è ovvio che ci sono mille opzioni, l'abbiamo vista all'interno del canale, non sto qui a ripeterle. È ovvio che se io faccio il consulente di affitti brevi come gestione online da remoto, io sono un consulente, quindi il mio non è un reddito da locazione, il mio è un reddito da consulenza. Però, ad esempio, nella sublocazione si può fare come persona fisica, sino a 4 immobili con cedolare secca pagando solamente il 21% di tasse. Quindi diciamo che è un grande vantaggio, perché se io volessi fare e-commerce è necessario, indispensabile avere una partita IVA prima ancora di pubblicare il mio e-commerce, indipendentemente che fatturerò un centesimo o un milione di euro. Io ho bisogno della partita IVA. Voglio fare anche semplicemente un piccolo bar, un baracchino che vende i panini, io devo avere la partita IVA e oltre a ciò tantissime autorizzazioni dal punto di vista, chiaramente, sanitario, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qualsiasi business, voi prendiate in esame, è obbligatorio avere la partita IVA. Se parliamo di cose legali, poi quelle illegali si possono fare anche senza, ma sono illegali, quindi poco ci interessa. E quindi, a seguito di ciò, la leggenda metropolitana alla quale vogliamo rispondere è che no, non è obbligatoria la partita IVA. Né per voi, in qualità di imprenditori, entrare in questo business, men che meno per i proprietari. A meno che un proprietario non abbia più di 4 immobili dati in gestione ad un property manager, il proprietario può tranquillamente avvalersi della forma non imprenditoriale. A tal proposito, pescatevi i video qua sul canale legati alla differenza tra forma imprenditoriale e non, perché è un mondo molto interessante e essere a conoscenza di queste cose è fondamentale per avere successo in questo business. Passiamo a una delle osservazioni, ad una delle leggende metropolitane che mi vengono fatte più spesso, ovvero ma gli ospiti mi distruggono casa, ma gli ospiti mi fanno le feste? Dipende, non prendiamoci in giro, è impossibile, garantire che una persona non ti faccia un danno in casa, però nella mia esperienza pluriannale posso dirvi che i danni che mi hanno fatto in casa sono un piatto rotto, un bicchiere rotto, un muro leggermente sporco. Ovviamente noi siamo ipertutelati da questo punto di vista. Innanzitutto Airbnb ti offre un'assicurazione sino a 3 milioni di euro. E già qui potremo chiudere questo punto perché è una garanzia incredibile, dove tra l'altro non c'è bisogno del perito di fare la denuncia in polizia. Tu mandi una foto del danno, mandi un preventivo di quanto ti costa la sostituzione o riparazione e Airbnb ti paga immediatamente nel giro di pochi giorni e tu hai risolto il tuo problema. Con Booking c'è la possibilità di impostare delle cauzioni che poi eventualmente possono essere riscosse, chiaramente motivando la richiesta all'assistenza di Booking. Ci sono anche gli ospiti che prima di arrivare al, come dire, al dover richiedere manualmente alle piattaforme il risarcimento del danno, pagano di loro spontanea volontà. Infatti è molto comune che un ospite faccia un danno e ti lasci letteralmente la banconota sul tavolo dicendo ti guarda scusa ho rotto un bicchiere, ecco ti 10 euro. Spesso ti lasciano molto più di quello che è realmente il danno. Quindi da questo punto di vista siamo ipertutelati e qua parliamo di risarcimento danni. Poi anche lì c'è il rischio che facciano feste. Airbnb vieta categoricamente il fatto che vengano fatte feste. Per di più lo capisci anche quando uno ti prenota, se è un nucleo familiare che viene lì a soggiornare o se una persona ti prenota una casa per 20 persone e ti fai due domande. Ma anche lì ad esempio all'interno di Airbnb Academy spieghiamo che ci sono tutta una serie di dispositivi wifi collegati quindi ad internet che hanno una serie di sensori che in base al numero di decibel che vengono prodotti ti avvisano, ti mandano una notifica circa una potenziale festa che si sta svolgendo a casa tua. Chiaro che se tu vedi che per un'ora di fila hai dei decibel altissimi ti rendi conto che probabilmente sta avvenendo una festa nel tuo bimbi o comunque tu puoi mettere delle videocamere nelle aree esterne se vedi passare 20 persone di fila beh probabilmente è stata fatta una festa a casa tua. A me è successo probabilmente una o due volte in tantissimi anni, in tantissime proprietà che ho e anche lì onestamente quando è successo io ne sono uscito vincitore nel senso che siccome sono state violate le regole della casa, siccome magari la casa era un po' più sporca eccetera 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 sono riuscito a farmi dare un risarcimento danni importantissimo dal quale poi io sono riuscito anche a guadagnare ad avere un lucro vero e proprio, un profitto quindi tornando indietro quasi mi farebbe piacere che venissero fatte queste feste dentro casa mia perché alla fine ne è valsa la pena cioè c'è stata appunto una compensazione pecuniaria per queste feste che si sono svolte a casa mia quindi la leggenda metropolitana del mi distruggono casa mi fanno le feste non è reale secondo me cioè non è una cosa così cattiva come te la possono raccontare e se pensiamo poi che possiamo ottenere dei risarcimento danni in realtà ripeto questa cosa diventa talvolta vantaggiosa ora se un proprietario di casa però voi gli dite sì c'è il rischio che comunque ti facciano un danno potrebbe veramente essere molto poco propenso a darvi l'immobile in gestione in property management quello che secondo me è importante spiegare a queste persone è che un inquilino classico quindi uno studente un giovane lavoratore una famiglia ha molte più probabilità di farti un danno perché ve lo spiego subito prendiamo una casa x a roma ok io ludovico che faccio affitto breve con questa casa x a roma se ho un muro sporco devo sistemarlo immediatamente altrimenti l'ospite che domani soggiorna mi dice ludovico ma ha prontato una casa e il muro è sporco quindi io sono molto più propenso e reattivo a sistemare eventuali danni o problemi che ci possono essere mentre uno studente che vive lì 365 giorni l'anno chi se ne frega che c'è la striscia sul muro la tiene lì e il giorno che se ne va appioppa il danno al proprietario piuttosto che si rompe una zanzariera veramente un qualsiasi tipo di danno accidentale o non volontario involontario un inquilino normale sopravvive anche magari un mese con la zanzariera rotta o con l'aria condizionata che non va io invece sono tempestivo nel risolvere questo tipo di danni perché non è un solo un danno diciamo oggettivo sulla casa ma è anche un danno non soggettivo però diciamo che a cascata poi può danneggiarmi ulteriormente con recensioni negative richieste di rimborso da parte degli ospiti lamentere all'assistenza di Airbnb e booking e quindi io anche tu che potenzialmente stai guardando questo video e vuoi fare il property manager o subloccazione devi spiegare al proprietario che in realtà dando in gestione la casa a te sarà molto ma molto meno probabile avere questo tipo di danni perché tu non ti puoi permettere in qualità di professionista di avere la casa non in ottimo stato perché gli ospiti si lamenterebbero lascierebbero recensioni negative chiederebbero il rimborso eccetera 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 quindi il rischio che facciano feste c'è tanto quanto fare un affitto classico il rischio che mi facciano danni è letteralmente minore con l'affitto breve anche perché quando gli ospiti soggiornano nei nostri bimbi ci lasciano i loro documenti e non penso che uno che arriva dall'altra parte del mondo consapevole che io ho i suoi documenti in mano vuole fare danni con il rischio che io gli faccia una denuncia magari questo non lo lasciano neanche partire quindi partiamo da questo presupposto e anche se lo facessero innanzitutto ho fior fior di assicurazioni e caparre sulle quali rivalermi e soprattutto veramente qualsiasi accadimento comunque io sono iper interessato a risolvere questo problema il prima possibile perché gli ospiti successivi potrebbero lamentarsi e generare danni ancora maggiori ecco perché il fatto che dare la casa in airbnb uguale me la distruggono è veramente una grandissima stupidaggine ed è quindi una grandissima leggenda metropolitana cioè nulla di più falso passiamo al prossimo punto questo è particolarmente caro a diciamo determinate determinati schieramenti politici hanno fatto anche proteste su questa tematica ovvero mettendo le case su airbnb le stai togliendo alle famiglie le stai togliendo ai giovani studenti e quant'altro ora tralasciando che io penso che uno dopo che ha speso centinaia di migliaia di euro per comprarsi una casa sia libero di farci quello che vuole perché altrimenti veramente è una dittatura se io compro una casa e tu mi obblighi ad affittarla ad un determinato tipo di persona o di categoria sociale tu mi stai obbligando tipo dittatura a fare un qualcosa che io non ho voglia di fare quindi io penso che ognuno sia libero di affittare la casa come chi a chi e quando vuole quindi uno deve essere libero di metterla in affitto breve ma c'è anche da dire che purtroppo ad oggi in affitto classico una persona non è tutelata cioè se io l'affitto allo studente di bologna e questo non mi paga purtroppo io non posso farci niente se l'affitto allo studente di bologna e questo mi distrugge la casa io purtroppo non posso farci niente cioè è pressoché impossibile recuperare i soldi quindi quello che ho potuto constatare in centinaia di proprietà acquisite e poi anche sentendo chiaramente tutte le persone che fanno parte delle nostre community è che la maggior parte delle case che vengono acquisite sono case che altrimenti sarebbero state vuote cioè non è che l'alternativa per il proprietario era non la do a te in affitto breve allora la do allo studente universitario o la do al poveretto che cerca casa no se non la do a te la tengo vuota tant'è che la maggior parte delle case che io ho preso in gestione sono case di ex morosi quindi proprietari che hanno avuto problemi di monosità con inculini che non pagavano e che l'hanno data poi a me in gestione in affitto breve e che tenevano questa casa magari chiusa da anni ed ecco perché talvolta ai proprietari non gliene frega neanche di quanto si guadagna cioè non è che te la danno questa casa solo ed esclusivamente se si guadagna di più loro te la danno a prescindere perché l'alternativa sarebbe tenerla ferma vuota e incassando zero euro quindi stiamo togliendo case a famiglie studenti o giovani lavoratori assolutamente no e poi anche lì l'ho detto più volte nei miei video chi mi segue lo sa se non trovi casa in centro a milano va in periferia cioè io tutta la mia vita ho vissuto quando vivevo in italia in una zona periferica della città a parte che non si vive è meglio ma tralasciando ciò cioè la crisi degli studenti che non trovano casa a milano se non trovi casa a milano prenditi una casa a monza prenditi una casa a rozzano prenditi una casa a sago bucinasco corsico ti prendi mezzi e vai all'università senza troppi problemi è chiaro che se vado nel centro di una qualsiasi città è più difficile trovare casa al di là di affitti brevi o no perché se vogliamo dirla tutta a coloro che dicono e qui entriamo in un'altra leggenda metropolitana che non avevo previsto di trattare ma possiamo farlo ad esempio mi sembra a madrido barcellona poi magari troviamo l'articolo e ve lo mettiamo qua è stato fatto uno studio dove si additava all'affitto breve la colpa diciamo la motivazione per la quale le persone non trovavano casa a madrido barcellona non ricordo era appunto il fatto che c'era l'affitto breve in questa città ripeto non ricordo quale comunque hanno bloccato l'affitto breve per cinque anni dieci anni e nonostante ciò le case non si trovano nonostante ciò i prezzi sono saliti perché poi non è solo questione di disponibilità ma dicono anche che gli affitti sono saliti a causa dell'affitto breve no questo è un grandissimo caso studio dove nonostante gli affitti brevi in questa città siano stati bloccati la situazione non è cambiata ma anzi è peggiorata quindi ancora una volta se qualcuno vi pone di fronte a questo tipo di osservazione fatevi notare che è un'affermazione completamente errata i prezzi aumentano a causa dell'inflazione dell'aumento di milioni di altre cose la benzina i tassi di interesse eccetera 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 e tutto segue un trend chiaramente di aumento generalizzato dei costi che poi è la famosa inflazione passiamo alla leggenda metropolitana successiva una delle mie preferite perché perché la gente non capisce che la maggior parte di giornalisti e giornali in realtà sono dei business e il loro business è catturare la vostra attenzione e il loro business è creare commenti scaturire talvolta anche odio al fine di avere chiaramente più interazioni più interazioni significa più soldi e spesso se leggiamo gli articoli di giornale sembra che l'italia stia vietando gli affitti brevi no non è così sono stati regolamentati gli affitti brevi quindi tutti quelli che annunciavano la fine degli affitti brevi e quant'altro non hanno capito assolutamente nulla semplicemente sono state messe delle regole laddove non c'erano o è stata fatta chiarezza laddove la chiarezza non c'era che cosa significa significa che tantissimi host si trovavano in difficoltà perché magari in lombardia dovevi fare il cir e in sardegna dovevi fare lo iun il cir e lo iun sono la stessa cosa è un codice identificativo regionale che ti permette di dimostrare che la tua proprietà è stata censita cioè è stata regolamentata in regione però se in lombardia ho il cir e in sardegna ho lo iun e in lombardia lo devo chiedere andando su un sito in sardegna in un altro ancora e moltiplicate questo per il numero di regioni italiane c'è una frammentazione incredibile cioè significa che praticamente non in regione italiana ho un procedimento diverso ho un nome diverso ho un sito diverso nel quale andare e quindi ad esempio con queste regolamentazioni è stato dato un unico percorso da seguire il codice si chiama cin codice identificativo nazionale è lo stesso in tutte le regioni d'italia e la metodologia per chiederlo è la stessa in tutte le regioni d'italia quindi ad esempio questa regolamentazione per me è stata una manna dal cielo tant'è che ho fatto dei contenuti dove dicevo che per me era un grande vantaggio è sempre a proposito di regolamentazioni che non hanno assolutamente ucciso il business degli affetti brevi ma anzi secondo me ci hanno fatto un grosso favore un'altra genialata che è stata fatta è stata quella di rendere obbligatori tutta una serie di adempimenti procedimenti e codici come quello citato poc'anzi e rendendo gli obbligatori tutti gli abusivi ovvero quelli che affittavano lo scantinato quelli che affittavano il garage quelli che affittavano l'ufficio quelli che affittavano in nero senza pagare le tasse sono stati praticamente esclusi quindi un qualcosa che può suonare come negativo ai più ovvero a coloro che non sono professionisti che non hanno studiato che non sanno come fare questo business in realtà è stata una manna dal cielo perché questo tipo di obbligo questo tipo di leggi questo tipo di regolamentazione non sta facendo nient'altro che migliorare il settore perché appunto tutti gli abusivi i poco professionali i poco professionisti eccetera stanno abbandonando il mercato o perché non è più conveniente o perché è diventato insostenibile per loro essendo abusivi stare nel mercato proprio perché le piattaforme li stanno rimuovendo e quindi in realtà vedete è una vera e propria leggenda metropolitana il business degli affetti brevi non è morto ma anzi è migliorato perché c'è molta meno concorrenza rispetto a prima chi è rimasto è rimasto chi sa fare le cose in regola chi sa fare le cose in regola pochissimi e di norma chi sa fare le cose in regola è un qualcuno che o è nel mercato da dieci anni e a furia di sbagliare ha capito come si fa il tutto oppure ha studiato ad esempio presso bm academy e uno potrebbe dire ludovico ma quanti sono gli studenti bm academy circa 4000 wow sono tantissimi è sicuramente un ottimo risultato che abbiamo ricevuto che abbiamo raggiunto a livello di accademia se poi calcoliamo che i milionari in italia sono oltre 100.000 cioè capite che i potenziali immobili da gestire sono milioni ok solo i milionari sono oltre 110.000 in tutta italia e lo dice un articolo di giornale molto interessante gli immobili sfitti in italia sono milioni quindi capite che 4000 property manager certificati bm academy tra l'altro sparsi per il mondo non solo in italia non bastano assolutamente a gestire tutti gli immobili che ci sono là fuori in realtà c'è carenza di property manager se si ha la giusta formazione acquisire immobili non è un problema e oggi c'è un'opportunità più grande di quanto non ci fosse magari nel 2019 nel 2020 nel 2021 quando la regolamentazione era meno stringente e quindi no l'italia non sta vietando gli affitti brevi e in realtà questo business non sta morendo ma sta vivendo secondo me un periodo di forte crescita e poi anche i dati trimestrali di airbnb lo certificano record su record continuano aumentare il fatturato continuano aumentare le notti prenotate continuano ad aumentare i clienti di airbnb quindi in realtà è una grandissima bagianata ultimi due punti uno in realtà l'abbiamo già trattato ed è relativo alle tasse la gente dice le tasse sono altissime come detto all'inizio quindi non mi dilungo la tassazione qua in realtà è iper agevolata sia in forma non imprenditoriale perché si può pagare la cedolare secca che parte da un 21 per cento in determinate casistiche può arrivare al 26 per cento mentre se andiamo a vedere gli scaglioni il peff raggiungono il 45 per cento quindi potenzialmente qua paghiamo meno della metà di quanto di norma non si dovrebbe pagare di tasse se poi consideriamo anche la possibilità di usufrire con estrema facilità del regime agevolato forfettario beh allora lì si parla addirittura di pagare un 5 per cento di tasse nella migliore delle ipotesi su neanche il 100 per cento del fatturato quindi in realtà un business non solo dove fatturare cifre importanti è molto semplice soprattutto se paragonato ad altri ad altri business ma abbiamo addirittura la possibilità di pagare anche molte meno tasse rispetto al solito talvolta anche senza partita iva e ultimissimo punto è gestirli un lavoro ma è difficilissimo ma perché non dici che bisogna fare questo ma perché non dici che in realtà è difficilissimo ma in realtà non è difficilissimo partiamo da un presupposto la maggior parte delle persone che dicono che questo lavoro è pesante è difficile non fanno parte della nostra community e non hanno mai studiato quindi ci sta che uno che giustamente non sa che pesci prendere pubblica la casa su airbnb non ha formazione non ha esperienza e ciò si tramuta in non ottengo prenotazioni o ne ottengo molto molte poche mi devo pulire la casa in completa autonomia non ci capisco nulla di quello che bisogna fare non ci capisco nulla a livello di normative è chiaro che è come se io domani mi metto a fare il meccanico non ci capisco nulla posso dire che cambiare una gomma è la cosa più difficile del mondo per uno che ha studiato invece la cosa più semplice del mondo quindi quando vi dicono che è difficilissimo complicatissimo che c'è da impazzire perché questa gente non ha studiato e non ha idea di come si faccia questo lavoro ve lo posso assicurare al contrario se hai studiato sai come automatizzare tutta una serie di processi sai come guadagnare a sufficienza tale per cui le pulizie le deleghi le fa qualcun altro e sai fare questo lavoro in un certo modo in realtà è il lavoro secondo me più bello del mondo perché ti permette di guadagnare tanto e avere tanto tempo libero non significa che non devi fare niente non significa che ti gratti dalla mattina alla sera non significa che vivi in vacanza ma comunque ti permette sì di fare molte più vacanze rispetto al solito di determinati giorni anche addirittura non lavorare di poter gestire la quasi totalità delle cose dal tuo telefono da remoto in qualsiasi parte del mondo tu sia e volendo anche di delegare questo queste poche operazioni che rimangono a delle persone che puoi trovare all'interno della nostra community in giro eccetera 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 quindi gestirli è un lavoro quindi voglio smentire la leggenda metropolitana che è gestire i mobili è una cosa estenuante gestire i mobili è un lavoro ma non è come lavorare in ufficio non è come lavorare in fabbrica non è come andare a zappare la terra sei molto più libero guadagni molto di più e molta più flessibilità non hai le barriere all'ingresso che magari puoi avere nell'aprire un ristorante piuttosto che nel nella nella nell'avere un bar nell'avere un'attività gli orari sono molto più ridotti guadagni sono maggiori la tassazione agevolata e ripeto soprattutto la maggior parte delle operazioni sono automatizzabili quindi smentiamo questa leggenda metropolitana fatta da principalmente persone che hanno paura di avere nuovi competitor e quindi chiaramente vogliono spaventare le persone perché hanno paura di ritrovarsi con maggiore competizione e smentiamo una volta per tutte che questo lavoro difficilissimo perché chi dice che è un lavoro difficilissimo è chi non l'ha mai fatto in un determinato modo quindi vi assicuro che non è un lavoro così pesante anche perché altrimenti tutte le persone che vengono a fare testimonianze mettendoci nome cognome faccia e link ai loro portfolli di airbnb quindi sono persone che effettivamente dimostrano al 100 per cento che quello che stanno testimoniando è reale sarebbero degli stupidi a dire ah sì io lavoro sei mesi all'anno gli altri sei mesi sto in vacanza o a dire oggi finalmente posso passare del tempo con mia figlia insomma che motivo avrebbero di dire falsità mettendoci nome cognome faccia sarebbero degli stupidi quindi piuttosto non fidatevi di chi vi dipinge questo business come un business in realtà non positivo perché in realtà è un business positivo oggi parliamo come avrete potuto intuire dal titolo della terminologia spesso mi capita di dare magari per scontato quando parlo così in maniera superficiale qui sul canale youtube di determinate terminologie ovviamente all'interno del corso abbiamo ore di lezioni su ogni singolo termine cosa significa cosa non significa ho deciso di riassumere qua in questo video in maniera abbastanza rapida per non farlo durare una vita i termini più comuni che trovate nel mondo degli affitti brevi sia che siate già dentro questo business sia che vogliate approcciarlo da zero e partiamo dal primo termine forse il più importante in assoluto ovvero host host in inglese è colui che ospita quindi chiunque possegga un profilo su airbnb chiunque abbia una struttura ricettiva chiunque faccia un business dove c'è una persona che viene a dormire nel nostro immobile quindi chiunque che tu abbia una casa che tu ne abbia cento è un host e questa terminologia viene utilizzata poi anche dal punto di vista tecnico con piattaforme come airbnb che identificano appunto la persona che offre il servizio come host e la persona che soggiorna come guest quindi la seconda parola ovviamente guest che sta manco a spiegarlo ovviamente per ospite quindi guest è chiunque soggiorni nel nostro immobile viene una persona abbiamo un guest ovvero un ospite vengono cinque persone abbiamo cinque guest ovviamente ci sono anche delle differenziazioni c'è il titolare della prenotazione e ci sono gli ospiti io posso aver prenotato ed essere titolare di una prenotazione ma poi i guest potrebbero essere mia madre mia cugina ad esempio così come in realtà l'host è colui che appunto gestisce l'immobile ma poi il titolare della struttura ricettiva potrebbe essere un'altra persona se ad esempio io ludovico gestisco l'immobile di francesco francesco è il proprietario di casa è il titolare della struttura ricettiva ma io ludovico essendo il gestore sono l'host quindi è bene differenziare anche un attimo queste due voci successivamente abbiamo il co host che non è nient'altro che un host aggiuntivo ci sta che quando una persona ha bisogno di una mano si avvalga di collaboratori amici la fidanzata il fidanzato il marito la moglie il figlio insomma si vuole far aiutare da qualcuno bene quel qualcuno al di là del tipo di relazione che intercorre tra le due persone dal punto di vista tecnico è un co host quindi è un host secondario che ci aiuta nello svolgimento di qualsiasi tipo di mansione può essere che ci aiuti con la parte online può essere che ci aiuti con la parte offline può essere che non ci aiuti assolutamente nulla e io abbia inserito questa persona al solo fine di formarla di fargli capire come funziona questo business che ad esempio è una cosa che noi facciamo all'interno di bnb academy mettiamo come cost dei nostri studenti al fine di fargli capire come funziona questo business e anche magari al fine di poter mostrare ad un proprietario che già gestisce delle strutture ha già dei risultati e così riesce a convincerlo più facilmente a farsi dare in gestione il proprio immobile e qui abbiamo visto che cos'è il co host spesso capita anche che il proprietario di casa venga inserito come host o come co host al fine di fargli vedere l'andamento del business quindi può essere che io sia host principale il proprietario di casa sia co host o viceversa anche perché poi alla fine i privilegi sono praticamente medesimi ovvero io da cost o da host bene o male posso fare le stesse cose posso inviare messaggi posso rispondere alle richieste di prenotazione posso cancellare delle prenotazioni eccetera 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 parlando sempre di prenotazioni arriviamo poi al check in che è la fase in cui l'ospite prende possesso delle chiavi dell'immobile e presumibilmente entra anche nell'immobile quindi quello è il check in anche in albergo quando si arriva si fa il check in ovvero diamo i nostri documenti e l'albergatore la reception ci dà le nostre chiavi e quello è il momento del check in ovviamente poi esistono delle declinazioni del check in infatti abbiamo il late check in ovvero un check in tardivo mettiamo caso che noi consegniamo le chiavi di persona e scriviamo su airbnb che noi le chiavi le consegniamo sino alle ore 20 se una persona ci chiede di consegnare le chiavi alle ore 21 quello è un late check in che ad esempio molti host richiedono come extra quindi ok dopo le 20 si tratta di late check in e voglio 30 euro per questo quindi in questo caso abbiamo un check in tardivo ovvero un late check in oppure abbiamo il self check in che come dice la parola stessa presuppone che ci sia un servizio self service quindi in completa autonomia io posso svolgere il check in e quindi posso arrivare alle sei di pomeriggio o alle quattro del mattino a me host non cambia assolutamente niente perché tanto il check in è automatizzato ed essendo il check in automatizzato chiaramente io non devo preoccuparmi di a che ora arriva l'ospite o di essere lì a consegnare le chiavi quindi abbiamo visto il check in il late check in e il self check in esiste poi seppur in come dire una probabilità minore l'early check in ovvero un check in anticipato quindi se di norma i miei ospiti possono entrare nel mio bnb alle 3 di pomeriggio capita che qualcuno ti chieda un early check in quindi un check in anticipato puoi rifiutare non sei obbligato a farlo in che casistiche di norma si accetta se magari l'immobile era già libero perché la notte prima l'immobile è stato vuoto o se l'impresa di pulizia ha già finito di pulire in quel caso la casa è vuota a quel punto io ti concedo volentieri un early check in cosa che spesso viene molto apprezzata e questo poi chiaramente si converte in una review positiva che cos'è una review è quello che comunemente è chiamato anche recensione ovvero una valutazione che l'ospite rilascia a me host sul come è stato il soggiorno la comunicazione eccetera 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 su airbnb le valutazioni vanno da 1 a 5 stelle quindi si parla di stelle si parla comunque di un valore numerico che va da 1 a 5 su booking invece si parla di valutazioni numeriche che vanno da 1 a 10 diciamo che su airbnb l'unica valutazione positiva secondo me è il 5 stelle 4 stelle accettabile 3 2 o 1 è una valutazione pessima mentre su booking secondo me diciamo la valutazione positiva parte dall'8 in su quindi 8 9 10 sono valutazioni positive 7 è sufficiente dal 6 compreso in giù sono valutazioni secondo me negative ovviamente dentro il nostro percorso di formazione bmb academy del quale trovate maggiori informazioni qua in descrizione vi spieghiamo come gestire le recensioni e talvolta anche come rimuovere queste recensioni se sono negative e potenzialmente dannose oltre a questo airbnb è l'unica piattaforma che permette anche di valutare noi l'ospite quindi di norma uno si immagina che solo l'ospite che recensisce la struttura no in questo caso può anche essere la struttura o l'host che recensisce l'ospite così che se un ospite ha recato dei danni altri host in futuro saranno ben consapevoli del potenziale rischio dell'ospitare questa persona e di conseguenza possiamo anche decidere di non ospitare ospiti che abbiano recensioni negative quindi airbnb è l'unica piattaforma che permette di recensire anche l'ospite come quando noi andiamo al ristorante diciamo il ristorante è stato molto buono come se il ristorante potesse dire invece il commensale non si è comportato bene quindi è una cosa che secondo me gioca molto a favore di airbnb tornando poi al momento in cui l'ospite entra nel nostro immobile al termine del soggiorno abbiamo il check out che non è nient'altro che la fuoriuscita dell'ospite da parte dell'immobile in maniera definitiva e la riconsegna delle chiavi che può avvenire ovviamente di persona o anche qui sfruttando i vari dispositivi automatizzati come master lock o serrature smart di cui parleremo in un altro video quindi iscriviti al canale per non questi altri video importantissimi il check out può avvenire agli orari concordati di solito entro le 10 11 del mattino o può esserci concordandolo con l'host un late check out ovvero un check out tardivo che anche qui di norma è su richiesta si può chiedere un sovrapprezzo e si può concedere in base a determinate condizioni se ad esempio io so che poi domani l'immobile è vuoto e quindi l'impresa di pulizia può venire anche l'indomani offro un late check out gratuito o a pagamento se so che l'impresa di pulizia verrà pulire la casa più tardi perché è in ritardo bene posso offrire un late check out insomma ci sono varie eventualità tali per cui io posso decidere di offrire un late check out gratuito o a pagamento passiamo adesso per variare un po a un termine molto specifico e molto tecnico channel manager channel manager non è nient'altro che un software che permette di sincronizzare le date di uno immobile su più piattaforme cosa significa se io prendo una casa in piazza del duomo a milano e la pubblico su airbnb e la pubblico su booking ovviamente questa casa è prenotabile al massimo una volta al giorno cioè io non posso per il 31 dicembre avere più prenotazioni perché la casa è una e gli ospiti sarebbero molteplici quindi che cosa faccio io pubblico la casa su più piattaforme ma mi devo assicurare che se uno prenota un determinato giorno ad esempio il 31 dicembre poi questa data venga chiusa su tutte le altre piattaforme su cui sono online ed ecco che qui entra in gioco il channel manager quindi un software che si occupa di chiudere le date se prenoto su booking mi chiude quelle date su airbnb se prenoto su airbnb mi chiude quelle date su booking oltre a ciò negli ultimi anni channel manager si sono comunque evoluti e hanno iniziato ad offrire tutta una serie di funzionalità extra per automatizzare magari determinati messaggi per aiutare l'host nella fase di check in o di check out e chi più ne ha più ne metta dentro bmb academy parliamo di tutti i migliori channel manager da utilizzare per questo business che sono tantissimi ognuno con i propri pro e i propri contro adesso parliamo di un inglesismo che spesso viene utilizzato ed è soluzione win win molti erroneamente la chiamano win to win no è win 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 in inglese significa vittoria una soluzione win win è quando entrambi gli interlocutori si sono portati a casa una situazione vantaggiosa se ad esempio io vado ad un concessionario d'auto e come dire negozio il prezzo e io riesco ad ottenere uno sconto di duemila euro io sicuramente sono in una situazione win e suppongo anche il concessionario è contento perché ha venduto un'auto e quindi è una situazione win win se invece io compro un'auto e il concessionario mi dà una fregatura non è una soluzione win win perché magari ha vinto lui che mi ha venduto l'auto ma io non ho vinto un bel niente perché mi sono preso una fregatura questa non è una situazione win win in ambito affitto breve di norma utilizziamo questa terminologia non tanto nella fase di rapporto con l'ospite quindi non tanto quando ospitiamo ma più quando andiamo a cercare di acquisire degli immobili quindi se io riesco ad ottenere un accordo tale per cui io ho fatto un buon affare e anche il proprietario di casa ha fatto un buon affare quella è una soluzione win win ed è importante secondo me essere consapevoli che la negoziazione non deve essere un io vinco e tu perdi ma deve essere invece un incontro tra due parti che devono essere entrambe soddisfatte anche perché se il proprietario è soddisfatto dell'accordo che ha ottenuto con voi che questo sia in sublocazione o che questo sia in property management sarà ben contento di continuare a fare affari con voi magari vi proporrà altre case magari non disdirrà mai il contratto mentre se invece fregate il proprietario di casa e per assurdo se ne rende conto dopo sei mesi lui non vedrà l'ora di disdire quel contratto e sicuramente vi farà una pessima pubblicità quindi è importante creare delle soluzioni win win tra voi e proprietari di casa torniamo a parlare per un attimo invece di prenotazioni e parliamo dei termini di cancellazione ovviamente quando un qualcuno prenota ha la facoltà di cancellare la sua prenotazione ma attenzione perché siamo noi a scegliere con che termini quella persona potrà cancellare non lo scegliamo dopo che lui invia la richiesta ma lo scegliamo prima ovvero in fase di realizzazione dell'annuncio possiamo scegliere dei termini di cancellazione che ovviamente sono modificabili andando in avanti col tempo non è che se scegliete dei termini di cancellazione flessibili questi rimarranno flessibili per il resto della vita avete la facoltà di modificarli ogni qual volta volete chiaramente prima di ottenere una prenotazione se uno ha prenotato con dei termini di cancellazione flessibili anche se io li modifico quella prenotazione rimarrà con termini di cancellazione flessibili le piattaforme hanno vari termini di cancellazioni Airbnb di un tipo Booking ne ha di un altro in generale comunque esistono quelle flessibili rigide semi rigide e la differenza è semplicemente che ad esempio tu puoi cancellare fino ad una settimana prima di arrivare puoi cancellare sino al giorno prima di arrivare e sei tu a scegliere appunto i termini di cancellazione chiaramente più sono rigidi i termini di cancellazione più un potenziale ospite potrebbe avere diciamo ripensamenti sul prenotare il tuo immobile più sono flessibili e più sarà probabile che tu otterrai prenotazioni il mio consiglio è quello di se lavori in una grande città dove c'è un continuo via vai di persone di avere dei termini di cancellazione più flessibili se invece lavori con immobili magari in località fortemente turistiche stagionali come può essere un immobile in spiaggia in sardegna o in sicilia o in toscana imposta dei termini di cancellazione più rigidi perché ovviamente ci sta che se uno cancella due giorni prima di arrivare dove lo trovi uno che ti prenota tutto agosto in soli due giorni quindi ovviamente bisogna fare dei ragionamenti diversi in base alla tipologia di immobile dentro Airbnb Academy inutile dirvi che analizziamo per filo e per segno le migliori strategie a livello di termini di cancellazione e tanto altro ancora passiamo adesso ad una terminologia che è stata coniata da Airbnb ed è esclusiva di questa piattaforma ed è la parola superhost non è nient'altro che appunto un riconoscimento che da Airbnb solo ed esclusivamente ai membri che si sono contraddistinti all'interno della propria community lo status di superhost viene rilasciato ogni quattro mesi e per essere superhost devi avere appunto una serie di requisiti non devi aver cancellato tante prenotazioni negli ultimi quattro mesi devi aver ottenuto una media di recensioni superiore a 4.8 su 5 non devi avere praticamente la fedina penale sporca all'interno di Airbnb e aver ottenuto almeno 10 prenotazioni o notti prenotate e devi comunque avere anche un buon quantitativo di prenotazioni ottenute negli ultimi quattro mesi se soddisfi tutti i requisiti che per comodità ti lascio qua in sovraimpressione avrai lo status di superhost se sarai superhost per un anno consecutivo Airbnb ti regalerà anche un buono sconto da 100 euro che potrai utilizzare sulla piattaforma per prenotare le tue vacanze questo per ogni anno di fila che rimani superhost ci sono host all'interno di Airbnb Academy che puntualmente ogni anno si fanno 100 euro di buono sconto direttamente su Airbnb che poi utilizzano appunto per le proprie vacanze essere superhost ovviamente è un diciamo un riconoscimento che ti aiuta ad ottenere più prenotazioni puoi alzare magari un po i prezzi e hai ovviamente anche assistenza prioritaria ma se per caso non siete riusciti ad ottenere lo status di superhost o siete dentro questo business da molto poco tempo non preoccupatevi perché si riesce a lavorare benissimo anche senza questo riconoscimento infatti devo essere onesto con voi quando si hanno tantissime proprietà in gestione riuscire a mantenere su ad esempio oltre 100 proprietà una media di 4.8 è veramente difficile basta una recensione negativa la media si abbassa magari a 4.7 e capite bene che diventa praticamente impossibile mantenere lo status di superhost quando si hanno tante 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 case quindi ad esempio io e tanti host di Airbnb Academy che posseggono dei portfogli importantissimi a livello di proprietà non hanno lo status di superhost eppure riusciamo a fatturare cifre molto molto importanti quindi capite che è un riconoscimento utile ma non indispensabile andando avanti troviamo le cleaning fee comunemente chiamate anche spese di pulizia che non sono nient'altro che l'importo che l'ospite paga quando soggiorna nella nostra struttura a titolo di rimborso spese per le pulizie ebbene sì non è quanto noi paghiamo all'impresa di pulizia ma quanto l'ospite paga noi perché queste due voci possono differire ovvero l'ospite può pagare 50 euro come costo di pulizia e poi magari le pulizie me le faccio da me e quindi in realtà quei 50 euro sono guadagno o semplicemente l'ospite può pagare 50 euro di pulizie e io in realtà ne spendo 35 o ancora ho una società di affitti brevi le imprese di pulizie non le utilizzo perché io ho assunto direttamente delle persone per fare le pulizie quindi io pago sparo a caso 1000 euro al mese ma prendo 50 euro da ogni prenotazione e alla fine arrivo a lucrare anche sulle pulizie quindi può essere che semplicemente vado a pareggio quello che spendo per le pulizie lo recupero pagato dall'ospite oppure posso addirittura andare a guadagnare grazie alle spese di pulizia in generale la maggior parte degli host comunque va semplicemente a pareggio e quindi sono molto contento di spiegarvi che in realtà le pulizie non sono un vero e proprio costo all'interno di questo business invece poi c'è anche chi soprattutto chi è più strutturato ci va a guadagnare sulle spese di pulizia spese di pulizia che tra l'altro se opportunamente fatturate sono uno dei pochissimi costi che si possono detrarre anche come persona fisica senza avere la partita iva ciò significa che il proprietario può non pagare le tasse su tutto quello che ha speso a livello di pulizie se queste pulizie sono state opportunamente fatturate andando avanti troviamo la dicitura prezzi smart che anche questa è una tecnologia diciamo creata da airbnb e che esiste solo sulla propria piattaforma io sconsiglio di utilizzarli ma per conoscenza è importante sapere che cosa sono i prezzi smart sono appunto dei prezzi che vengono impostati automaticamente dall'algoritmo di airbnb e una volta impostato un range ad esempio voi dite voglio minimo 80 euro e massimo 200 euro airbnb abbassa e alza questi prezzi in completa autonomia il problema è che airbnb e il suo algoritmo non sanno come è composto il nostro immobile cioè magari non sanno che abbiamo un affresco sul tetto o non sanno che abbiamo una vista meravigliosa o quest'algoritmo non si rende conto che abbiamo magari una vasca idromassaggio e quindi non tiene conto di tantissimi fattori che secondo me sono fondamentali invece per livellare il prezzo quindi è importante che voi sappiate cosa sono i prezzi smart ma io personalmente sconsiglio di utilizzarli il terzo ultimo termine che andremo ad analizzare quest'oggi è air cover chiamata in passato anche garanzia host questa come potrete immaginare è un'assicurazione che airbnb dà gratuitamente a tutti i propri host e guest e ciò permette qualora ci sia un danno accidentale o un problema con un ospite di usufruire di questa garanzia appunto che copre sino a 3 milioni di euro sia come danni accidentali sia come responsabilità civile ciò significa che se ad esempio un ospite mi rompe il televisore e decide di non pagare ci penserà airbnb il bello di questa garanzia di questa assicurazione che non c'è bisogno di chiamare un perito ma basta mandare una foto del danno e un preventivo per la riparazione o la sostituzione del bene e airbnb nel giro di qualche giorno ci accrediterà l'importo direttamente sul nostro conto questa è un'esclusiva di airbnb booking non ha questo genere di assicurazione ma semplicemente un'assicurazione sulla responsabilità civile ma all'interno di bmb academy vi spieghiamo come tutelarvi al 100 per cento anche dagli ospiti di booking.com il penultimo termine è la tassa di soggiorno come potrete capire una tassa che alcuni comuni impongono per ogni ospite che soggiorna quindi ad esempio in alcune città sono 3 euro a persona per ogni notte in cui soggiorna l'ospite nella nostra struttura ricettiva ma tanti comuni soprattutto i più piccoli non hanno la tassa di soggiorno mio consiglio è di informarvi nel vostro comune per sapere se c'è da riscuotere questa tassa di soggiorno nel peggiore dei casi dovrete riscuoterla e pagarla poi ogni fine mese ogni trimestre in base alle regole del vostro comune per appunto ogni ospite che ha soggiornato nella vostra struttura in alcune città come ad esempio a milano e roma e airbnb che riscuote direttamente questa tassa di soggiorno al posto vostro e la versa direttamente al comune quindi è letteralmente una come dire un importo che noi vediamo nelle prenotazioni ma che non riceviamo quindi non dobbiamo riscuoterlo e non dobbiamo di conseguenza neanche elargirlo o pagarlo infine l'ultimo termine è cin barra cir perché cir sta per codice identificativo regionale ed era il termine che in passato veniva utilizzato per identificare questo codice univoco che va richiesto quando si pubblica una struttura sulle piattaforme come airbnb e booking da qualche tempo si chiama invece cin ovvero codice identificativo nazionale e anche qui il funzionamento è il medesimo si tratta di un codice che va richiesto alle autorità preposte al fine di identificare il nostro immobile di dimostrare che abbiamo ottenuto tutte le relative autorizzazioni per pubblicare i nostri immobili online ed è quindi una sorta di sigillo di garanzia è come andare da un estetista e chiedergli il numero di partita iva se ha il numero di partita iva tecnicamente è un'attività dichiarata se non ha il numero di partita iva probabilmente sta svolgendo questa attività in maniera abusiva e come la licenza per il tassista insomma è un codice che da tranquillità a chi soggiorna nel nostro immobile e dimostra alle autorità preposte che abbiamo fatto tutto quanto in regola quest'oggi parleremo di stagionalità una parola che per tanti può significare può sembrare uno svantaggio in realtà è un grandissimo vantaggio e capiremo perché in questo video stagionalità è quando un determinato immobile in questo caso comunque quando una località è soggetta appunto a dei flussi turistici basati appunto sul tipo di stagione in cui ci troviamo va da sé che in liguria o nella costa amalfitana nella costiera amalfitana si lavori di più l'estate rispetto all'inverno perché perché sono località la cui stagionalità forte la cui alta stagione scusatemi l'impappinamento è ovviamente d'estate ma non significa che d'inverno queste località sono vuote e già qui entriamo in un tema molto importante perché tanti pensano che ad esempio in sardegna in sicilia eccetera si lavora solo d'estate sbagliatissimo ma ne parleremo più avanti nel video quindi per riassumere stagionalità è quando in una località si lavora per lo più maggiormente in determinati periodi dell'anno è ovvio che città come roma milano firenze venezia sono meno soggette a stagionalità io le reputo più evergreen località sempre verdi quindi località dove tu ottieni prenotazioni bene o male alla stessa fascia di prezzo 365 giorni l'anno poi ovvio che se a roma c'è il papa per una ricorrenza particolare quella settimana i prezzi aumenteranno molto quindi c'è comunque un'alta stagione oppure ovvio che a milano con la design week i prezzi aumentano e quindi c'è una stagionalità più alta anche lì però bene o male i prezzi li fai durante tutto l'anno uguali sono quelli mentre ovvio che in sardegna per fare sempre un esempio d'estate chiedi molto più denaro però tante persone addirittura in questi luoghi soggetti a stagionalità chiudono proprio le case magari d'inverno in autunno o in primavera quando io sconsiglio di fare ciò proprio perché la massa la maggior parte delle persone bloccano le strutture quei pochi che le tengono aperte riescono comunque ad intercettare un tipo di turismo in bassa stagione che esiste perché perché noi siamo abituati a che in ferie si va bene o male ad agosto ma questa è una cosa tutta italiana perché nei paesi scandinavi negli stati uniti in tante altre parti del mondo le ferie sono sparse in tutto l'anno c'è un americano medio non è che va in vacanza ad agosto l'americano medio va in vacanza quando gli viene permesso dal lavoro quindi c'è chi va in vacanza gennaio c'è chi va in vacanza marzo chi a luglio chi a settembre eccetera 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 e io avendo ormai oltre 100 immobili in gestione nelle località più disparate mi sono reso conto di quanto c'è gente che ad esempio voglia visitare capri anche d'inverno c'è gente che vuole vedere la sardegna il cui mare è bellissimo anche d'inverno a febbraio c'è chi vuole visitare napoli d'inverno quindi comunque c'è un flusso turistico e ripeto il fatto che la maggior parte delle strutture chiudano permette a coloro che rimangono aperti di fare degli ottimi affari quindi la stagionalità esiste ma non significa che nei periodi di bassa stagione non si possa monetizzare e questo è il primo insegnamento che vi do esempi di località che funzionano bene anche d'inverno sono la sardegna la costiera amalfitana le varie isole procida capri ischia ma bene o male veramente qualsiasi parte d'italia perché l'italia è veramente apprezzata 365 giorni l'anno ci sono tantissime persone che sognano di visitare l'italia non possono necessariamente farlo in alta stagione o non vogliono farlo in alta stagione per via dei prezzi molto alti e magari vanno a portocervo a novembre succede me lo posso assicurare quindi abbiamo visto che esistono località stagionali dove comunque si può lavorare senza nessun tipo di problema anche in bassa stagione ci sono le località evergreen le località evergreen non le analizzeremo in questo video ci focalizzeremo per lo più appunto in località stagionali e in dei concetti che riguardino queste località stagionali ma qual è la tipologia di viaggiatore che affitta in bassa stagione abbiamo visto che ci sono dei turisti che vogliono o possono viaggiare solo in quelle stagionalità lì per i motivi più disparati economici lavoro ferie eccetera 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 ma ci sono anche tante persone che devono soggiornare nei mesi di bassa stagione per preparare l'arrivo dell'alta stagione ad esempio spesso mi capita di affittare a manutentori lavoratori eccetera di aziende che magari fanno le ristrutturazioni degli immobili le manutenzioni di determinati macchinari piscine eccetera quindi è ovvio che se la stagione estiva inizia a giugno a aprile e maggio tantissime persone andranno in queste località per preparare la stagione piuttosto che si affitta magari a dipendenti di aziende molto importanti che operano solo d'estate ad esempio la boutique rolex di portocervo si popola di persone che arrivano da milano da roma eccetera queste persone di queste boutique importanti di alta orologeria chanel hermes eccetera devono soggiornare da qualche parte prenotano quasi sempre immobili su airbnb quindi dovete capire che chi prenota non è solo il turista c'è chi prenota in alta stagione non essendo turista ma soprattutto c'è chi prenota in bassa stagione non essendo turista veramente ho perso il conto di quante volte sono venute persone che dovevano magari imbiancare immobili fare manutenzioni ditte di ristrutturazioni eccetera 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 quindi c'è un mercato veramente enorme e la cosa bella è che in bassa stagione di norma non prenotano per una notte o due notti magari vengono a farsi anche letteralmente settimane capita spesso anche di persone che vengono a farsi smart working due settimane in sardegna in bassa stagione perché costa poco comunque se ti becchi la bella giornata è molto bello è molto rilassante e a non tutti poi piace anche magari proprio il caos che si crea in determinate location in alta stagione con una volta in determinati luoghi d'italia ad agosto tu non ti muovi se va in macchina mentre poi nella stessa località ci vai ad ottobre o ci vai ad aprile sono vuote e te le godi molto di più quindi ha senso lavorare in bassa stagione secondo me sì sia in property management dove guadagni in percentuale e comunque ti puoi mettere in tasca un bel gruzzoletto in virtù del fatto che praticamente non hai competitor ma soprattutto in sublocazione se ad esempio vi avete una sublocazione di un anno ovvio affittandola solo d'estate voi non solo vi ripagate tutti i costi ma generate anche un bel profitto ma se iniziate ad affittare anche nei mesi di bassa stagione quello è tutto grasso che cola mi è capitato infatti molto spesso affittando in bassa stagione di riuscire a coprirmi i costi di quelli immobili di tutto l'anno così facendo l'alta stagione si è rivelata essere praticamente 100 per cento profitto e lo so può sembrare strano ma seguendo tutte le strategie che insegniamo in b&b academy questo è molto più semplice da raggiungere di quanto voi non possiate pensare però dall'altra parte c'è anche un altro trend ovvero il trend di chi dice io non voglio lavorare in determinate stagionalità ovviamente quelle basse quindi lavoro solo d'estate e il resto dell'anno me lo passo in vacanza o a fare altro abbiamo ad esempio fatto diverse testimonianze con persone che seguono questa filosofia ad esempio la testimonianza di enrico che diceva se non mi ricordo male lavoro tipo sei mesi all'anno gli altri sei mesi io li passo in vacanza perché perché guadagna talmente tanto in quei mesi estivi che poi nella restante parte dell'anno letteralmente non deve fare niente può permettersi di grattarsi di viaggiare di affittare se vuole ma non è obbligato infatti non è che io vi dico voi siete obbligati ad affittare anche nei mesi di bassa stagione ma è un qualcosa che è importante sapere che può essere fatto e che comunque è remunerativo a proposito di testimonianze ne abbiamo registrate a centinaia e le trovate la maggior parte qua sul nostro canale youtube compresa quella di enrico che a questo punto vi lascio in descrizione dove racconta di come grazie a bambi academy all'affitto breve ha letteralmente cambiato vita e lavora pochi mesi all'anno un'altra testimonianza di cui adesso purtroppo non ricordo il nome è quella di una persona che possiede un lido quindi di norma affittava ombrelloni lettini e quant'altro ed è entrata anche questa persona nel mondo degli affitti brevi seguendo il trend stagionale e anche qui ha avuto delle grosse soddisfazioni arrivando se non ricordo male addirittura guadagnare di più dagli appartamenti che dal lido che è il suo lavoro storico che fa ormai da decine di anni quindi è bello vedere come anche con poca esperienza si può iniziare a guadagnare sin da subito cifre importanti grazie all'affitto breve il tutto ovviamente seguendo un metodo però prestabilito non a sensazione non guardando dei video youtube che vanno benissimo assolutamente per avere un'infarinatura generale ma se si vuole avere realmente successo in questo business è importante investire in se stessi e informazione ed infine un altro consiglio che mi sento di dare è quello di acquisire soprattutto in bassa stagione perché la bassa stagione è molto utile per trovare immobili che in quel momento sono sfitti da portarsi a casa magari ad un prezzo vantaggioso se parliamo di sublocazioni al fine di generare importanti profitti nella stagione estiva o anche da convincere semplicemente in property management ovvero ad investimento zero infatti un proprietario magari può non aver piacere che il suo immobile rimanga sfitto nei mesi invernali e preferisce dar via la casa a meno ma per tutto l'anno piuttosto che rischiare di lavorare solo d'estate se parliamo di sublocazioni se parliamo di property management comunque ci sta che un proprietario abbia piacere nel monetizzare la sua proprietà anche nei mesi invernali e noi in qualità di property manager possiamo andare incontro a questa sua esigenza garantendogli sì degli incassi sicuramente importanti nei mesi estivi lavorando ovviamente anche noi a provvigione ma una value proposition quindi un qualcosa una leva col quale convincere il proprietario può anche essere quella di grazie alla mia gestione ti metterò in affitto breve l'immobile anche d'inverno e potrai guadagnare dall'affitto breve anche d'inverno cosa che le agenzie classiche e il 99 per cento degli altri property manager non fanno bene spero che questo video vi sia piaciuto vi ho voluto dare dei piccoli spunti per capire come gestire la questione stagionalità perché mi piange veramente il cuore quando sento persone che mi dicono ma io vivo in sardegna ma io vivo in sicilia ma io vivo in toscana e quasi lavora solo d'estate niente di più sbagliato perché proprio perché tutti pensano che si lavori solo d'estate quei pochi che lavorano d'inverno fanno veramente degli ottimi numeri per questo video è tutto e ci vediamo nel prossimo video oggi parliamo probabilmente ancora una volta perché un tema che comunque abbastanza ricorrente ne abbiamo parlato nei vantaggi e negli svantaggi di questo business insomma è un tema fulcro ovvero quello della fiscalità ovvero parleremo del come perché quindi più nello specifico magari rispetto ad altri video si può operare senza partita iva in maniera 100 per cento legale all'interno del mondo degli affitti brevi in italia quindi rispondiamo una volta per tutte alla fatidica domanda si può fare questo business senza partita iva assolutamente sì è probabilmente o praticamente l'unico business che si può fare in maniera legale senza partita iva perché ad esempio se voi volete avviare un e-commerce in dropshipping o in qualsiasi altra metodologia avete bisogno di una partita iva prima ancora di pubblicare nel vostro e-commerce se volete fare un profilo only fans avete bisogno di una partita iva insomma qualsiasi business voi vogliate fare anche amazon fba avete bisogno di una partita iva partiamo con una premessa l'affitto breve può essere gestito in diverse metodologie quindi in forma non imprenditoriale in forma imprenditoriale poi nella forma imprenditoriale troviamo vari sbocchi e anche nella forma non imprenditoriale troviamo varie declinazioni ad esempio nella forma non imprenditoriale abbiamo la locazione turistica o la casa fitto vacanze in forma non imprenditoriale piuttosto che la formula del bed and breakfast mentre nella forma imprenditoriale abbiamo la locazione turistica imprenditoriale la casa fitto vacanze in forma imprenditoriale l'affitta camere eccetera 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 quindi è un argomento abbastanza complesso che spieghiamo in maniera molto minuziosa e precisa all'interno del nostro percorso bmb academy che è il corso più venduto d'europa ma in questo video vogliamo fare un po di chiarezza su dei principi base di maniera tale che possiate avere quantomeno un'infarinatura per capire come funziona la fiscalità in questo business infatti al di là della modalità con la quale posso operare io all'interno della nostra community composta da oltre 4.000 studenti abbiamo chi opera come persona fisica in forma non imprenditoriale che ha una partita iva forfettaria chi ha una partita iva ordinaria chi ha una srl insomma chi più ne ha più ne metta è veramente variegato il portfolio di possibilità che si hanno all'interno di questo business ce n'è per tutti i gusti però c'è una grossa distinzione da fare ovvero quella tra forma appunto imprenditoriale e non imprenditoriale di base entrambe le formule possono lavorare senza particolari problemi quindi possono affittare l'immobile su airbnb ricevere prenotazioni senza ripeto particolari limiti ciò che poi cambia che principalmente nella forma imprenditoriale possiamo offrire tutta una serie di servizi extra cosa che nella forma non imprenditoriale non possiamo fare quindi nella forma non imprenditoriale io non posso offrire il servizio navetta non posso chiamare uno chef privato a casa se l'ospite mi chiede di farlo può farlo in autonomia ok in forma non imprenditoriale lui può chiamare uno chef farlo venire a casa ma io non posso offrire un listino prezzi dicendo guarda il servizio di massaggiatrice al servizio di chef a domicilio al servizio navetta perché opera in forma non imprenditoriale se invece opera in forma imprenditoriale bene quell'immobile invece può usufruire di tutta questa serie di servizi che non sono obbligatori ma sono facoltativi quindi tu puoi avere la facoltà di offrire o meno questi servizi in base a la tua volontà quindi anche potenzialmente in cinque mobili puoi offrire questo servizio in altre tanti puoi non offrirlo è una tua scelta così come il servizio di pulizia intermedia durante il soggiorno quindi tu in forma non imprenditoriale puoi pulire prima che arriva l'ospite e dopo che l'ospite se ne va quindi tra un soggiorno e l'altro in parole povere mentre con la forma imprenditoriale puoi offrire anche un servizio di pulizia giornaliero quindi tutti i giorni una persona può andare a pulire infrasettimanale insomma quando e come vuoi tu o anche semplicemente sul richiesta a pagamento ciò significa che puoi dire all'ospite guarda ogni volta che tu hai una pulizia paghi 50 euro io ti mando la persona in forma imprenditoriale questa cosa puoi farla in forma non imprenditoriale non puoi farla onestamente non è un grandissimo svantaggio per chi opera in forma non imprenditoriale perché un qualcosa che gli ospiti di norma non chiedono a meno che non abbiano un soggiorno di un mese però anche lì noi non possiamo offrire questo servizio ma lui può chiamare un qualcuno a pulire quindi semplicemente se ti chiedono una pulizia intermedia e tu operi in forma non imprenditoriale gli dici guarda io non posso erogarti questo servizio ma ti do il numero di telefono dell'impresa di pulizia che pulisce l'immobile chiamala paga tu direttamente loro e il problema è risolto quindi è un problema non problema ma perché la legge permette di operare in forma non imprenditoriale beh perché la legge se si opera in forma non imprenditoriale dice che i guadagni che noi stiamo avendo sono reddito da locazione nel senso io sto affittando un immobile che sia in sublocazione che sia di proprietà eccetera questo immobile io lo sto affittando come privato cittadino cosa che posso fare in base alla regione di norma sino a quattro immobili ovvero ci sono regioni che magari hanno un limite di due immobili alcune hanno un limite di quattro immobili ma bene o male a livello nazionale la regola è che sino a quattro immobili tu puoi operare in forma non imprenditoriale quindi come persona fisica e come persona fisica il reddito che tu stai producendo non è un reddito di impresa ma è appunto un reddito d'allocazione cioè al pari di Gianfranco signore pensionato di 70 anni che ha un immobile di proprietà e lo affitta degli studenti il signor Gianfranco non deve aprirsi la partita IVA per affittare l'immobile a studenti o ad una famiglia allo stesso modo noi con gli affitti brevi sino a quattro immobili è come se stessimo affittando ad una persona normalissima piuttosto che a degli studenti con il conseguente vantaggio che non dobbiamo aprire partita IVA e possiamo pagare una tassazione agevolata dal 21 al 26 per cento ovvero la cedola resecca quindi è lo stesso principio che si applica ai classici contratti 4 più 4 con l'unica differenza che con un classico contratto 4 più 4 chiaramente l'inquilino può stare fino ad 8 anni all'interno dell'immobile con la locazione turistica l'unico limite che abbiamo è di 30 giorni quindi se una persona vuole stare più di 30 giorni a quel punto dobbiamo fare un contratto transitorio che ci permette comunque di pagare la cedola resecca inutile dirvi ovviamente che la maggior parte delle persone che prenotano attraverso le piattaforme di affitto breve come Airbnb e Booking non soggiornano 30 giorni in media soggiornano 1 2 3 giorni picchi di una settimana 2 3 ad esagerare per le località estive ma difficilmente qualcuno vuole soggiornare più di 30 giorni e comunque noi non siamo obbligati ad accettare prenotazioni superiori a 30 giorni ma a parte ciò praticamente siamo equiparati in tutto e per tutto ad un classico contratto 4 più 4 con i relativi vantaggi che dicevo prima in primis una tassazione agevolata che in Italia può suonare come molto strana ma ebbene sì esiste una tassazione agevolata che come dicevo prima del 21 per cento per il primo immobile dal secondo in poi si passa al 26 per cento questo se l'attività di affitto breve è intestata alla stessa persona se invece ad esempio abbiamo due immobili uno intestato a me uno intestato a mia madre a quel punto entrambi gli immobili potranno usufruire della tassazione agevolata del 21 per cento quindi l'importante che l'attività non si è intestata alla stessa persona se ci sono più immobili in affitto breve intestati alla stessa persona a quel punto il primo immobile pagherà il 21 per cento ma il secondo il terzo e il quarto pagheranno il 26 per cento a meno che questi immobili chiaramente non vengano inseriti in una forma imprenditoriale che ha una tassazione diversa abbiamo visto precedentemente che ci sono dei limiti nell'operare in forma non imprenditoriale quindi senza partita IVA che non inficiano diciamo l'efficienza e la funzionalità di questo business dall'altra parte poi è bene ricordare che non possiamo in forma non imprenditoriale neanche offrire la colazione bibite e cibo né gratis né a pagamento però la questione colazione che può sembrare un grosso limite per alcuni di voi in realtà è un grande vantaggio perché al giorno d'oggi non è più lascio il cornetto e il succo d'arancia perché c'è quello che vuole il cornetto vegano c'è quello che vuole il cornetto con la farina di grilli c'è quello che lo vuole senza lattosio c'è quello che lo vuole senza glutine quindi ormai anche offrire la colazione è diventata una rottura di scatole quindi il fatto che noi non possiamo offrire una colazione non è uno svantaggio perché anche se la potessimo offrire io sconsiglio caldamente di inserire la colazione come servizio sia in forma imprenditoriale che non tornando a noi però perché le persone decidono di intraprendere un business così redditizio dove si può guadagnare così tanto denaro in forma non imprenditoriale quindi con un limite di quattro case che comunque ti può portare a guadagnare diverse migliaia di euro al mese pur essendo appunto una forma non imprenditoriale beh perché spesso questo viene utilizzato come test come metodologia di prova ovvero entro in questo business senza partita iva vedo come funziona effettivamente noto che posso guadagnare che è concreto che la cosa mi piace fa il caso mio dopodiché faccio lo step successivo dopo aver raggiunto le quattro proprietà passo alla forma imprenditoriale ma a quel punto starò già fatturando magari 5 6 mila euro al mese quindi ne vale effettivamente la pena e questo è un grandissimo vantaggio perché come dicevo prima un qualsiasi altro business prevede l'apertura della partita iva prima ancora di iniziare prima ancora di provare quindi tu devi affrontare una serie di costi e responsabilità nell'aprire la partita iva e poi devi sperare che questo business effettivamente funzioni qua invece è l'esatto opposto ovvero noi possiamo senza aprire la partita iva verificare che questo business effettivamente funzioni e che sia redditizio e solo dopo anche a distanza di anni aprire la partita iva cosa che non è obbligatoria cioè potenzialmente voi potreste anche stare tutta la vita senza partita iva in maniera 100 per cento legale guadagnando migliaia di euro al mese l'importante è rispettare il limite di quattro immobili in forma non imprenditoriale anche passare la partita iva in realtà poi comunque ha una serie di vantaggi perché con la partita iva forfettaria siano delle fortissime agevolazioni che talvolta rendono molto conveniente anche appunto l'apertura di una partita iva lo step successivo a quel punto poi quando si raggiungono fatturati molto importanti nell'ordine delle decine di migliaia di euro al mese è quello di aprire un srl infatti abbiamo anche tantissimi studenti bimbi academy che sono partiti come persone fisiche sono passate al forfettario poi successivamente hanno addirittura aperto delle srl poiché il loro portfolio è cresciuto in maniera esponenziale ma ancora una volta tutto questo non è obbligatorio è una cosa che è facoltativa il che è molto raro al giorno d'oggi e soprattutto dipende solo ed esclusivamente dalla vostra volontà se voi volete scalare il business e guadagnare sempre di più chiaramente a un certo punto dovrete strutturarvi ma se vi accontentate tra virgolette di avere un'entrata extra di 2 3 4 mila euro al mese potete farlo tranquillamente in forma non imprenditoriale senza partita iva detto ciò voglio dirti un'ultima cosa la cosa importante è iniziare non è il momento adesso di preoccuparsi se un giorno aprirò una srl se aprirò un forfettario perché tutte queste considerazioni sono considerazioni che poi vengono naturalmente dal momento in cui stai guadagnando e sei felice dell'attività che stai svolgendo in questo momento la cosa più importante è semplicemente iniziare da un qualsiasi punto anche come persona fisica anche senza partita iva a quel punto quando avrà iniziato a guadagnare poi ti porrà il problema se vuoi arrivare a guadagnare sempre di più o se ti accontenti di quei mille 2000 euro al mese extra a questo punto devi solo fare il primo passo vero acquisire il primo immobile iniziare a guadagnare e capire se hai voglia di continuare questo percorso con altri mobili o fermarti qui è importante infatti porsi degli obiettivi e perseguirli tant'è che poi devo essere onesto abbiamo fatto diversi sondaggi all'interno della community e più del 90 per cento delle persone che intraprendono questo percorso poi sono contente di continuarlo perché perché un business tutto sommato semplice che appunto puoi iniziare senza partita iva puoi automatizzare in ogni suo aspetto ti lascia un sacco di tempo libero e sfrutta uno dei motori trainanti dell'economia del nostro paese ovvero il turismo per questo video è tutto ci vediamo nel prossimo questo è un video un po più particolare magari un po più avanzato perché si parla di partita iva abbiamo visto nei video precedenti che non è obbligatoria d'aprire è uno dei pochissimi business se non l'unico business che puoi realmente fare in maniera cento per cento legale pur non avendo una partita iva e se non sai il perché vatti a vedere tutta la serie affitti brevi in 30 giorni perché ne abbiamo parlato ampiamente però andiamo a capire quando è conveniente aprire una partita iva per affitti brevi che ripeto non è obbligatoria quindi può essere anche magari più conveniente non è detto che tu debba aprirla innanzitutto partiamo dal presupposto che la gente ha paura di aprire la partita iva perché perché la nomea la leggenda metropolitana della partita iva è che ti faccia pagare un sacco di tasse sì ma non sempre diciamo così sì ma non sempre nel senso che una partita iva ordinaria sicuramente ha una pressione fiscale importante ma la partita iva forfettaria che si può aprire sino ad un guadagno di circa 85 mila euro l'anno invece dei dei costi molto vantaggiosi ragazzi 85 mila euro l'anno comunque sono diverse migliaia di euro al mese di preciso io la matematica non siamo bravissimi ma se uno fa 85 mila euro l'anno significa che al mese fa una media di 7 mila euro di fatturato se questo fatturato viene ad esempio generato come property manager dove praticamente non hai costi sono 7 mila euro praticamente puliti che ti metteresti in tasca devi pagarci queste tasse che adesso vedremo però significa che con un forfettario puoi arrivare tranquillamente a metterti in tasca 5000 euro netti se non anche di più quindi comunque ragazzi 5000 euro netti con una tassazione bassa è un ottimo vantaggio ed ecco perché dicevo prima non è obbligatorio aprire la partita iva ma talvolta può essere vantaggioso mi sono segnato qua un po di appunti per non dimenticarmi niente detto ciò l'ordinaria non l'andiamo a trattare perché ripeto è un tema troppo complesso dentro bmb academy abbiamo dei video realizzati con lo studio allievi che il nostro studio di commercialisti partner quindi sia forfettario che ordinario che forma non imprenditoriale viene analizzata in maniera veramente sarei dire estenuante cioè nel minimo dettaglio ma per fare un riassunto oggi ci focalizziamo sulla forfettaria forfettaria che viene anche chiamata comunemente regime dei minimi cioè è veramente molto conveniente ma rispetto alla cedolare secca che abbiamo visto essere dal 21 al 26 per cento quanto si paga di tasse beh si paga il 5 per cento ma non il 5 per cento di tutto quello che tu hai incassato ma il 5 per cento del coefficiente di reddittività ora giusto per complicare un po le cose in italia hanno detto in base alla tipologia di lavoro che tu fai paghi le tasse su un tot per cento se ad esempio fai il medico faccio degli esempi veramente a caso se fai il medico pagherai le tasse sul 70 per cento se fai subloccazione pagherai le tasse sul 40 per cento se fai property management pagherai le tasse sul 60 per cento quindi quando noi parliamo di 5 per cento non è il 5 per cento di tutto quello che voi guadagnate ma il 5 per cento di un determinato coefficiente di reddittività un grandissimo vantaggio pago il 5 per cento di una parte di ciò che realmente incasso lo svantaggio dall'altra parte è che non si scaricano le spese quindi non è che io vado a dedurmi l'iphone che posso essermi comprato o un eventuale auto aziendale però chiaramente questo è diciamo il contro di avere una tassazione così agevolata ma comunque rimane molto conveniente anche perché soprattutto in property management lavorando ad investimento zero praticamente noi non abbiamo costi dall'altra parte come dicevamo all'inizio abbiamo un limite di fatturato che è stato recentemente innalzato a 85 mila euro prima era se non ricordo male 65 mila euro quindi hanno aggiunto un 20 mila euro in più di range che si possono fatturare con la forfettaria e il grandissimo vantaggio che praticamente ti porta a pagare zero a parte il commercialista è soprattutto se è già un lavoro da dipendente che ti paga i contributi inps perché dico ciò perché ovviamente quando hai la forfettaria devi pagare anche i contributi inps in percentuale o con un importo fisso ma se la forfettaria te la apri diciamo come secondo lavoro e hai già un lavoro da dipendente che ti paga i contributi a quel punto i contributi non devi pagarli e letteralmente paghi due lire di tasse ma un grandissimo vantaggio di questo business che non tutti conoscono che si può attuare pur avendo una partita iva forfettaria che quindi non permette di scaricare nessun tipo di spesa è quello di invece poter detrarre i costi di pulizia se opportunamente fatturati una circolare dell'agenzia delle entrate infatti dice che se le pulizie sono state appunto fatturate possono essere detratte quindi se io ho fatturato 1200 euro di cui 200 sono pulizie io effettivamente vado a pagare le tasse solo su 1000 euro poi al di là del coefficiente di tassazione che andiamo ad applicare che quindi può essere il 21 per cento in caso di persona fisica piuttosto che 26 per cento o appunto 5 per cento con il forfettario che anche qui arriva sino ad un 15 per cento e ha un limite tra l'altro di cinque anni quindi questa agevolazione in realtà non potete averla per sempre però per cinque anni diciamo che in cinque anni potete raccogliere un bel gruzzoletto il vantaggio in realtà più grande secondo me non è tanto il risparmio fiscale che poi è soggettivo e vi consiglio di parlarne sempre con un commercialista in gamba come lo studio allievi che è il nostro partner ufficiale ma il vantaggio più grande secondo me è quello di avendo una partita iva poter offrire anche servizi aggiuntivi quindi se ad esempio volete offrire un servizio di transfer se volete vendere delle esperienze se volete organizzare un show cooking nell'immobile insomma se volete monetizzare i vostri ospiti con dei servizi extra grazie al fatto che siete titolari e possessori di partita iva forfettaria o meno potete farlo mentre chiaramente come persona fisica voi questi servizi non potete offrirli e non potete lucrare su di essi quindi magari il mio consiglio è di entrare in forma non imprenditoriale per iniziare a capire un po come funziona il tutto e incassare i primi denari per poi magari pensare di fare un upgrade ad una forfettaria giusto per dare un accenno poi ovviamente oltre a una certa soglia può convenire l'aprire una partita iva ordinaria o meglio ancora una srl perché perché ti permette di fare deduzioni di tutte quelle che sono le spese ti permette di separare il tuo patrimonio aziendale dal tuo patrimonio personale la tassazione in questo caso è intorno al 27 per cento solamente sul netto poi ci sono tutta una serie di imposte dirette e indirette e ovviamente ci sono costi fissi maggiori quindi abbiamo in realtà tantissime persone all'interno della community bimbi academy che sono passate ad srl però perché hanno portfogli comunque nell'ordine delle decine se non centinaia di proprietà è un video abbastanza complicato perché comunque trattiamo dei temi che di per sé sono complicati ovviamente in un lasso di tempo molto breve perché su youtube un video non può durare due ore e anche perché abbiamo delle intere lezioni interi moduli e capitoli di ore e ore e ore dove spieghiamo tutte queste cose con dei commercialisti super in gamba studio allievi ovviamente dentro bmb academy quindi se volete maggiori informazioni su bmb academy mi raccomando trovate tutto quanto quindi da scalia e ci vediamo nel prossimo video quest'oggi parleremo di uno dei temi fondamentali di questo business ovvero l'acquisizione tanti confondono la parola acquisizione con acquisto sono due cose diverse acquistare significa che c'è un esborso di denaro e io poi detengo un titolo in questo caso su quella proprietà è ovviamente una cosa molto nerosa penso che nell'arco della vita se una persona riesce ad acquistare di norma una proprietà è tanto quindi non stiamo parlando di acquisto ma acquisizione nel gergo tecnico dell'affitto breve significa invece possedere un titolo su una determinata proprietà che non significa essere il proprietario al fine poi di avere un guadagno questo titolo può essere un titolo di sublocazione quindi io pago effettivamente c'è un esborso economico seppur nettamente minore rispetto all'acquisto e ho il titolo di sublocatario e quindi poi io posso mettere la piattaforma su bmb su booking generare guadagni oppure secondo me questo è il metodo più interessante perché è a investimento zero ma io tratto entrambi i metodi li spiego all'interno di questo canale li spiego in maniera molto esaustiva all'interno di bmb academy che è il nostro corso di formazione la seconda metodologia è il property management ovvero la gestione di proprietà per conto terzi in parole povere un po come la gente immobiliare non paga per poter vendere una casa ma al contrario viene pagato una percentuale in base ai risultati che ottiene bene qua è la stessa identica cosa col property management quindi questo video di oggi fatta questa doverosa premessa parliamo di acquisizioni che possono essere investimento zero o con un investimento sublocazione o property management e a seguito di questa cosa ci tengo a fare un'ulteriore precisazione qui ho delle note sul computer perché ovviamente non sono superman non mi posso ricordare tutto quanto se non l'avete capito non è necessario possedere immobili di proprietà per fare questo business io quando sono partito di proprietà avevo forse una penna e un motorino quindi assolutamente non ero il figlio di berlusconi non ero figlio di un magnate eppure nel giro di un anno sono riuscito ad acquisire già tantissimi immobili e vi riporto l'attenzione sulla parola acquisire se avessi voluto acquistare questi immobili all'epoca l'avrei potuto fare forse solo al monopoli mentre grazie al property management e grazie alla subloccazione ho potuto acquisire decine di immobili in un solo anno detto ciò suddividiamo le due cose a livello di acquisizione parliamo prima di property management che secondo me è un'opportunità molto interessante perché appunto ti permette di guadagnare ad investimento zero e poi parliamo di sublocazione quindi gestione a percentuale zero investimento da fare perché perché il proprietario mi paga una percentuale che va di norma dal 20 al 35 per cento circa ho una villa da decine di milioni l'ho chiusa al 10 per cento e ci sono anche quei mega affari dove magari riesce a chiudere anche al 40 per cento però in media una provvigione media va dal 20 al 35 per cento e quindi io non investo niente il proprietario non investe niente su di me entrambi lavoriamo diciamo in una sorta di collaborazione ma a fine mese quando la casa ha generato tot mila euro io mi porto a casa dal 20 al 35 per cento poi la percentuale cambia al variare di tutta una serie di condizioni se gestisco magari solo la parte online prenderò il 20 per cento se gestisco magari anche la parte in loco seppur automatizzata magari prendo il 30 35 per cento detto ciò il proprietario diventa tutti gli effetti nostro socio questo è un grandissimo vantaggio poi c'è il video su questo canale su vantaggi e svantaggi di questo business andatevelo a vedere qualora non l'abbiate già visto ma il proprietario diventa nostro socio ciò significa che se anche c'è un piccolo danno alla casa c'è un qualcosa da riparare smette di funzionare la cucina è il proprietario che deve pagare queste cose ok perché lui rimane il proprietario io sono un suo consulente se non è come se io chiamo l'idraulico a riparare a riparare i tubi di casa mia usa il trapano faccio un esempio stupido ridico all'idraulico non devi pagare l'elettricità tu per aver riparato a casa mia no sono consapevole che arrivando a casa mia dovrei utilizzare una serie di macchinari che magari includono l'elettricità e utilizzerà l'elettricità di casa mia e lo stesso vale per le bollette il proprietario che paga le bollette il proprietario che paga il condominio il proprietario che paga eventuali canoni rai eccetera 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 guadagniamo appunto poi una percentuale su quello che genera l'immobile al netto delle commissioni ota cioè significa che se l'immobile ha generato 4.500 euro e tolte le commissioni di airbnb ne avanzano 4.000 bene noi andiamo a calcolare il nostro importo di solito su 4.000 le spese di pulizia di norma non concorrono al pagamento della provvigione cioè che cosa significa le escludiamo quindi ancora una volta se l'immobile ha generato 5.000 euro 500 sono di pulizie ne rimangono 4.500 sono di commissioni di airbnb ecco noi calcoliamo su 4.000 euro le uniche due cose che escludiamo sono pulizia e commissioni di airbnb questa è la prassi poi ovvio che se uno in fase di negoziazione pur di convincere il proprietario gli dice no guarda io ti scalo anche le bollette è liberissimo di farlo è una cosa che io non faccio è una cosa che io sconsiglio è una cosa che la maggior parte delle persone della mia community non fanno ma ci sono tante persone sprovedute sfacciate che non si sono fatti due calcoli in tasca eccetera 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 io le reputo così che includono questo genere di costi secondo me se uno ha la giusta formazione se uno ha il giusto background riesce a chiudere senza diciamo abbassarsi i pantaloni in questa maniera qui perché comunque il nostro è un lavoro e va pagato bene secondo me se uno è un buon property manager deve farsi pagare e il detrarre le bollette secondo me non è corretto fortunatamente ripeto nella nostra community è una pratica molto 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 poco utilizzata benissimo detto ciò andando avanti parlando di property management perché un proprietario dovrebbe darci l'immobile in gestione a noi beh è molto molto semplice il proprietario di norma non ha le competenze non ha il tempo non ha la voglia e se ha una seconda terza quarta casa da dare in gestione probabilmente una persona più che benestante e uno che magari fa l'avvocato il medico l'ingegnere aerospaziale non perde tempo su airbnb a rispondere a gertrude da new york che vuole soggiornare nel bnb così come tu magari se hai un problema ai tubi di scarico non perdi tempo a fare il fai da te ma chiami un idraulico insomma nella vita tutto può essere fatto in autonomia se mi si farò la gomma io ludovico chiamo il carro attrezzi che mi sistema la gomma o mi porta via l'auto poi c'è quello che gli piace sporcarsi le mani e giocare al piccolo meccanico però quando mi venite a dire ludovico ma perché uno dovrebbe dare l'immobile in gestione a me allo stesso modo per il quale uno va a mangiare al ristorante non cucina a casa o chiama qualcuno a fargli le pulizie in casa piuttosto che farsene da solo o chiama la badante a pulire il nonnino anziano al posto di andarlo a fare in prima persona cioè per ogni cosa puoi decidere di fartela da sola o di farla fare ad un professionista e per fortuna la maggior parte delle persone soprattutto quelle ricche che hanno dei bei immobili non vogliono farsene da sole queste cose vogliono farle fare a dei professionisti e oltre a togliersi un grandissimo pensiero una rottura di scatole eccetera 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 per nostra fortuna guadagnano anche di più rispetto ad un affitto classico perché un immobile posto in affitti brevi può sfruttare tutta una serie di dinamiche che un immobile in affitto classico non può sfruttare l'immobile in affitto classico non è che nel mese di aprile raddoppia il canone di fitto perché c'è il salone del mobile no perché il canone di fitto è quello moltiplicato per 12 se io a portocervo affitto una casa 12 mesi l'anno non è che ad agosto gli dico mi paghi di più il canone perché agosto alta stagione no perché è un affitto classico ok quindi un proprietario di norma guadagna di più e anche se non guadagnasse di più comunque ha tanti vantaggi che abbiamo visto nel relativo video e che spieghiamo per filo e per segno all'interno delle nostre community che esulano dal guadagno ma riguardano la tranquillità la pace d'animo la sicurezza eccetera 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 di dare un immobile in affitto breve rispetto ad un affitto classico dopodiché un altro punto saliente è sicuramente il fatto che se lavori bene un proprietario innanzitutto rinnova all'infinito ci sono immobili che ormai ho penso da 6-7 anni in gestione con proprietari che rinnovano ormai sono diventati amici mi adorano e soprattutto sono molto riconoscenti e poi diventa una sorta di passaparola virale positivo cioè quando un proprietario è felice innanzitutto se altri immobili te li continuo a portare ok a ripetizione o addirittura mi è capitato di proprietari talmente soddisfatti del mio operato che ho deciso di acquistare altre case quelli che possono permetterselo al fine di darmela in gestione perché sono stati talmente contenti di come ho gestito i loro precedenti immobili che hanno voluto continuare ad investire in questa cosa e poi se sono soddisfatti ovviamente questi proprietari consigliano la tua gestione ad altre persone e spesso ah mi ha tolto il tuo numero Emanuele ah mi ha tolto il tuo numero Francesca tutti i proprietari con i quali io lavoro se poi siete furbi qua vi do una chicca create dei cosiddetti come li chiamo io meccanismi di incentivazione quindi create dei meccanismi tali per cui un proprietario è incentivato a presentarti nuova gente beh lì allora avete fatto bingo chiaramente perché se un proprietario tu gli dici io ti do 500 euro ogni volta che mi presenti un proprietario io effettivamente firmo un contratto quel proprietario inizia a parlarne a chiunque e magari in un anno ti porta 10 case ed infine vi voglio dare una chicca ovvero il proprietario che di norma dà l'immobile in property management che proprietario è è un proprietario con un minimo di vena imprenditoriale chiamiamola così che capisce l'opportunità capisce che l'immobile può generare più reddito rispetto al solito capisce che in determinati mesi veramente guadagna 3 4 volte tanto e allora decide di collaborare con te lo svantaggio qual è dall'altra parte che magari essendo imprenditoriale vuole contrattare un po sulla provvigione ed ecco perché il mio consiglio è quello di partire sempre con una provvigione in realtà più alta rispetto a quella che voi volete realmente ottenere quindi fingiamo che voi vogliate chiudere al 30 per cento non fate come prima proposta al 30 per cento come prima proposta fatto un 35 contrattate scende un 33 un 32 per poi chiudere definitivamente ad un 30 se invece tu vuoi chiudere al 30 la prima cosa che gli dice 30 difficilmente chiuderai al 30 perché vogliono sempre contrattare i proprietari in virtù del fatto che sono imprenditoriali tra virgolette cioè sanno che possono guadagnare tanto con questa casa hanno un po questo spirito imprenditoriale e avendo questo spirito imprenditoriale chiaramente loro vogliono anche contrattare da bravi imprenditori questo diciamo è un piccolo recap sul property management che ovviamente una materia vera e propria ne parliamo per decine di ore all'interno di bmb academy non può essere riassunto in un video di qualche decina di minuti però a grandi linee questo è secondo me il property management abbiamo poi la sublocazione ok ci sono gli estremisti che dicono ah no per me devi lavorare solo in property management gli estremisti che dicono per me devi lavorare solo in sublocazione io non sono estremista io sono molto aperto di mente e la mia filosofia è io lavoro in tutte le metodologie se il carone di fitto è particolarmente vantaggioso è un qualcosa diciamo al di sotto della media di mercato quindi è un affare vado in sublocazione se non è un affare se alla media di mercato addirittura è superiore alla media di mercato punto al property management quindi investimento zero e mi porto comunque a casa l'immobile piuttosto che perderlo e questa strategia penso mi abbia ripagato abbastanza negli anni perché oggi ho un portfolio veramente importante da far rabbrividire veramente a livello mondiale qualsiasi property manager detto ciò sublocazione facciamo una premessa è legale articolo 1594 del codice civile perché la cosa che ho sentito più frequentemente nella mia vita è la sublocazione è illegale quando è assolutamente errato la sublocazione è legalissima ripeto articolo 1594 del codice civile che dice che se espressamente dichiarato se espressamente accettato da parte del proprietario di casa la sublocazione è legale quindi ovvio che se un proprietario ti scrive non concedo la sublocazione quel contratto è nullo dal punto di vista della sublocazione cioè tu non puoi subloccare l'immobile ma se un proprietario ti scrive che espressamente invece accettata la sublocazione ed ecco perché noi ad esempio utilizziamo dei modelli di contratti specifici redatti dai nostri avvocati che includono la possibilità di fare sublocazione contratti che ovviamente trovate in bmb academy maggiore info qua in descrizione comunque è legale ma è importante utilizzare i giusti modelli di contratto e mi spiace per voi non sono i contratti che trovate su google che nessun sano di mente regalerebbe su google dei contratti fatti bene quindi se volete essere tutelati volete fare questo business fatto bene dovete utilizzare i giusti contratti e ripeto non sono i contratti su google nessun avvocato sano di mente si mette a regalare i suoi contratti su google noi all'interno di bmb academy ovviamente abbiamo un sacco di contratti tutti fatti da avvocati e sono tutelati questi contratti nel senso che sono stati utilizzati da migliaia di persone controllati da migliaia di avvocati chi più ne ha più ne metta e quindi sono una vera e propria garanzia detto ciò quali sono gli altri punti salienti della sublocazione che abbiamo visto dunque essere 100% legale beh è il fatto che richiesto un investimento bassissimo nettamente minore rispetto magari a ciò di cui avete bisogno per avviare un negozio online un e-commerce un drop shipping o per fare cifre decenti con il trading si parla di secondo me dai 2 ai 4 mila euro per iniziare con una sublocazione quindi abbiamo lo svantaggio che bisogna investire ma il vantaggio che l'investimento è comunque limitato mia madre per avviare il ristorante ha speso 180 mila euro e guadagnava se tutto andava bene 1.400 euro al mese col property management ha investito zero ne guadagna molti ma molti di più e se anche decidesse di fare sublocazione mia madre spendendo una frazione infinitesimale ad esempio di quello che ha speso con il ristorante potrebbe generare molto di più quindi sì comunque c'è un investimento ma il ritorno è veramente immediato cioè nel giro di qualche mese ti sei pagato l'investimento iniziale e una volta che sei a break even quindi una volta che sei a pareggio chiaramente si parla di fare 1000, 1500, 2000 poi in base alla sublocazione che hai preso netti ogni mese quindi è un grandissimo vantaggio dall'altra parte anche il proprietario dei vantaggi perché abbiamo visto prima il proprietario si libera dal rischio di monosità col property management ma in parte lo fa anche con la sublocazione perché comunque dà l'immobile in gestione a noi che facciamo affitti brevi se siamo bravi abbiamo le giuste informazioni le giuste guide attraverso questi immobili comunque generiamo delle cifre importanti generando delle cifre importanti siamo in grado di pagare il canone di fitto senza nessun tipo di problema chiaro che dall'altra parte se ci vado a vivere in una casa è una disavventura posso non avere più le disponibilità economiche per pagare questo canone di fitto e diventare dunque moroso quindi anche con la sublocazione il proprietario ha molto meno rischio di monosità ed è un rischio anche qui prossimo allo zero fortunatamente non ho mai conosciuto nessun proprietario che ha avuto problemi di morosità con sublocazione ma ho conosciuto tanti proprietari invece che hanno avuto problemi di morosità con locazioni classiche andando avanti con i vantaggi della sublocazione qui stiamo facendo un mix di vantaggi e svantaggi abbiamo sicuramente il fatto che abbiamo totale autonomia nel business rispetto al property management dove magari come abbiamo visto prima il proprietario è anche un po un socio e quindi li devo rendere conto se lui mi chiede o ma come mai domani la casa non ancora prenotazioni nella sublocazione no nella sublocazione dovete rendere solo a voi stessi a nessun altro nessun proprietario può venirvi a chiedere come mai la casa ha un determinato tipo di prezzo a un determinato tipo di prenotazioni perché siete totalmente autonomi a seguito di quel pagamento mensile che fate in sublocazione siete veramente indipendenti poi anche nel property management ci sono quei proprietari che senti veramente una volta al mese solo per farti pagare la fattura quindi l'indipendenza c'è anche nel property management nel property management è una variabile il fatto di essere indipendenti ti capita il proprietario più sulle sue che ti fa meno domande ti capita il proprietario che ti fa più domande nella sublocazione non è una variabile nella sublocazione non ha certezza il fatto che voi siate indipendenti perché non dovete rendere conto di niente a nessuno ed infine abbiamo visto il profilo di un proprietario in property management andiamo a capire la psicologia di un proprietario in sublocazione beh un proprietario in sublocazione è un proprietario che di norma non vuole rischiare che vuole avere una rendita garantita spesso per definizione anche un po più anziano e magari diffidente nei confronti di questo business e siccome è più anziano ne capisce meno un po diffidente rispetto a queste nuove tecnologie queste nuove cose cosa ti dice io voglio i miei mille euro al mese veditela tu assolutamente va bene l'importante ecco questa è una cosa importante quando prendete i mobili in sublocazione e non accettateli per il gusto di accettarli assi mi ha dato la sublocazione quindi accetto cioè accettateli se il prezzo è un prezzo congruo cioè fatevi due calcoli e dite ok mettendola su airbnb sulla base di dati reali non di supposizioni magiche sulla base di dati reali vi rendete conto che quella casa può andare ad esempio a 160 euro a notte e wow un canone di fitto di 1000 euro al mese più le spese lo copro in non so una settimana ok va benissimo lo prendo se invece ci mettete due settimane a coprire quelle spese lì secondo me è già meno conveniente prendere una sublocazione quindi non fate l'errore che fanno tanti soprattutto coloro che non hanno la giusta formazione di accettare sublocazioni per il gusto di accettarle mi hanno detto di sì quindi firmo ma valutate è un discorso simile a rolex è capitato una persona vicino a me che gli è stato proposto un rolex molto bello è tutto d'oro rosa in aeroporto e siccome gli era stato proposto secondo lui andava preso perché per chi non lo sapesse ormai comprare un rolex a listino è praticamente impossibile e quindi consapevole del fatto che acquistare un rolex a listino era molto difficile ha detto me l'hanno proposto lo devo comprare invece ho detto no non comprarlo perché per quanto sia disponibile a listino e sia molto bello in realtà questo modello di rolex nello specifico non si sa perché nel mercato secondario parallelo ti costa meno che comprarlo nuovo quindi è un po diciamo una mosca bianca ripeto e rolex sono introvabili ma quello è trovabile perché perché non lo vuole nessuno quindi se una sublocazione è disponibile fate i vostri calcoli perché magari è disponibile perché il prezzo è completamente fuori mercato o magari è un ottimo prezzo ma non confermate la sublocazione sull'onda dell'euforia ma fate sempre le opportune valutazioni perché altrimenti quello che potrebbe essere un ottimo affare ovvero questo business può diventare un incubo ovvero uno sperpero di soldi perché non avete fatto le giuste valutazioni iscrivetevi al canale ci vediamo nel prossimo video quest'oggi parliamo di property management di come acquisire in property management un tema importantissimo perché se non acquisite le proprietà non guadagnate quindi è un tema fondamentale tema che ovviamente all'interno di bmb academy il nostro corso di punta il più venduto d'europa con oltre 4000 studenti analizziamo per filo e per segno con decine di ore perché è un corso che dura oltre 75 ore ma quest'oggi vi voglio portare qualche chicca per aiutarvi a capire quantomeno le basi che stanno dietro l'acquisizione di immobili in property management perché è fondamentale questa lezione perché ci permette di entrare in questo business ad investimento zero infatti acquisire non significa acquistare e soprattutto property management se avete seguito i video precedenti è sinonimo di investimento zero perché è molto semplice col property management noi andiamo a collaborare con il proprietario che ci dà una provvigione che può andare dal 20 30 35 per cento per gestirgli la casa e ovviamente noi non dobbiamo pagare per fare ciò al contrario sarà lui che pagherà una percentuale a vita fino a che avremo chiaramente l'immobile in gestione su ogni prenotazione che arriverà grazie al nostro operato quindi il proprietario prende ci lascia le chiavi di casa ci pensiamo a tutto noi non spendiamo un euro e dopo una settimana dieci giorni mettiamo la casa online e iniziamo ad ottenere prenotazioni da ogni singola prenotazione che arriverà come questa questa o questa noi guadagneremo in media un 30 per cento senza aver investito un euro per acquisire quell'immobile quindi a conti fatti possiamo dire che stiamo diventando soci di questa casa coproprietari ma senza spendere un centesimo quindi è un grandissimo vantaggio un po come gli agenti immobiliari che guadagnano un 3 4 per cento sulla vendita di una casa che non è loro con la differenza che comunque l'agente immobiliare deve avere un patentino è obbligato ad avere una partita iva e soprattutto deve cercare ogni mese una nuova casa da vendere se no muore di fame mentre noi dall'altra parte basta acquisire un immobile e fino a che il proprietario non disdice che di norma non accade se si trova bene beh noi guadagneremo sempre quindi potenzialmente quell'immobile ci farà guadagnare per 5 6 7 anni ovviamente noi non ci fermiamo di norma ad un immobile magari ne acquisiamo 3 4 5 e se facciamo 1000 euro per ogni casa con 5 case abbiamo fatto 5 mila euro al mese ovviamente ma ludovico ma le spese chi le paga beh ovviamente ne paga il proprietario le bollette le paga lui le spese condominiali le paga lui le pulizie le paga l'ospite e quindi l'unico diciamo costo che noi abbiamo dall'altra parte è le commissioni del portale che però vengono detratte in automatico e quindi se una pronotazione è da 1200 euro il portale ad esempio può trattenere 200 euro e noi calcoliamo la nostra provvigione su 1000 euro il grandissimo vantaggio come ho detto poco fa e che tutto questo si fa praticamente senza dover spendere soldi per acquisire la proprietà ma dall'altra parte il grande vantaggio è che gli esempi che ho fatto io dei 1000 euro al mese sono per normalissimi appartamenti io personalmente ad esempio ho acquisito una villa del valore di oltre 70 milioni di euro e qui trovi il video di youtube dove te la mostro ed inutile dirsi che questa villa viene affittata per tutto il mese d'agosto ad oltre un milione di euro ovviamente non guadagno il 30 35 per cento su questo immobile ho un 10 per cento che è molto meno rispetto alla media però perché ho accettato questa provvigione perché comunque un immobile che appunto genera cifre fuori di testa ora senza necessariamente passare dal bilocale alla villa da 70 milioni di euro ci sono tantissimi immobili sparsi per l'italia dal valore intermedio diciamo così trilocali quadrilocali loft ville più tranquille che comunque permettono ai property manager di generare decine di migliaia di euro ecco perché il grandissimo vantaggio non è solo di acquisire ad investimento zero ma potenzialmente di arrivare a gestire e a guadagnare dai mobili che magari non ti potresti mai permettere per tutta la tua vita ora come ora io un immobile da 70 milioni di euro non me lo posso permettere eppure è come se io fossi coproprietario di questa proprietà è come se io fossi un socio perché guadagno un 10 per cento da tutto quello che genera questa casa ancora una volta tutto quanto senza la necessità di patentini o licenze l'unica cosa di cui c'è bisogno per evitare fregature è quella di avere un contratto redatto in maniera professionale come quello che ovviamente noi diamo a tutti i nostri studenti bambi academy che ti ricordo essere oltre 4000 sparsi in tutto il mondo ma quali sono le leve attraverso le quali convinciamo i proprietari a darci un immobile in gestione in property management beh ovviamente sono moltissime vengono approfondite all'interno del corso con ore e ore e ore di lezione ma oggi te ne voglio portare alcune innanzitutto la possibilità di guadagnare più denaro grazie a noi partecipano agli utili alla fetta più grande di quello che verrà generato su rb e quindi rispetto ad un affitto classico magari raddoppiano o triplicano quello che è l'incasso magari con un affitto normale guadagnavano 2000 euro al mese ora arrivano a fare anche 6.000 euro al mese oltre a ciò il proprietario rimane possessore dell'immobile e se un domani vuole andarci lui per una settimana perché sta arrivando un suo parente lontano basta che voi blocchiate le date su airbnb o booking e lui sarà comunque in pieno controllo del suo immobile oltre a ciò noi lavoriamo in totale trasparenza e il proprietario può vedere in qualsiasi momento quante prenotazioni sono arrivate qual è il prezzo per notte e di conseguenza calcolare il suo incasso così facendo un proprietario sarà contentissimo di lavorare con te perché vedrà ogni giorno praticamente i suoi soldi crescere inoltre il problema della morosità ovvero del fatto che gli inquilini spesso non pagano il canone di affitto con l'affitto breve non esiste perché pagano in anticipo abbiamo dei contratti che ci tutelano essendo ovviamente degli alloggi turistici e ti posso fare un esempio molto semplice non è che tu vai in albergo smetti di pagare la stanza e tu vivi in hotel per il resto della tua vita e la stessa cosa vale per gli affitti brevi se malauguratamente e non mi è mai successo in anni e anni di esperienza un ospite dovesse entrare nel mio immobile non andarsene più beh ovviamente la polizia verrebbe lo prenderebbe per le orecchie e lo porterebbe fuori così come farebbe in un qualunque albergo però dopo aver ospitato decine di migliaia di persone in questi anni devo essere onesto non mi è mai successo anche perché le persone soggiornano nei Airbnb per farsene una vacanza e tornarsene a casa loro oltre a ciò ovviamente il nostro interesse rispetto ad un affitto classico mantenere l'immobile immacolato perfetto perché gli ospiti comunque pagheranno centinaia di euro a notte per soggiornare in questo immobile e se anche dovessero arrecare qualche danno noi siamo coperti al 100 per cento dall'assicurazione di Airbnb inclusa gratuitamente con ogni prenotazione sino a 3 milioni di euro quindi se un ospite rompe il televisore sporca il muro o distrugge una tazza siamo coperti sino a 3 milioni di euro da Airbnb e questo chiaramente un grandissimo vantaggio per il proprietario che dovrebbe decidere dunque di mettere il suo immobile su Airbnb con molta più facilità e questi sono solo alcuni dei numerosissimi vantaggi perché ti posso assicurare che sono davvero tanti ma ti voglio dare anche qualche consiglio se magari sei in fase di trattativa e il proprietario non è particolarmente convinto ad esempio ci sono delle piccole spese che il proprietario dovrebbe sostenere in fase di avviamento come lo shooting fotografico o qualche decorazione acquistata all'IKEA si tratta generalmente di due 300 euro di investimento la maggior parte dei proprietari non batte ciglio e acquista questi prodotti senza nessun tipo di problema ma se magari vuoi negoziare una provvigione un po più alta o il proprietario non è convinto al 100 per cento il mio consiglio è che ti accolli tu queste spese nell'ordine di poche centinaia di euro anche perché recupererai questo importo nel giro di pochi giorni ovvero dalle prime prenotazioni se calcolerai la tua provvigione ti renderai conto come in pochissimi giorni sarai già rientrato di questa cifra ovviamente questo non è obbligatorio è solo un consiglio che mi sento di darti qualora ti trovassi in difficoltà nel negoziare con un proprietario ma chi paga le bollette le spese condominali eccetera beh come ho detto in precedenza le paga il proprietario perché noi siamo consulenti esterni non siamo coproprietari della casa quindi queste sono spese che generalmente sono in capo a lui esiste poi anche la possibilità di fungere da sostituto d'imposta quindi di pagare le tasse per conto del proprietario cosa che generalmente si fa con una srl e che permette a lui di risparmiare qualcosina e a noi di guadagnare sensibilmente di più ma non ne parleremo qui se volete approfondire il tema potete prenotare una consulenza gratuita con il nostro team dal link che trovate qua in descrizione ti aspettiamo dove in bnb academy ovviamente quest'oggi parliamo di acquisizione in subloccazione che non significa acquistare ma significa pagare un canone di fitto ad esempio di 1000 euro per avere il pieno diritto a subloccare questo immobile mettendolo su airbnb e booking e indovinate un po mettendolo su airbnb e booking non solo riesco a ripagarmi l'affitto ma mi avanzano anche dei soldi che mi metto in tasca in qualità di profitto in qualità di guadagno quindi come riusciamo ad acquisire in subloccazione voglio farvi un esempio molto semplice di facile comprensione me lo sono scritto qui perché è uno di quelli veramente più basilari da raggiungere ad esempio abbiamo una casa da 1000 euro al mese un bilocale in una qualsiasi città abbastanza grande italiana e dopo aver pagato questi 1000 euro al mese di affitto noi abbiamo la possibilità di subloccare appunto questo appartamento su piattaforme come airbnb e booking ad esempio a 140 euro a notte bene con un tasso di occupazione dell'85 per cento quindi neanche a dire affitto tutte le sacrosanti notti che comunque è fattibilissimo se si sa fare questo lavoro bene a 140 euro sono più di 3500 euro al mese che io genero capite con un appartamento da 1000 euro al mese togliamo le bollette le spese di pulizia eccetera 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 comunque bene o male ci mettiamo in tasca sui 1500 euro al mese con un singolo immobile immaginatevi di avere 10 case così sono 15 mila euro al mese ora abbiamo sicuramente dei vantaggi e degli svantaggi e ve li voglio ovviamente spiegare all'interno di questo video vantaggio numero uno è che sei comunque totalmente autonomo in questo business non devi avere soci non devi avere necessariamente il contabile che ti fa tutto quanto insomma puoi lavorare tranquillamente da solo con la differenza che rispetto ad altri lavori magari per guadagnare 1500 euro al mese devi comprarti un ufficio stare lì a lavorare dalla mattina alla sera al tuo business sperare di trovare i clienti mentre qui i clienti arrivano in completa autonomia grazie a darmi in via e booking e 1500 euro è il guadagno di una casa ma tu puoi tranquillamente gestirne sino a 10 in totale autonomia quindi già sei super autonomo a livello di business ma se lo compariamo ad esempio al property management non dobbiamo neanche collaborare col proprietario nel property management noi prendiamo una percentuale degli incassi che ha generato la casa del proprietario quindi comunque abbiamo una sorta di socio al quale dobbiamo rendere conto che è il proprietario di casa nella sublocazione siamo soli che più soli non si può a meno che noi non vogliamo avere dei collaboratori o dei soci e ovviamente sono i benvenuti ed è possibile inserirli però non dobbiamo starli magari a rispondere al whatsapp del proprietario che ci chiede ehi come sta andando perché siamo in property management no siamo in sublocazione quindi siamo super al 100 per cento indipendenti oltre a questo statisticamente con la sublocazione si guadagna di più rispetto al property management magari con la simulazione che abbiamo fatto prima dei 3500 euro al mese magari un property manager in media può guadagnare 900 1000 euro che sono comunque un'ottima cifra ma in sublocazione c'è sempre quel qualcosina in più di guadagno che ad alcuni fa gola e quindi si guadagna bene col property management ma statisticamente con la sublocazione si guadagna un po di più dall'altra parte ci sono due piccoli svantaggi il primo è che ovviamente bisogna avere un minimo di budget per pagare il canone di fitto e magari qualche mese di caparra e soprattutto che c'è comunque una piccola componente di rischio imprenditoriale perché ovviamente noi dobbiamo mettere up front del denaro appunto per pagare il canone di fitto e c'è un rischio imprenditoriale non prendiamoci in giro mentre col property management ad esempio o con la gestione online il rischio imprenditoriale non c'è perché non dobbiamo sborsare neanche un centesimo ora già lo so che alcuni di voi staranno pensando ludovico ma la sublocazione è illegale sbagliatissimo l'articolo 1594 del codice civile la regolamenta e dice che se il proprietario è d'accordo è possibile attuarla dall'altra parte però altri di voi staranno pensando ludovico ma nel mio contratto di fitto c'è scritto che la sublocazione è vietata certo non devi utilizzare il classico contratto di fitto devi utilizzare un contratto ad hoc che ad esempio noi di bmb academy forniamo a tutti i nostri studenti della nostra community non solo perché il nostro contratto permette ovviamente la sublocazione ma anche perché il nostro contratto include tutta una serie di tutele che ti permettono di lavorare in maniera super serena e 100 per cento tranquillo oltre a questo in bmb academy ovviamente abbiamo oltre 70 ore di formazione dove ti spieghiamo la qualunque sublocazione property management gestione online col santalzi program e chi più ne ha più ne metta quindi là dentro veramente trovi la bibbia dell'affitto breve ma torniamo al nostro video cosa succede se ad esempio voglio sublocare una casa nella quale io non ho la clausola di sublocazione beh è ovviamente illegale e andresti incontro a sanzioni elevate e rischi molto grandi quindi il mio consiglio è quello di sublocare solo se ti è stato concesso oppure chiedi successivamente al proprietario se può concederti in un secondo momento appunto la possibilità di sublocare il tuo immobile ma se utilizzi i contratti di bmb academy non ti preoccupare perché la sublocazione è sempre inclusa un altro vantaggio della sublocazione è quella di poter operare senza partita iva in maniera 100% legale questo perché sino a quattro immobili si può operare in forma non imprenditoriale e la forma non imprenditoriale dice che appunto puoi senza sforare i quattro immobili andare a pagare solo il 21% di tasse sfruttando la cedola resecca quindi un ulteriore grandissimo vantaggio che ti dà questo business è quello di non dover necessariamente aprire una partita iva per iniziare a provare a fare questo lavoro e a guadagnare anche le prime migliaia di euro perché appunto sino a quattro immobili indipendentemente dal guadagno puoi svolgere il tutto in forma non imprenditoriale senza patentini senza licenze senza laurea senza niente di tutto ciò ma quindi abbiamo visto che per noi che vogliamo guadagnare grazie al business degli affitti brevi questa è una manna dal cielo è una vera e propria oasi e i proprietari invece che tipologia di vantaggio hanno nel darci a noi il loro immobile che poi sublocheremo beh sicuramente c'è un rischio di morosità ridotto rispetto ad un inquilino solito perché un inquilino solito magari la moglie rimane incinta l'anziano si fa male ed è praticamente impossibile sfrattarli noi al contrario di queste persone faremo un business con questa casa quindi non vogliamo avere rogne non vogliamo avere problemi e soprattutto guadagneremo bei soldi quindi l'ultimo dei problemi sarà pagare il canone di fitto e ovviamente anche l'ultimo dei nostri desideri è quello di occupare abusivamente una casa quindi il rischio di morosità se una persona ci dà il suo immobile in sublocazione è nettamente più basso oltre a ciò il canone di fitto ogni mese è praticamente assicurato quindi il proprietario di casa non si deve preoccupare di nulla perché ancora una volta il nostro è un business stabile che genera migliaia e migliaia di euro ogni mese quindi non abbiamo problemi a pagare il canone di fitto andando avanti uno dei temi che spesso mi sono trovato ad affrontare in questi anni e anni e anni di esperienza è quello del mi distruggono l'immobile cosa sbagliatissima perché un incolino normale come può succedere a casa vostra se si fa un segnetto sul muro o se si rompe una gamba della sedia se ne frega perché casa sua noi al contrario dobbiamo essere precisissimi da questo punto di vista perché un ospite che ha pagato 140 euro a notte vuole trovare la casa in maniera impeccabile quindi se ad esempio io trovassi un graffietto all'interno del mio immobile lo sistemerei immediatamente se si rompe un qualcosa lo sistemo in tempo zero perché un ospite potrebbe trovarsi male lasciarmi una recensione negativa e come dire rovinare il mio business per una stupidaggine ed ecco perché in realtà con l'affitto breve noi teniamo l'immobile in uno stato migliore rispetto a quello spesso in cui lo abbiamo trovato e oltre a questo abbiamo un grande incentivo nel mantenere l'immobile immacolato ovvero un'assicurazione che airbnb ti dà gratuitamente per ogni immobile che pubblichi sino a 3 milioni di euro ciò significa che se un ospite mi fa un danno oltre a volerlo sistemare io per evitare brutte recensioni ho il grandissimo vantaggio di poterlo fare a spese di airbnb quindi non c'è nessun motivo al mondo per il quale io non debba voler sistemare un danno all'interno del mio immobile può capitare poi che alcuni proprietari chiedano delle caparre o delle fideiussioni inutile dirti che se sei in grado di adempiere diciamo a queste loro richieste il vantaggio sarà importante e avrai più probabilità di riuscire a convincere il proprietario di casa a darti il suo immobile in subloccazione se sei partito con l'idea di subloccare un immobile ma poi vedi che magari il proprietario non è convinto piuttosto che lasciarlo andare e buttarti a capofito sul prossimo puoi sempre ovviamente cercare di proporre a lui un property management dove magari anche lui percepisce meno rischi e maggiori benefici un'ultima leva delle numerose che spieghiamo all'interno bmb academy ma che ti voglio anticipare qui è quella del pagare diversi mesi di affitto in anticipo infatti uno dei modi per convincere il proprietario a darci il suo immobile in subloccazione può anche essere quello di pagare ad esempio sei mesi in anticipo così facendo non solo dimostreremo a lui una grande solidità e molto probabilmente ci darà in gestione del suo immobile ma ci permetterà anche magari di negoziare il canone e di chiedergli uno sconto devo essere onesto sulla subloccazione sul come convincere il proprietario eccetera 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 c'è un vero e proprio mondo mondo che ovviamente è rappresentato da bmb academy il corso più venduto in europa con oltre 4000 studenti e tradotto in ben quattro lingue questo è quanto ci vediamo nel prossimo video quest'oggi parliamo di gestione online quindi il gestire sì degli immobili su airbnb e booking ma non con la componente fisica quindi non dovendoci occupare dei check in dei check out delle pulizie che comunque non avremmo fatto noi e avremmo delegato e tutto ciò che comporta appunto l'avere a che fare con l'immobile fisicamente ma appunto di una gestione che riguarda solo ed esclusivamente gli annunci quindi la parte strategica di pricing rispondere alle richieste degli ospiti eccetera 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 partiamo da un presupposto perché esiste la gestione online ovvero chi è il proprietario che ci dà il suo immobile in gestione online è un qualcuno che quasi sicuramente già ha un immobile sulle piattaforme quindi fa già questo business semplicemente non ha degli ottimi risultati magari vive sopra sotto a fianco o nelle immediate vicinanze dell'immobile quindi dice guarda me ne voglio occupare io di tutto quella che è l'accoglienza piuttosto che già lo faccio voglio continuare a farlo io perché mi piace magari una persona anche in pensione che vede in questo tipo di attività un modo per svagarsi questo chiaramente comporta un provvigione più bassa al property manager per forza di cose perché ovviamente non si deve occupare di una serie di questioni chiamiamole così dall'altra parte però un grandissimo vantaggio ovvero voi una volta che arrivate alla pronotazione vi dimenticate completamente di quell'immobile oltre a questo un grande vantaggio è che chiaramente voi non dovete essere fisicamente dove si trova l'immobile esempio perfetto io ho delle ville in gestione ibiza e ibiza non ci sono mai stato in vita mia e non ho neanche interesse nell'andarci ora come ora quindi riesco a gestire degli immobili addirittura in località dove non sono mai stato o dove potenzialmente anche magari molto complicato andarci per via del luogo in cui vivo perché magari dall'altra parte del mondo non ne varrebbe la pena quindi la gestione online non è un compromesso della serie vabbè dai mi accontento in realtà è una grandissima opportunità anche perché abbiamo tantissimi studenti bnb academy a tal proposito vi ricordo che qua in descrizione avete ulteriori contenuti gratuiti di altissimo valore targate bnb academy tra cui una consulenza con il nostro team e dicevo quindi che molti studenti bnb academy si sono specializzati in questo tipo di attività quindi la sola gestione online per chi lavora sia con gestione online che gestione fisica il mio consiglio è di suddividere il tutto in due profili diversi perché comunque il check in non è in mano a voi se la persona in loco fa qualche errore magari vi arriva una recensione poco lusinghiera perdere lo status di super host per una cosa del genere secondo me non ha senso quindi in generale vi consiglio se fate entrambe le cose di suddividere da una parte il profilo per le gestioni online e dall'altra tutte le altre tipologie di gestione quindi il grandissimo vantaggio abbiamo detto essere quello di poter gestire immobili ovunque nel mondo ovunque voi siate e ovunque siano questi immobili stessi ed è anche una grande opportunità perché magari è capitato che degli studenti fossero magari in delle località in Italia o all'estero comunque dove non si sentivano particolarmente contenti di operare io stesso ho dimostrato in realtà che poi si può guadagnare in qualsiasi città del mondo però ovvio che a Isernia in Molise non genera i stessi incassi di una villa a Nizza o a Cannes o a Bogotà in Messico cioè è ovvio che il potenziale è diverso quindi ci sta che una persona che magari vive in una determinata zona voglia avere l'opportunità di guadagnare tanto sfruttando la gestione online e quindi da Isernia può gestire delle immobili a Miami Beach può gestire delle case a New York può gestire delle case a Tokyo senza nessun tipo di limite parte della gestione online poi può anche come dire includere l'adeguamento di determinate cose che nell'immobile non vanno bene quindi voi comunque in qualità di gestore online potete dire guarda dobbiamo rifare le foto piuttosto che guarda dobbiamo sostituire il televisore con un televisore smart per comunque far aumentare l'incasso all'immobile così come se uno si è dimenticato di fare l'iscrizione al portale alloggiati web cosa gravissima ovviamente voi in qualità di gestore online benché la responsabilità non sia vostra è vostro interesse comunicare alla persona che ha fatto degli errori quindi attenzione gestione online è nel quotidiano gestire appunto la parte online ma non significa non dover dare dei consigli o dei suggerimenti per tutto quello che riguarda in realtà poi la parte loco perché se la parte loco viene fatta male comunque ne risentite anche voi seppur siete dei semplici gestori online ma dunque perché una persona che ha già un immobile su Airbnb deve quindi affidarsi a noi perché non sta ottenendo risultati sperati magari ha anche un bel immobile ma prezzi sparati a caso minimo di notti senza nessun tipo di senso logico non utilizzano software come Bedligo per fare la ricerca di mercato e quindi hanno anche un potenziale gioiello tra le mani ma che non sanno valorizzare e quindi non sono tanto loro che magari vengono a cercare noi mi è capitato anche questo ma siamo noi che andiamo a cercare loro proponendoci appunto come potenziali gestori per la parte online dei loro annunci e le provisioni in questo caso sono comunque buone perché in norma si parla di un 10, 15, anche 20% nelle migliori ipotesi quindi comunque se a fine mese un immobile ha fatto magari 3000 euro io con un semplice 10% mi sto portando a casa 300 euro che per carità di Dio non sono tantissimi però se poi abbiamo 10 case così in gestione online che io posso gestire comodamente seduto dal divano di casa mia sono 3000 euro per lavorare da casa e gestire solo 10 case inutile dirvi che se poi diventano 100 magari ci mettete un anno e mezzo, due ma a 100 case poi diventano 30.000 euro al mese seguendo questa media quindi il potenziale è veramente elevato ma in qualità di gestori online che cosa andremo a fare? beh andremo a ovviamente migliorare l'annuncio a 360 gradi quindi il titolo suggeriremo appunto eventualmente la realizzazione di nuove foto andremo a migliorare la descrizione a sistemare i filtri ad anche ottimizzare l'annuncio cioè se andiamo incontro all'estate magari nel titolo menzioniamo l'aria condizionata mentre d'inverno magari andiamo a far leva sul fatto che c'è il riscaldamento a pavimento quindi si tratta anche di andare a seguire delle piccole strategie di marketing come quelle che seguiamo all'interno di B&B Academy ovviamente oltre a tutto ciò dovete fare tutto quello che di norma fareste per una gestione completa quindi poi anche alzare o abbassare i prezzi controllare le date calde che possono essere presenti in quella determinata zona rispondere ai messaggi degli ospiti che può sembrare tanto ma in realtà è veramente pochissimo perché sono cose che si fanno diciamo una volta alla settimana nel frattempo per chi non lo sapesse piccolo aneddoto sto costruendo una palestra privata di fianco al mio ufficio nella mia villa e ovviamente hanno iniziato a trappanare quindi spero che questi rumori di sottofondo non disturbino il video ma devo terminarlo se no poi perdo il filo del discorso un altro vantaggio della gestione solo online è che di norma ci andiamo a proporre a persone che già svolgono questo lavoro quindi sanno già il potenziale del business e dall'altra parte si spera che siano anche consapevoli del fatto che appunto il loro annuncio ha un grande margine di miglioramento quindi potete fare delle simulazioni delle proiezioni delle ricerche di mercato con Badly Go per far capire a loro qual è il potenziale del loro immobile se si affidano a voi è importante collegare questo aumento di fatturato al vostro expertise al fatto che solo grazie a voi si possono fare questi 1000 euro in più al mese non che l'immobile così cambiando due foto fa 1000 euro in più al mese 1000 euro poi chiaramente è un esempio devono essere ben consapevoli che solo grazie a voi che possono raggiungere questo incremento calcolate che nella mia esperienza pluriannale e poi ovviamente l'ho visto anche attraverso tantissimi studenti B&B Academy di norma una gestione professionale di un annuncio già esistente può anche raddoppiare o triplicare gli incassi oltre che chiaramente aumentare anche il tasso di occupazione e in generale il valore degli immobili che un domani in caso di rivendita e non sto parlando di rivoluzionare o ristrutturare l'immobile ma di andare ad intervenire principalmente su quella che è la parte online ecco perché di fronte ad un potenziale raddoppio o a un potenziale fatturato triplicato il nostro host sarà ben felice di darci in gestione il suo immobile online a patto di avere chiaramente tutte le competenze per fare ciò che non possono essere acquisite in un video di youtube di poche decine di minuti ma che ovviamente spieghiamo all'interno di B&B Academy oggi parleremo delle piattaforme di affitto breve comunemente chiamate anche OTA ovvero Online Travel Agencies quindi agenzie viaggi online le OTA sono fondamentali per questo business rispetto a quanto qualcuno possa credere ovvero mi creo il mio sito web e ottengo prenotazioni da lì no, dimenticatevelo è fondamentale lavorare con le OTA sino qualche anno fa in totale onestà ho sempre raccontato di Airbnb booking e VRBO ma consigliavo di lavorare principalmente con Airbnb da qualche anno a questa parte reputo booking una piattaforma fondamentale con la quale lavorare partiamo da un presupposto perché reputavo Airbnb l'unica piattaforma con la quale conveniva lavorare e perché escludevo booking e perché ad oggi questa cosa è cambiata beh perché Airbnb è l'unica piattaforma che ti dà un'assicurazione omnicomprensiva che non ha bisogno di periti non ha bisogno è molto diciamo autogestita come assicurazione in ambito affitto breve quindi un ospite mi fa un danno gli mando la foto del danno gli alleggo un preventivo Airbnb paga letteralmente funziona così mentre booking dall'altra parte ha un sistema di solo RC quindi effettivamente è un'assicurazione che ti copre solo se succede qualcosa di grave all'ospite se l'ospite ti rovina il piano cottura ti arrangi a quel punto ci sono ovviamente tutta una serie di strategie con le quali si possono recuperare i soldi senza andare a denunciare l'ospite le spieghiamo ovviamente dentro Airbnb Academy però sono comunque funzionamenti diversi rispetto all'avere veramente una piattaforma che fattura miliardi che ti paga in pochissime ore quindi ecco perché abbiamo sempre preferito Airbnb oltre a ciò devo essere onesto anche l'applicazione di Airbnb è più semplice da utilizzare rispetto a quello di booking l'assistenza di Airbnb funziona meglio e le commissioni sono leggermente più basse dall'altra parte però negli anni le prenotazioni da booking iniziano ad essere diciamo più presenti quindi rappresentano una fetta più grossa della revenue del fatturato dei miei immobili talvolta alcuni immobili sembrano funzionare meglio su booking rispetto ad Airbnb ed ecco perché abbiamo mantenuto ovviamente all'interno della nostra accademia di formazione tutta una serie di moduli su booking e addirittura siamo andati poi ad aggiornarli a migliorare il tutto quindi ad oggi chiunque entra in Airbnb Academy trova in ugual modo spiegato sia Airbnb che booking con relativi pro e contro di ognuno di esso quindi fatta questa doverosa precisazione perché a livello di comunicazione spesso menzioniamo solo Airbnb ma in realtà lavoriamo molto anche con booking andiamo a capire perché sono fondamentali queste OTA queste piattaforme sono fondamentali innanzitutto perché ci permettono di lavorare anche qui ad investimento zero che è una parola a me molto cara come avrete potuto notare io adoro il fatto che si possa fare business senza necessariamente investire ma ciò non significa che queste piattaforme sono delle Ollus non sono un ente benefico queste piattaforme comunque guadagnano ma quando guadagnano non quando pubblichiamo un annuncio cioè non è che io devo pagare 10 euro per pubblicare l'annuncio ma guadagnano dal momento in cui io ottengo una prenotazione quindi se io pubblico un immobile non ottengo mezza prenotazione non pago niente se ottengo 10 prenotazioni pagherò una provvigione su queste 10 prenotazioni provvigione di Airbnb orbita torno al 15% circa se vi accollate tutti i costi voi oppure poi ci sono delle metodologie dove un po' pagate voi un po' paga l'ospite ma questo secondo me un po' disincentiva il fatto che uno vi scelga e a quel punto la commissione orbita diciamo dal 3 al 5% poi ci sono le variabili dove c'è anche da pagare l'iva però di norma diciamo Airbnb gli scaglioni sono 3, 4, 5 e 15% mentre Booking la commissione può aumentare o diminuire in base ad alcune diciamo scelte che potete fare quindi se volete più visibilità Booking si trattiene più provvigione però orbitiamo su un 18-20% di provvigione da Booking a questo punto uno potrebbe dire Ludovico ma io vado tutta la vita su Airbnb e chi se ne frega di andare su Booking se è una provvigione così alta non mi conviene beh quello che io consiglio sempre è di mettere comunque un prezzo più alto su Booking in maniera tale che io vado a compensare effettivamente questo diciamo squilibrio che c'è a livello di provvigione nei confronti della piattaforma olandese perché Booking è olandese mentre Airbnb è americana detto ciò come dicevo all'inizio praticamente nessuno affitta con un proprio sito web personale che poi può essere fatto a determinate condizioni ha senso solo secondo me se avete tanti immobili bene o male tutti nella stessa zona eccetera 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 ma lavorando con queste piattaforme come Airbnb e Booking e c'è anche VRBO VRBO chiamatelo come volete ma veramente ne arriva una all'anno di prenotazione non abbiamo bisogno di ads quindi lavoro con queste piattaforme non devo fare pubblicità Facebook Marketing Instagram Marketing eccetera 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 non devo fare sales page non devo fare email marketing non devo preoccuparmi che ah guarda il sito web oggi non funziona devo chiamare webmaster no tutte queste cose qui lavorando con queste piattaforme non devono essere fatte e io oggi che ho esperienza pluriannale potrei anche decidere di investire in questo tipo di struttura ma una persona che parte con questo business con una casa due case tre case andare a investire migliaia di euro nella realizzazione di un sito web dove poi devi starci dietro cookie policy GDPR eccetera 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 è molto complicato e un'altra cosa è che poi in realtà la forma non imprenditoriale presuppone il fatto che voi proprio non abbiate un sito web quindi se tu operi senza partita IVA che è uno dei grandissimi vantaggi di questo business di cui abbiamo parlato più e più volte se operi senza partita IVA non puoi avere un tuo sito web perché quello significherebbe essere invece imprenditoriale al contrario puoi pubblicizzarti sui siti già presenti come Airbnb Booking volendo anche Subito.it che secondo me non c'entra assolutamente nulla con il nostro business c'è qualcuno che lo fa ma io lo sconsiglio caldamente perché la qualità della clientela su Subito.it è bassissima c'è sempre il rischio di truffe di rotture di scatole mentre con Airbnb Booking si sta tranquilli perché si sta tranquilli anche perché se succede qualcosa un ospite avanza un qualche tipo di richiesta assurda noi abbiamo le piattaforme che fungono anche un po' diciamo da giudice cioè se un ospite pretende di cancellare il giorno prima di arrivare e lo fa su Airbnb Airbnb non lo rimborsa perché ho dei termini di cancellazione magari che appunto impongono il fatto che lui non venga rimborsato mentre se uno ha pagato col bonifico e voi non lo rimborsate magari inizia con ah ti denuncio l'avvocato di qua di là e vi ritrovate a gestire delle rotture di scatole incredibili piuttosto che come dicevo prima succede un danno con Airbnb posso rivalermi con Booking ci sono altre metodologie per rivalersi col bonifico bancario è veramente difficile andare a bonifico PayPal con tanti quel che l'è è difficile andare a appunto riscuotere eventuali risarcimenti danni quindi le piattaforme sono le nostre migliori amiche nei gruppi Facebook di Ostar Airbnb Italia insomma tutti questi questi gruppi da certi punti di vista molto utili devo essere onesto spesso le persone demonizzano queste piattaforme ah perché Booking chiede tantissimo io odio le piattaforme io boicotto io boicotto se non sapete lavorare con le piattaforme il problema è vostro il problema non è della piattaforma cioè Airbnb e Booking hanno milioni di utenti hanno milioni di host in tutto il mondo quindi se voi avete problemi con quelle piattaforme è probabilmente perché voi non sapete lavorare quindi se tu che stai guardando questo video hai problemi con Airbnb o hai problemi con Booking probabilmente perché non hai la giusta formazione non hai sufficiente esperienza per lavorare bene ma venire a dire che Airbnb o Booking rovinano il business è errato perché in realtà se io ho generato i guadagni che ho generato e se migliaia di persone che si sono affidate a Airbnb Academy fatturano le cifre che fatturano è proprio grazie a Airbnb e Booking quindi ci tengo a specificare che queste piattaforme sono una vera e propria manna dal cielo per noi e oltre a questo piattaforme come Airbnb e Booking hanno letteralmente decine o centinaia di milioni di utenti che quotidianamente vanno ogni giorno su queste piattaforme a prenotare il loro soggiorno perché non è che quando uno prenota il mio Airbnb parte col presupposto di voglio prenotare il Airbnb di Ludovico in quella via con quella vista no fa una ricerca su queste piattaforme imposta dei filtri ad esempio voglio l'aria condizionata dal wifi eccetera e poi compare il mio annuncio quindi se quella persona arriva a prenotare il mio annuncio è in parte perché la piattaforma è famosa investe in marketing eccetera e poi in parte perché io grazie alle mie competenze ho creato degli annunci che sono accattivanti e che invita la gente diciamo a prenotare i miei annunci e non quelli altrui però diciamo che se io facessi semplicemente un annuncio bellissimo pubblicato sul mio sito sconosciuto probabilmente non otterrei prenotazioni quindi è fondamentale capire che bisogna avere padronanza di queste piattaforme ed è fondamentale a meno che non siete super influencer con milioni di follower che fate una storia e riempite la casa per un anno va bene ma non penso sia il vostro caso a quel punto è fondamentale lavorare con queste piattaforme perché ripeto ancora una volta hanno centinaia di milioni di clienti in tutto il mondo se non miliardi probabilmente a questo punto e io stesso Ludovico quando ho prenoto vado su Airbnb o vado su Booking quindi è importantissimo detto ciò ho detto non bisogna investire in marketing ma bisogna fare marketing sono due cose diverse investire in marketing significa deve esserci un esborso economico e questo noi non lo dobbiamo fare ma dobbiamo comunque saper fare marketing su queste piattaforme per nostra fortuna non è un marketing a pagamento è un marketing composto da il giusto titolo la giusta descrizione la giusta disposizione delle foto creare un annuncio che sia graficamente accattivante andare incontro alle esigenze degli ospiti cercando di capire di che cosa può aver bisogno uno durante il soggiorno differenziarsi dalla concorrenza e tanto altro ancora quindi marketing sì marketing a pagamento no poi come dicevo all'inizio in realtà Booking ti permette di fare marketing a pagamento ma non ti dice investi 100 euro in budget pubblicitario ti dice dammi una percentuale un po' più alta e io spingo di più il tuo annuncio è una cosa che io personalmente non faccio mai perché i miei immobili sono pieni senza fare questo genere di lavoro chiamiamolo così anche perché se sono in sublocazione chiaramente vado ad erodere i miei margini se sono in property management guadagno meno ancora magari una persona lo fa proprio perché non sa lavorare con il marketing organico perché noi poi quando parlo di marketing ad investimento a zero significa essere organici cioè io senza spendere un euro riesco a colpire l'attenzione di quella persona lì mentre se non so lavorare in maniera organica è ovvio che magari avrò una propensione a pagare Booking di più e quindi lo stesso risultato che potrei ottenere gratuitamente avendo le giuste competenze lo devo ottenere pagando una provvigione più alta alla piattaforma scusate se ogni tanto guardo a destra e a sinistra faccio un monitor enorme da una parte vedo la mia faccia da una parte vedo gli appunti da una parte ho la fotocamera e posso sembrare un attimo strabico detto ciò ho qui gli appunti che mi sono fatto per questa per questa lezione perché si può lavorare di marketing organico perché ci sono degli algoritmi ben specifici che ovviamente noi da anni studiamo perché poi variano anche e ad esempio ci siamo resi conto che la maggior parte degli annunci su Airbnb non ha il filtro frigorifero ora è ovvio che il 99% delle case presenti su Airbnb il frigorifero ce l'ha ma una semplice dimenticanza come questa fa sì che se un potenziale ospite mette tra i filtri di quando cerca casa frigorifero la vostra casa non compare perché voi il filtro frigorifero non l'avete spuntato quindi in parole povere voi il frigorifero potete averlo potete averlo fotografato può essere il frigorifero migliore del mondo ma se voi non avete spuntato il filtro frigorifero e l'ospite quando fa una ricerca che è normalissimo inserisce il filtro frigorifero il vostro annuncio non compare potete avere anche il frigorifero col televisore integrato più bello e più costoso del mondo ma voi non comparite quindi gli algoritmi funzionano sia a filtri quindi più filtri io host riesco a spuntare più probabilità ho di comparire ma poi se mi compaiono altre 100 case io a quel punto devo lavorare di marketing organico quindi il mio annuncio deve in qualche modo catturare l'attenzione dell'ospite rispetto agli altri e per assurdo io talvolta ho case esteticamente peggiori rispetto ai miei competitor ma ho dei numeri migliori perché a livello di annuncio riesco a catturare di più l'attenzione quindi catturare l'attenzione non significa necessariamente avere la casa arredata Armani Casa o i leoni d'oro dentro no significa valorizzare quello che abbiamo ma soprattutto a livello comunicativo e percettivo saper colpire l'attenzione del potenziale ospite e proprio per questo motivo è molto importante al giorno d'oggi dove comunque la concorrenza sicuramente è più agguerrita rispetto al passato andare a distinguersi perché altrimenti ripeto l'annuncio non viene prenotato infatti spesso le persone mi dicono Ludovico ma io la casa la posso pubblicare su Airbnb anche senza il tuo corso bene prego fallo fammi sapere poi che risultati ottieni oppure tante persone mi dicono io già lavoro su Airbnb e Booking ma le cifre di cui parli tu non riesco a generarle ecco perché non riesci a generarle perché l'opportunità è la stessa per tutti ma è come dare in mano una supercar ad uno che ha fatto il corso da pilota e a uno che il corso da pilota non l'ha fatto quello che il corso da pilota non lo ha fatto si schianta contro il muro o alla peggio non sa neanche come accendere l'auto uno che ha fatto il corso da pilota con quell'auto lì ti fa magari il record della pista e il paragone è lo stesso se non hai studiato puoi comunque avere un immobile su Airbnb assolutamente lo puoi comunque caricare lo puoi avere ereditato lo puoi aver comprato per pura fortuna sei riuscito a convincere un proprietario ma se poi non hai le giuste competenze per valorizzarlo ti bruci solamente quell'opportunità lì e tutto sommato poi l'investimento per imparare a formarsi è ridicolo perché parliamo comunque di una cifra esigua rispetto al potenziale di questo business una roba che un mese due mesi esagerare tre mesi di lavoro e ti sei ripagato il costo del corso ma poi ti rimane per tutta la vita questo genere di competenze e a quel punto una volta che ti sei ripagato il corso dopo uno due tre mesi è tutto guadagno è tutto grasso che cola da qui al resto della vita e non è che poi ogni immobile devi rimparare il corso o ristudiare il corso o riacquistare il corso no in realtà una volta che impari quello lo puoi applicare per letteralmente qualsiasi tipo di immobile in qualsiasi parte del mondo qualsiasi tipologia di casa che sia un appartamento o una villa detto ciò tornando a parlare delle piattaforme perché le percentuali di cui abbiamo parlato prima sono comunque meritate beh perché se dovessimo metterci a fare pubblicità servizio clienti marketing eccetera ci costerebbe molto di più di quello che in realtà poi noi paghiamo a queste piattaforme che sono Airbnb e Booking quindi ne vale comunque la pena però è importante come ho detto in un video precedente pianificare bene l'investimento che stiamo andando a fare o l'immobile che stiamo andando ad acquisire perché se uno acquisisce senza cognizione di causa senza analizzare il costo di affitto se parliamo di sublocazione eccetera 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 ci sta che poi la provvigione che diamo ai portali possa essere elevata ma se uno invece si fa i calcoli prima di partire beh è impossibile sbagliare o comunque è molto poco probabile oltre a questo continuando a parlare di piattaforme è bene sapere ed essere a conoscenza del fatto che ci sono dei parametri ben precisi che influenzano l'algoritmo delle piattaforme come Airbnb e Booking ad esempio il numero di recensioni la media delle stelline che abbiamo su Airbnb si va da 1 a 5 stelle su Booking si va da 1 a 10 come valutazione numerica il numero di prenotazioni che ho ottenuto in passato il numero di click cioè di mille persone che guardano l'annuncio quante hanno cliccato se Lost ha messo tanti filtri se Lost ha completato tutti tutti i campi a sua disposizione ad esempio tantissime persone lasciano interi campi vuoti e hanno una descrizione di due righe questo non va per niente bene il titolo le fotografie quante foto sono che non devono essere né troppe né troppo poche insomma ci sono tanti parametri di cui tener conto come ho detto in precedenza ci sono le piattaforme principali che sono Airbnb Booking ce ne sono tante secondarie essere su tutte le piattaforme non costa nulla però è importante essere a quel punto sgamati e sincronizzare tutte queste piattaforme nel senso evitare l'overbooking ovvero il fatto che una stessa data esempio 31 dicembre venga prenotata su più piattaforme perché poi lì nascono dei problemi abbastanza importanti quindi io personalmente lavoro principalmente con Airbnb Booking ci sono tante piattaforme secondarie come ho detto in precedenza è molto raro che portino prenotazioni ma se volete provare più piattaforme potete farlo l'importante è che sincronizziate tutti i calendari in maniera tale che evitiate l'overbooking poi c'è anche da dire che un'altra rottura di scatole è che chiaramente se fate una modifica ad esempio aggiungete una stufetta poi questa modifica dovete andare manualmente ad impostarla su tutti gli annunci quindi su Airbnb su Booking e anche sugli altri o se al contrario iniziano a fare dei lavori e montano un'impalcatura all'interno del vostro non all'interno all'esterno del vostro immobile dovete segnalare questa cosa altrimenti un ospite potrebbe arrabbiarsi ricordatevi ovviamente di aggiornare sia con le cose belle sia con le cose meno belle tutti gli annunci altrimenti uno magari prenota su VRBO vi eravate dimenticati di scrivere che c'era l'impalcatura arriva l'ospite l'ospite è insoddisfatto vi lascia una recensione negativa e magari richiede anche un rimborso alla piattaforma tutto questo per una dimenticanza circa una segnalazione che dovevate fare su questa piattaforma quindi mi raccomando fate attenzione se decidete di dedicarvi ad ulteriori piattaforme dovete dedicarvici al 100% senza dimenticarvi nulla e senza trascurarle e ricordatevi alla fine che l'importante è avere i calendari pieni quindi se voi riuscite a riempire solo con Airbnb o con Airbnb e Booking siete pieni avete un tasso di occupazione soddisfacente o del 100% è assolutamente inutile essere su 100.000 altre piattaforme chi se ne frega noi siamo qui per guadagnare e avere i calendari pieni quindi se non abbiamo i calendari pieni ok proviamo altre piattaforme ma se avete già i calendari pieni che vi importa di andare a pubblicare l'annuncio anche su altre piattaforme tant'è che poi io alcuni immobili ce li ho effettivamente solo su Airbnb ancora il giorno d'oggi e tante persone della nostra community continuano ad avere i loro immobili solo ed esclusivamente su Airbnb quindi non è indispensabile assolutamente pubblicarli su tutte le piattaforme se avete un quantitativo soddisfacente di prenotazioni se non vi soddisfano allora andate anche su altre piattaforme assolutamente bene per questa lezione è tutto ricordatevi sempre di curare i vostri annunci ricordatevi che le valutazioni sono importantissime quindi se un vostro annuncio ha delle recensioni negative fate qualcosa per sistemare questa situazione in Airbnb Academy spieghiamo come si possono rimuovere le recensioni spieghiamo come rispondere a queste recensioni spieghiamo come e quando eventualmente ha senso rifare un altro tipo di annuncio e ci vediamo nel prossimo video quest'oggi video diverso dal solito perché non porto io un tema abbiamo già affrontati tanti e prossimamente ne affronteremo tanti altri ancora ma risponderò alle vostre domande che avete lasciato sino ad oggi nei commenti dei video precedenti della serie affitti brevi in 30 giorni primo commento è un complimento e mi fa estremamente piacere infatti FlaccoBel969 dice il migliore nel settore chi si perderà pure questa occasione sarà un vero pollo grande Ludovico beh grazie a te per il supporto abbiamo formato oltre 4.000 studenti Airbnb Academy l'accademia di formazione più grande d'Europa quindi sicuramente sì chi si perde anche un'occasione irripetibile come questa è sicuramente un pollo o come dico io un fagiano andando avanti abbiamo Fabio Rosica che spero non stia rosicando scherzi a parte Fabio mi ha fatto una domanda alla quale ho già risposto ma ne approfitto per argomentarla ancora maggiormente Ludovico con tutta la tua esperienza ti è mai capitato sia personalmente che con uno dei tuoi account o uno dei tuoi studenti di essere bloccato preventivamente da Airbnb per diversi giorni perché Airbnb stessa ritiene che ci siano aspetti all'interno delle varie strutture che potrebbero recare danni agli ospiti tipo una presunta fuga di gas ed una volta risolto il tutto e ripristinato l'account quanto verrà penalizzato devo essere onesto sì mi è successo e questo può succedere principalmente quando gli ospiti che soggiornano all'interno della struttura chiamano Airbnb e gli dicono guarda che non lo so qua sta cadendo il soffitto a pezzi piuttosto che c'è una fuga di gas e giustamente Airbnb per tutelare i potenziali futuri ospiti blocca la struttura fino a che tu non sei in grado di produrre la documentazione che attesta che questo non è un pericolo reale o che qualora ci fosse stato un pericolo reale tu lo hai prontamente risolto quindi se ad esempio viene segnalato che tu hai una fuga di gas ti basta far venire un tecnico che attesti che non c'è nessuna fuga di gas se ti accusano del fatto che il tetto sta crollando ti basta produrre un video dove si vede che il tetto non sta crollando ora alcuni di voi potrebbero spaventarsi e dire caspita Ludovico ma succedono anche queste cose beh devo essere onesto mi è successa una volta faccio questo lavoro ormai da 6 anni centinaia di proprietà quindi la probabilità che accada un qualcosa del genere è veramente minima però dall'altra parte è bene che Airbnb tuteli eventuali ospiti se ciò è veritiero cioè se veramente c'è una fuga di gas è bene che effettivamente non ci vada nessuno nella casa quindi è una cosa che io apprezzo molto da parte dei portali come appunto Airbnb e Booking che cercano di tutelare l'ospite e garantiscono anche a noi host diciamo di avere una nomea una fama migliore dopodiché Nick Andronache mi chiede se è possibile fare un milione di euro netti nell'arco di un anno assolutamente sì è possibile tutto è possibile anche 10 milioni di euro netti l'importante è iniziare da qualche parte infatti tante persone mi fanno domande posso arrivare a guadagnare 10.000 euro al mese sì ma non deve essere il tuo primo obiettivo il tuo primo obiettivo deve essere innanzitutto studio come funziona questo business acquisisco la prima proprietà poi la seconda poi la terza poi la quarta e in man che non si dica magari senza neanche accorgertene sei arrivato ai famosi 10.000 euro al mese ma se tu pensi di passare da 0 a 10.000 in due giorni è ovvio che non ce la farai quindi è importante secondo me darsi dei micro obiettivi più bassi quindi voglio fare i primi 1.000 euro al mese poi 2.000 poi 3.000 4.000 e nel giro di qualche mese un anno potresti arrivare a guadagnare anche 10.000 euro al mese dopodiché sì certo è possibile fare un milione di euro netti all'anno però ci vuole del tempo per costruirsi un portfoglio come ad esempio il mio che a distanza di tempo poi potrà generare queste cifre e vi ricordo che secondo me questo è l'unico business dove veramente si può ambire a determinate cifre perché l'e-commerce è molto complicato devi avere stock per iniziare devi avere la partita IVA hai la concorrenza di negozi online enormi come Amazon e perché qualcuno dovrebbe acquistare quel prodotto dal tuo sito quando può averlo con Amazon il giorno dopo con la consegna di un giorno ecco perché indipendentemente dal fatto che voi vogliate guadagnare 3.000 5.000 10.000 o 1.000.000 l'affitto breve è l'unica strada per riuscirci e io e i miei migliaia di studenti ne siamo la prova definitiva ma proseguiamo con i commenti che devo essere onesto non sono tantissimi però ci sono significa che evidentemente sono molto chiaro nell'esposizione se non c'è bisogno di fare troppe domande Mauro dice top in un mio video mi fa piacere e sempre Mauro dopo averci detto top chiede quanto costa il corso base di B&B Academy allora non esiste una vera e propria risposta perché ormai i nostri percorsi sono praticamente personalizzati hai bisogno di consulenze non hai bisogno di consulenze preferisci avere un extra non un extra quindi il mio consiglio è quello di contattare il nostro team attraverso la famosa consulenza gratuita che trovate qua in descrizione spiegargli le vostre esigenze le metodologie di pagamento se dovete o volete dilazionare l'acquisto e sulla base di questo vi verrà creato un pacchetto ad hoc in linea con quello che è il vostro budget e le vostre aspettative procediamo con RealWorld2310 che chiede ciao Ludovico ho acquistato B&B Academy pochi giorni fa una domanda ma i tuoi annunci su Airbnb si possono visualizzare? hai un link? sarei curioso beh, tralasciando che all'interno di B&B Academy analizzo tutti i miei annunci quindi sì all'interno di B&B Academy troverai questo link e diciamo su YouTube preferisco non esporlo perché non pubblicizzo troppo i miei annunci? per il semplice fatto che comunque ci sono delle location dove opero che sono delle vere e proprie chicche e voglio che questi luoghi altamente profittevoli siano come dire conosciuti solo ed esclusivamente dalla mia community ma oltre a questo mi è capitato in passato purtroppo che qualcuno per farmi un dispetto prenotasse le mie strutture ricettive al solo fine di farmi un danno quindi magari mi prenotava e poco prima di arrivare cancellava solo per farmi un dispetto piuttosto che qualcuno prenotava neanche soggiornava e poi mi lasciava una stella per ripicca perché facevano ciò? perché comunque sono un personaggio pubblico sono un personaggio molto famoso a tante persone purtroppo sto antipatico semplicemente perché guadagno molto denaro è brutto dirlo e quindi per tutelarmi cerco di pubblicizzare il meno possibile i miei annunci e soprattutto ho creato diversi account così se anche uno magari riescono a trovarlo poi gli altri quattro non possono trovarlo e quindi non possono arrecarmi nessun tipo di danno quindi mi spiace su youtube il mio link non lo faccio vedere ma dentro la community B&B Academy si Marco dice wow e riqualifico affitto dice ottime riflessioni il che mi fa piacere perché significa ancora una volta che i miei video sono chiari ma proseguiamo Taormina Central Appearment dice la cosa più importante di cui tener conto è che con la partita IVA pago il 5% anno sul fatturato senza partita IVA ci pago il 21% e su 30.000 euro di fatturato di cui solitamente la metà dei costi sono traffitto eccetera eccetera il 21% sono quasi la metà dei miei guadagni chiama riflessi al governo meglio la partita IVA soprattutto se si ha già una busta paga si può anche chiedere l'esenzione dei contributi IMS assolutamente sì quello che dice Taormina Central Appearment è giusto in determinate casistiche la partita IVA è più conveniente ma quando noi diciamo questo business lo puoi fare senza partita IVA è vero cioè non stiamo dicendo farlo senza partita IVA è più conveniente ma stiamo dicendo se hai paura se non te la senti di aprire la partita IVA sappi che questo business lo puoi fare anche senza aprirla poi sulla convenienza o meno della partita IVA non voglio come dire addentrarmi perché ci sono mille casistiche però sì vi confermo che appunto quello che dice Taormina Central Appearment è corretto delle volte con una partita IVA forfettaria si può guadagnare molto di più a parità di importo incassato perché la tassazione è minore quindi giustissimo quello che dice Taormina Central Appearment è inutile dirvi che all'interno di B&B Academy questi temi vengono affrontati in ore e ore e ore di lezioni fatti dallo studio allievi nostro partner dal punto di vista fiscale quindi non preoccupatevi che se decidete di entrare nella nostra community B&B Academy con oltre 4.000 persone queste tematiche verranno analizzate da cima a fondo e capirete in men che non si dica qual è la miglior soluzione per la vostra situazione andando avanti Tori4548 dice ciao Ludovico ma di solito se uno opera con il regime forfettario della partita IVA anche se ha meno di 4 immobili potrebbe essere più conveniente eccetera 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 corretto quindi ancora una volta in realtà la tematica è la medesima ho già risposto sì delle volte può essere più conveniente ciao Ludovico sono un tuo studente da un mesetto se all'inizio rimango senza partita IVA Airbnb mi trattiene dal mio compenso in automatico il 21-26% dal secondo immobile in poi come sostituto d'imposta l'ho letta male però il senso voleva essere se opero senza partita IVA Airbnb mi trattiene in automatico il compenso della cedolare secca sì corretto te lo trattiene in automatico ma puoi richiedere comunque l'esenzione se per qualsiasi motivo tu non pensi che sia corretto o non vuoi che Airbnb ti trattenga la cedolare secca in automatico puoi richiedere l'esenzione e poi te la smazzi tu quindi dichiarerai tu in dichiarazione di erediti o attuerai insomma il regime fiscale che reputi più consono quindi sì te lo trattieni in automatico ma puoi inibire questa funzionalità ti basta contattare l'assistenza di qualifico affitto ancora una volta mi dà una piccola soddisfazione dicendomi sono d'accordo rispondendo al mio video sugli affitti brevi senza partita IVA e Alessio Albanese 6371 mi dice ciao Ludovico sarebbe interessante oltre alla sublocazione del property management evidenziare quanto potrebbe rendere ad esempio un ipotetico immobile di proprietà con spese annesse quindi tari imu bollette condominio eccetera 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 che non sono presenti in sub e in property management per capire quale guadagno netto ci sia nonostante resti il 100% dell'incasso concordo con te Alessio valuteremo se includere questo tema nella serie affitti brevi in 30 giorni dobbiamo fare un po' di simulazioni per portare un caso studio reale posso dirti senza entrare nel merito di quanto pago di imu eccetera eccetera perché onestamente non me ne occupo io se ne occupo la mia segretaria però che trovo convenienza nell'acquistare degli immobili io personalmente la marginalità inutile dirti che è molto più alta rispetto ad una sublocazione a un property management proprio perché il 100% dell'incasso rimane a noi ed è conveniente proprio perché appunto è tutto internalizzato poi è ovvio che se succede qualcosa non vado io a sistemare quell'immobile o non vado io a fare i check-in e quindi non sono io il referente e il loco di quell'immobile perché vivo all'estero però ti confermo che se gestisci tu tutto come property manager e hai una persona di fiducia che all'occorrenza va a fare il check dell'immobile e quant'altro rimane è molto conveniente soprattutto se fai un mutuo dando un piccolo anticipo e la rata mensile te la ripaghi ampiamente dal reddito che viene generato dal tuo appartamento e anzi ti avanzano anche soldi con quei soldi che ti avanzano puoi decidere di saldare il mutuo con largo anticipo o semplicemente di tenerteli in tasca quindi ti inizio a rispondere che è decisamente più conveniente e poi eventualmente faremo un video più approfondito andando avanti Andrea se il proprietario dovesse chiederti cosa succede se rimane sfitto l'immobile cioè cosa succede se non si riesce ad affittare per esempio per un mese lui può incolparti del mancato guadagno anche se noi diciamo chiaramente che non ha nessun vincolo con noi e può affittarlo quando vuole una conseguenza reale c'è un po' di confusione comunque no il proprietario non può dire nulla dal momento in cui firma in property management accetta il rischio d'impresa ovviamente può sempre lamentarsi con te può esprimere il suo disappunto ma non può denunciarti per un mancato incasso perché soprattutto se tu hai agito in buona fede senza sabotarlo senza fare dispetti e adempiendo a tutti gli obblighi diciamo di legge quindi senza fare stupidaggini seguendo il metodo B&B Academy dalla A alla Z nessuno può accusarti ripeto poi se è insoddisfatto può mandare una disdetta ma non puoi doverci mettere tu di tasca tua i soldi che eventualmente avrebbe dovuto incassare e poi devo essere onesto non mi è mai successo in 4 anni di B&B Academy che uno studente mi dicesse Ludovico non sono riuscito ad affittare e il proprietario è insoddisfatto può essere che ci sia un qualche tipo di diciamo disappunto con il proprietario magari in virtù di altre questioni ma non ho mai sentito di un immobile che nei periodi in cui sarebbe dovuto essere affittato è stato vuoto poi è ovvio che se questa persona pretende di fare un sacco di soldi a dicembre con un immobile non lo so in Sardegna dove si lavora d'estate lì è stupidaggine però se parliamo di un immobile in Sardegna impossibile che tu d'estate non lo vada a riempire se parliamo di un immobile in una grande città impossibile che tu non riceva prenotazioni 12 mesi l'anno soprattutto se segui il metodo B&B Academy e a tal proposito vi ricordo che qua in descrizione trovate dei regali dei bonus completamente gratuiti quindi non puoi incolparti e se ti chiede cosa succede se rimane sfitto gli rispondi io sono un professionista faccio delle ricerche di mercato e vado incontro alla domanda quindi se c'è della domanda in quella determinata zona in quel determinato periodo stia pure tranquillo che noi le andremo ad intercettare e otterremo prenotazioni ed infine siamo giunti all'ultimo commento di DADEP81 che mi dice sempre sul pezzo quindi un ennesimo complimento oggi parleremo di un paio di temi non durerà molto probabilmente questo video che sono principalmente la disoccupazione e i dipendenti pubblici che sono domande che mi vengono fatte molto spesso partiamo dalla disoccupazione se io sono disoccupato e percepisco chiaramente la Naspi posso fare il business degli affitti brevi vi ricordo che il business degli affitti brevi è uno dei pochissimi business che si può fare in forma non imprenditoriale ciò significa che si può fare senza l'obbligatorietà di avere una partita IVA ora vi consiglio sempre di parlare con il vostro commercialista però essendo appunto un business che può essere svolto in forma non imprenditoriale quando noi lavoriamo in forma non imprenditoriale abbiamo una serie di vantaggi il primo vantaggio chiaramente non dover aprire la partita IVA il secondo vantaggio è poter pagare l'acedolare secca che varia dal 21 al 26% un altro grandissimo vantaggio è quello che essendo appunto praticamente equiparabile soprattutto quando si fa la forma di locazione turistica ad un reddito d'affitto classico anche se siamo dipendenti pubblici e anche se stiamo percependo la disoccupazione possiamo guadagnare dai immobili perché? perché se ad esempio io Ludovico fossi disoccupato ma avessi un immobile che io ho messo a reddito posso continuare a percepire la disoccupazione così come se io Ludovico sono possessore di un immobile e lo metto a reddito e lavoro come dipendente pubblico posso comunque continuare a percepire questo reddito perché è un reddito da locazione ovviamente dipende di che immobili stiamo parlando nel senso che se avete un immobile che di fitto vi genera 10.000 euro al mese è bene controllare col commercialista che la vostra posizione sia compatibile comunque con la disoccupazione ma per il resto se siete dipendenti pubblici sino a 4 immobili potete operare in forma non imprenditoriale e nessuno può dirvi nulla diverso è chiaramente se siete dipendenti pubblici e volete aprirvi una partita IVA dovete chiedere l'autorizzazione al vostro datore di lavoro eccetera eccetera quello è un percorso che se siete dipendenti pubblici sapete già probabilmente come svolgere però la cosa positiva è che quindi anche se siete percettori di NASPI piuttosto che dipendenti pubblici si potete entrare nel business degli affitti brevi cosa che ad esempio non potreste fare con un business di Amazon FBA piuttosto che dropshipping perché richiedono la partita IVA sin da subito prima ancora di iniziare a fatturare un altro discorso un'altra chicca è che se ad esempio siete percettori di NASPI quindi di disoccupazione e aprite una partita IVA forfettaria per magari iniziare questo business di affitti brevi tutto quello che vi spetterebbe da qui ai prossimi mesi o anni vi viene erogato immediatamente ve la spiego in maniera ancora più semplice se io Ludovico fossi un percettore di disoccupazione e il mio plafond chiamiamolo così da qui ai prossimi sei mesi è di 10.000 euro al posto di aspettare i prossimi sei mesi che mi vengano erogati mese dopo mese questi soldi di disoccupazione posso dire ehi io ho aperto una partita IVA forfettaria per fare il mio business di affitti brevi posso avere questi 10.000 euro immediatamente a supporto della mia attività imprenditoriale piuttosto che spalmarli nei prossimi sei mesi sì hai diritto a ricevere questo denaro poi in realtà non devi obbligatoriamente investirli nella tua attività però sappiate che un vostro diritto se siete in regime di disoccupazione e aprite una partita IVA forfettaria ricevere immediatamente tutto quello che vi spetterebbe nei prossimi mesi o anni vi ricordo che queste tematiche vengono ampiamente approfondite all'interno di B&B Academy con dei video molto più articolati fatti in collaborazione con dei professionisti di settore ci vediamo nel prossimo video oggi parliamo di marketing per affitti brevi abbiamo sentito milioni di volte di quanto il marketing sia importante per le aziende le aziende muoiono se non fanno marketing e quello che sto facendo io stesso è marketing è marketing per una delle mie aziende B&B Academy e proprio perché il marketing è importantissimo penso che sia importante approfondire come funziona il marketing per affitti brevi perché? perché ha una come si può definire metodologia di attuazione completamente diversa rispetto a qualsiasi altro business infatti di norma un qualsiasi business per fare marketing deve spendere la grana ad esempio se hai un ristorante devi probabilmente fare dei volantini pagare per la pubblicità su facebook prendere magari dei cartelloni pubblicitari e farti conoscere se hai un negozio online un e-commerce devi spendere tanti soldi in marketing su facebook su instagram o pagare degli influencer per indossare i tuoi abiti se hai un esercizio commerciale dovrai probabilmente anche lì fare delle insegne tutta una serie di cose comunque per far conoscere il tuo business e purtroppo il comune denominatore di questi business è dover spendere per fare marketing il grande vantaggio degli affitti brevi è che non devi spendere per fare marketing perché lavoriamo con piattaforme come Airbnb e Booking che di per sé hanno interesse nello spingere te il tuo prodotto la tua azienda o meglio il tuo BNB perché poi il tuo BNB è il tuo prodotto ed è la tua azienda e in virtù del fatto che hanno questi interessi non ti chiedono soldi perché loro guadagnano una percentuale se tu ottieni prenotazioni quindi ovvio che se Airbnb guadagna un tot per cento da ogni prenotazione che arriva a Ludovico sarà Airbnb stessa a dire io devo spingere gli appartamenti di Ludovico e questo lo fa con tutti gli host del mondo con tutti gli appartamenti del mondo ovviamente con dei criteri ci sono dei modi per andare incontro all'algoritmo di Airbnb ovviamente quindi filtri avere dei titoli accattivanti delle buone recensioni ma se noi soddisfiamo questi requisiti delle piattaforme che sono molto semplici in realtà non sono nulla di trascendentale allora sarà la piattaforma stessa a spingerci se non rispettiamo questi requisiti quindi otteniamo tante recensioni negative non rispondiamo ai messaggi degli ospiti eccetera eccetera cose che se uno ha 5 minuti al giorno può tranquillamente fare beh se non ovviamente andiamo incontro all'algoritmo appunto non facendo queste cose o ottenendo recensioni negative a quel punto Airbnb o Booking non ci spingeranno ma noi siamo qui per guadagnare quegli affitti brevi l'ultimo dei problemi sarà sicuramente il rispondere ad un messaggio quindi non dobbiamo preoccuparci di ciò quindi abbiamo visto che il marketing per affitti brevi fortunatamente rispetto ad altri business si fa di investimento zero però online si trovano tanti consulenti che cercano di vendere la creazione di un sito web magari per ottenere prenotazioni dirette con la promessa di risparmiare sulle feed di Airbnb e Booking ma la verità è che nessuno troverà mai quel sito quindi è completamente inutile che tu in questo momento ti costruisci un tuo brand con un tuo sito web e un tuo motore di pronotazioni per non dipendere da queste piattaforme perché comunque volente o nolente il grosso delle pronotazioni arriverà tramite Airbnb e Booking e anche se tu volessi poi spingere questo tuo sito web sfruttando l'advertising online quindi Facebook ed Instagram ti ritroveresti a spendere tantissimi soldi e a perdere poi quello che è un vantaggio rispetto agli altri business ovvero il poter fare marketing ad investimento zero noi personalmente abbiamo creato un percorso dedicato tempo addietro che si chiama B&B Web Marketing ma perché non vi viene proposto da parte mia o meglio perché non ve lo sto cercando di vendere perché è un percorso dedicato a chi ha veramente decine 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 di strutture ricettive a chi magari ha anche un hotel dove l'investimento di una pubblicità viene spalmato su molti immobili ma se hai 5, 6, 7 case è completamente inutile che tu faccia marketing online ed ecco perché in questo video mi focalizzerò principalmente sul come fare marketing sfruttando le piattaforme e quindi ancora una volta ad investimento zero posso sembrare prolisso magari sembra che sto ripetendo le stesse cose più volte ma è perché voglio che il concetto sia chiaro e per evitarvi fregature dove magari la gente vi spilla 1000-2000 euro per farvi un sito web che non servirà assolutamente a niente inutile dirvi poi come ultima premessa che all'interno di B&B Academy spieghiamo tutti i parametri per filo e per segno con precisione chirurgica necessari a comparire tra i primissimi risultati di Airbnb ebooking però a livello di nozioni generali vi darò degli spunti già oggi qui in questo video regola numero 1 è come ho detto in precedenza fare bene cioè per quanto il tuo immobile possa essere anche un semplice monolocale in periferia nei limiti del possibile cerca di far bene fa trovare un immobile pulito una descrizione corrispondente alla realtà descrivi il tuo annuncio nel miglior modo possibile effetto delle traduzioni che siano coerenti con quello che poi l'ospite troverà quindi se tu già lavori bene seguendo tutto quello che ti viene spiegato da noi di B&B Academy l'80% del lavoro e del marketing è già stato fatto perché il marketing nel nostro caso coincide principalmente con quello che è l'annuncio su Airbnb ebooking il titolo che andrò ad inserire la descrizione che andrò a fare le immagini che andrò a scegliere quello fa parte del concetto di marketing legato agli affitti brevi in secondo luogo è importante avere delle foto di qualità perché la comunicazione visiva è importante e quello che noi comunichiamo con le foto è tu dormirai qui quindi se le foto sono buie di scarsa qualità la percezione che avrà la nostra persona il nostro potenziale cliente è di un immobile di scarsa qualità ovviamente e buio quindi è importante utilizzare delle immagini che siano state fatte a regola d'arte ma oltre a delle immagini qualitativamente buone è importante anche saperle selezionare e ordinare infatti spesso il fotografo magari gli dà 60 foto e la gente prende le 60 foto le butta lì ci sono due grandissimi errori che state facendo e che non vanno incontro alle strategie di marketing per affitti brevi il primo è quello di non fare selezione quindi per un monolocale un bilocale o anche solo un tre locale avere 60 foto è completamente inutile e controproducente è l'opposto del fare marketing dove di norma less is more dove la gente ha una soglia dell'attenzione molto bassa e quindi non se ne guarderà mai 60 foto quindi nuova regola è selezionate le foto secondo me per un monolocale 20 foto sono sufficienti anche meno anche 15 per un bilocale andiamo dalle 20 alle 25 per un trilocale possiamo andare dalle 30 in su quindi la quantità è importante e poi l'ordine immaginatevi che quando uno guarda un annuncio su airbnb vuole vedere una sorta di tour della casa è inutile mettere come prime 10 foto le foto dello stesso spazio quindi le prime 10 foto salone 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 oppure peggio ancora water 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 così come nessuno vuole iniziare il tour di una casa dal bagno come prima cosa magari mi farei vedere lo spazio in cui dormirò poi magari passo al salone poi passi alla cucina e poi passi al bagno se hai un terrazzo magnifico una jacuzzi una piscina magari come prima foto metti quella però c'è gente che veramente mi mette le prime 5 foto tutte uguali quando in realtà devono rappresentare potenzialmente 5 spazi o 5 angoli diversi della casa o chi mi mette appunto 5 foto del bagno di fila ma che me ne frega a me non vengo lì per soggiornare nel bagno io soggiorno nell'immobile mi fa piacere che ci sia un bel bagno ma non è uno spazio fondamentale della casa quindi è importantissimo non solo selezionare la quantità ma anche l'ordine delle foto successivamente uno degli elementi di marketing sui quali in assoluto più mi soffermo quando guardo un annuncio sono i titoli tantissime persone pensano ah do il nome di mia nonna a questa casa do il nome di mia mamma della mia fidanzata di mio fratello a questa casa e quindi abbiamo casa Maria Luigia casa Francesco casa Maria Sole i nomi propri su Airbnb non servono assolutamente a niente perché i nomi che utilizzereste voi per la vostra struttura ricettiva non sono nomi altisonanti celebri famosi non sono nomi che ah è quella casa lì non è una casa famosa la vostra quindi occupare quel poco spazio che ci viene dato a disposizione nel titolo per scrivere appunto un nome proprio è completamente inutile quindi immaginatevi che io faccio una ricerca su Airbnb e mi ritrovo con casa Maria casa Luigi casa Maria Sole casa Francesca chi se ne frega ok e siccome questo errore viene fatto da tantissime persone noi dobbiamo spiccare e a livello di marketing per spiccare rispetto a tutti questi immobili con questi nomi completamente inutili noi utilizzeremo il titolo per dare delle informazioni quindi magari il casa Maria lo trasformo in casa a due passi dalla metropolitana trattino 20 minuti dal Duomo piuttosto che casa molto luminosa con wifi Netflix e aria condizionata quindi noi cerchiamo già dal titolo di offrire informazioni e perché una cosa così banale è vincente proprio perché il 99,9% degli annunci in giro per il mondo non ti dà informazioni nel titolo scrive cose inutili come appunto il nome proprio che gli è stato dato alla casa ed ecco che un potenziale ospite tra un annuncio che ho scritto casa Maria o casa a due passi dal Duomo di Milano vicino alla metropolitana ovviamente è più incentivato a cliccare sull'annuncio dove nel titolo mi comunica qualcosa e già lì aumentiamo del 50% le probabilità che qualcuno scelga il nostro immobile rispetto ad un altro e lo stesso poi si ripercuota ovviamente sulla descrizione quindi iniziare a scrivere casa Luigia porta questo nome perché Luigia era mia nonna al quale io ero tanto affezionato chi se ne frega in questo immobile troverai una connessione wifi velocissima perfetta per streaming o fare smart working l'immobile si trova a pochi passi dalla metropolitana c'è l'aria condizionata per l'estate e il riscaldamento per l'inverno l'immobile è in uno stabile molto sicuro potrai accedere H24 grazie al self check in quindi tutto lo storytelling legato al perché della casa alla vostra storia non gliene frega niente a nessuno andate dritti al sodo la storia della città probabilmente già la conoscono se stanno prenotando nella vostra città è perché sono già convinti di quel luogo adesso voi dovete convincerli a livello di immobile quindi cercate di impacchettare nel miglior modo possibile quello che è il vostro immobile e a fargli capire il perché io devo scegliere di soggiornare nel tuo immobile rispetto a quello di un altro ok quindi cercate poi anche di leggere le recensioni dei vostri competitor quindi inutile compararsi con l'albergo a 5 stelle ma se ho un bilocale guardo gli altri bilocali nella zona e mi focalizzo sulle recensioni negative magari tanti evidenziano su altri immobili la rumorosità voi ovviamente nel vostro testo scrivete invece che il vostro immobile è super silenzioso magari tanti si lamentano del fatto che sono non lo so senza l'ascensore se il tuo immobile è l'ascensore fa presente che è uno dei pochi immobili in zona con l'ascensore andando avanti poi parlando sempre della tematica di valorizzare il proprio immobile troviamo le nomenclature le diciture le terminologie noi tutti abbiamo un letto a casa di norma matrimoniale e quindi tutti quanti scrivono letto matrimoniale per due persone o letto matrimoniale comodo letto matrimoniale ma se il letto matrimoniale lo trasformassimo in un letto queen size se la dicitura camera da letto la trasformassimo in master suite se al posto di seconda camera da letto scrivessimo junior suite stiamo dicendo la stessa identica cosa ma utilizzando una terminologia un po' più raffinata diamo un valore percepito molto più alto al posto di dire bagno in camera bagno in suite al posto di dire soggiorno zona living queste piccole accortezze permettono di dare un valore percepito più alto e di far sembrare un semplice monolocale una suite d'albergo quindi cercate di utilizzare una nomenclatura un po' più cool passatemi il termine per descrivere gli spazi della vostra casa anche questo signori e signore è marketing e se non avete quel qualcosa di speciale quindi se il materasso è un normalissimo materasso a molle e non potete scrivere che magari è un materasso di ultima generazione memory foam non scrivete niente piuttosto capite se non avete quella caratteristica in più se avete il tv 32 pollici che signori al giorno d'oggi è minuscolo scrivete semplicemente che avete una tv per scrivere che è 32 pollici non mettete il numero di pollici scrivete solo che avete una tv quindi talvolta bisogna valorizzare con della terminologia ma talvolta forse stare zitti è meglio un altro consiglio per fare marketing è assolutamente quello di sfruttare non solo le caratteristiche dell'immobile ma anche di ciò che è presente nelle vicinanze o che è facilmente raggiungibile mi capita spesso di vedere per conto di studenti B&B Academy degli immobili che sono in posizioni della città più sfortunate però magari comunque sono vicino al capolinea della metropolitana che collega comunque il tutto facilmente al Colosseo di Roma o allo stadio San Siro di Milano o al Duomo di Milano quindi anche se il vostro immobile è magari in una posizione sfortunata enunciate quanto è facile raggiungere quel posto quanto poco dista dal centro della città quanto poco dista da quest'altra cosa qui e quindi un contro lo trasformate magari in un pro quindi parlate sempre di cosa c'è nelle vicinanze e di come lo si può raggiungere chiaro che non mi dovete scrivere è a 80 minuti a piedi anche lì vi fate furbi può essere a 20 minuti con i mezzi pubblici e a 15 minuti di auto a 25 minuti in bicicletta fatevi furbi ed evitate di mettere dei numeri giganteschi perché sennò diventa controproducente oppure se bisogna cambiare tre mezzi pubblici ma ci si mette 40 minuti non scrivete 40 minuti con il tram 27 l'autobus 22 la metropolitana nera perché può sembrare complicato limitatevi a dire che con i mezzi pubblici è facilmente raggiungibile in 40 minuti bisogna farsi furbi e cercare di rendere il processo di prenotazione e anche la percezione di quanto è semplice raggiungere un punto di vista il più liscio possibile dovete creare meno attrito possibile e far sembrare il tutto molto facile il tutto ovviamente senza mentire quindi non dovete dire che ci si mette 20 minuti se ci si mette 40 si dice che ci si mette 40 ma lo si dice in maniera furba senza cadere nella menzogna perché poi lì eventualmente si possono avere dei problemi con la piattaforma recensioni negative eccetera eccetera in maniera furba ma sempre veritiera un'altra strategia di marketing è quella di adoperare il self check in perché permette agli ospiti di entrare uscire di casa in maniera completamente autonoma ed è una grande differenzazione rispetto a tutti coloro che non lo offrono quindi prenota il mio immobile grazie al sistema di self check in potrai entrare uscire di casa come quando vuoi senza la necessità che ci sia qualcuno fisicamente lì a reperire le chiavi vuoi arrivare alle 3 del mattino puoi farlo vuoi andartene alle 5 del mattino puoi farlo vuoi andartene anche sotto la tempesta di neve che magari io non riesco a uscire di casa per venire lì puoi farlo al contempo hai bisogno di un aiuto con le valigie e preferisci un check in dal vivo possiamo organizzarlo quindi lasciare al cliente la possibilità di scegliere dandogli due opzioni una potenzialmente più comoda un'altra magari può non sembrare comoda come il check in fisico ma l'occorrenza se ne hai bisogno io comunque ci sono andando avanti nelle strategie di marketing che sono infinite ripeto dentro B&B Academy ne parliamo per ore e ore e ore abbiamo anche la possibilità di inserire una smart tv quindi tanti hanno una tv normale ma quasi nessuno ha una smart tv il mio consiglio ovviamente è quello invece di utilizzare una tv intelligente dove si può vedere youtube e netflix e se non ne avete una vi basta acquistare su amazon dispositivi come l'amazon fire stick che con 30 euro rende un normalissimo televisore un televisore smart ovviamente dovete fare bella mostra del wifi e ricordatevi sempre di spuntare tutti i filtri ad esempio se avete un terrazzino potete spuntare il filtro per fumatori così facendo vi porterete a casa attraverso questa diciamo strategia di marketing tutti coloro che fumano è ovvio che il filtro per fumatori non significa che queste persone possano fumare in casa semplicemente che in un qualche angolo della casa è possibile fumare poi nelle regole della casa specificate dove però intanto grazie a questo filtro vi state portando a casa tutti coloro che fumano che sono comunque una vasta platea di persone alexa quanti sono i fumatori nel mondo alexa stop bene secondo l'intelligenza artificiale di amazon i fumatori nel mondo sono 1,3 miliardi quindi capite che inserire questo filtro o meno all'interno di airbnb vi può potenzialmente esporre ad un pubblico o meno di 1,3 miliardi di persone quindi 1 miliardo e 300 milioni di persone fumano pazzesco e sono potenzialmente o non potenzialmente nostri ospiti in base a un semplice filtro che noi possiamo spuntare sulla piattaforma stiamo giungendo al termine del video quantomeno delle cose che ho deciso di dirvi in questo video e le ultime due voci di cui voglio parlare sono ovviamente le valutazioni positive sono la miglior pubblicità che voi possiate avere quindi cercate di ottenere sempre valutazioni positive quindi 4 barra 5 stelle su airbnb e da 7 a 10 su booking come valutazioni se avete ottenuto una recensione negativa potete chiedere la rimozione all'ospite o convincerlo comunque a modificare il voto che vi ha dato magari andando l'incontro con un rimborso parziale piuttosto che cercando di capire soprattutto qual è stato il problema questo non si ripeti perché poi possiamo attuare tutte le strategie di marketing del mondo ma se ovviamente le recensioni sono negative nessuno prenoterà mai questa casa ed infine fate delle traduzioni manuali nelle lingue più importanti ovvero inglese e spagnolo perché perché se lasciamo che sia airbnb o booking a tradurre il nostro annuncio c'è il rischio che vengano fatti degli errori grossolani e che renda diciamo l'annuncio meno efficace in queste altre lingue è capitato spessissimo di trovare degli annunci che in italiano non facevano nessun tipo di non avevano nessun tipo di senso logico perché erano stati tradotti dal traduttore automatico e quindi io non capivo cosa stavo prenotando ho lasciato stare ho preferito non prenotare ed ecco perché tutti i miei annunci hanno la traduzione manuale fatta da me da traduttori professionisti non solo ovviamente in italiano che è la mia lingua madre ma anche in spagnolo ed inglese parlo lo spagnolo all'inglese assolutamente sì ho preferito comunque far fare il tutto a dei professionisti assolutamente sì proprio perché una semplice parola fuori posto può generare confusione nel potenziale cliente e il cliente finisce per non prenotare e quindi per me è una pessima situazione per me è una situazione svantaggiosa ecco se un ospite non prenota per una stupidaggine del genere quindi investo sempre in dei traduttori è un costo veramente esiguo e permette poi di avere in realtà molte più prenotazioni e ci vediamo nella prossima puntata in questa lezione voglio andare a elencare alcuni degli errori da evitare ogni business necessariamente necessita di una serie di processi e gli errori sono dietro l'angolo anche migliori sbagliano io ho sbagliato molto negli anni passati ed ecco anche il perché poi ho realizzato tutto il progetto B&B Academy per far sì che le persone potessero imparare dai miei stessi errori e raggiungere i miei obiettivi molto più velocemente cosa che infatti poi è successa io ci ho messo anni ad arrivare ai 100 immobili abbiamo studenti B&B Academy che hanno raggiunto gli 80 immobili in meno di un anno i 100 immobili in un anno e mezzo quindi è veramente funzionale come metodo per imparare un business affidarsi a chi ha già ottenuto questi risultati ai quali noi o voi insomma ai quali qualcuno sta ambendo partiamo da un presupposto come detto più volte quello dell'affitto breve è un business sicuramente semplice rispetto a tanti altri business come può essere la ristorazione il drop shipping l'aprire un negozio fisico quello dell'affitto breve è molto più semplice non c'è bisogno per forza di avere un ufficio puoi farlo in qualsiasi parte del mondo puoi farlo ad investimento zero non devi avere patentini non devi avere licenze non devi avere lauree puoi iniziare addirittura senza partita IVA quindi è un business grandioso ma alcuni errori possono ridurre i guadagni possono compromettere la buona riuscita di questo business il primo errore che le persone fanno è quello di non dare peso alle recensioni nel senso che se una recensione ad esempio ti segnala all'interno del tuo immobile un problema l'ignorare quel problema potrebbe portarti a ricevere molteplici recensioni negative e molteplici recensioni negative significa come dire una compromissione del proprio business ovvero nessuno vuole prenotare con una vasta platea di immobili a disposizione un annuncio che magari ha una media di recensioni negativa abbiamo visto in precedenti lezioni dove la valutazione per la piattaforma di Airbnb ad esempio va da 1 a 5 stelle mentre Booking va da 1 a 10 punti come ho già detto e lo ripeto una valutazione positiva su Airbnb è praticamente il 5 stelle già il 4 possiamo dire che è una appena sufficiente valutazione su Booking diciamo che dall'8 in su dal 7 in su è una buona valutazione quindi se stai ricevendo recensioni negative anche già dalla prima adeguati cerca di capire come mai sia stata lasciata questa recensione negativa se è possibile farla rimuovere dentro B&B Academy spieghiamo come si possono far rimuovere le recensioni ma in particolar modo cerca appunto di evitare che questa cosa accada nuovamente quindi primo aspetto sicuramente come errore da evitare le recensioni negative in secondo luogo i tempi di risposta ai messaggi quindi ci sta che un qualcuno magari mandi una richiesta di prenotazione su Airbnb in particolar modo Airbnb tiene conto di questi di questi dati quindi il tasto di risposta eccetera ma se una persona ti scrive magari ti dice voglio offrirti 50 euro per questa notte ed è un'offerta ovviamente ridicola e tu non hai nessun interesse nell'accettarla potresti dire non rispondo non rispondo perché tanto questa persona appunto mi ha proposto un prezzo per notte troppo basso sta cercando di pubblicizzarmi un servizio sbagliatissimo perché Airbnb recepisce la vostra non risposta come disinteresse e quindi il fatto che voi non rispondiate viene precipito appunto come disinteresse quindi il vostro tasso di risposta che è uno dei parametri uno dei benchmark che Airbnb utilizza scende e scendendo il tasso di risposta o la velocità con la quale rispondete ovviamente l'algoritmo di Airbnb vi penalizza quindi significa che poi un domani potreste avere meno visibilità meno prenotazioni e meno incassi quindi rispondete sempre pre-approvate sempre la prenotazione ok a meno che non sia una persona chiaramente che ha delle recensioni negative voi non volete che questa persona soggiorni presso il vostro soggiorno scusatemi presso il vostro immobile scusate il il gioco di parole e l'errore però è importante che voi ripeto nei limiti del possibile cerchiate di pre-approvare sempre se poi c'è l'ospite ripeto balordo che avete paura che vi distrugga a casa potete anche rifiutare l'importante è che voi quantomeno rispondiate sempre al messaggio mi fa sorridere perché spesso ricevo messaggi di persone che mi chiedono posso gestire il tuo immobile online ho visto dei miglioramenti che tu puoi fare io queste persone ovviamente non ho nessun interesse che gestiscono i miei immobili potrei ignorarle invece no rispondo con no grazie non mi interessa eccetera eccetera perché almeno Airbnb vede che comunque io sono reattivo nel rispondere ai messaggi piuttosto se non hai il tempo o la voglia ok automatizzali si possono automatizzare piuttosto automatizzali con le funzionalità di Airbnb o con dei software terzi un altro errore gravissimo da evitare è quello delle traduzioni automatiche ovvero Airbnb ti dà la possibilità di tradurre manualmente l'annuncio quindi tu copi e incolli il testo in ogni lingua che ti interessa quindi io posso scrivere il mio testo in italiano e poi tradurlo manualmente in inglese e spagnolo è ovvio che non posso manualmente tradurlo per tutte le lingue del mondo però bene o male le lingue più parlate sono l'inglese e lo spagnolo quindi almeno in queste lingue paga un traduttore chiedi aiuto ad un tuo amico che sa parlare bene queste lingue e inserisci tu una traduzione manuale perché le traduzioni automatiche abbiamo fatto tantissimi casi di studio dentro Airbnb Academy spesso si inventano i titoli con delle cose completamente forvianti mi ricordo ancora un immobile che trovai in Norvegia bellissimo non so perché in italiano mi traduceva il titolo dal norvegese all'italiano in giardino violento cioè capite che magari quello che per voi può sembrare un titolo una descrizione vincente se tradotta dal dal traduttore di Airbnb e se tradotta male può creare grandissima confusione e anche disincentivare le prenotazioni quindi cercate di tradurre manualmente dove è possibile se poi operate in una zona non lo so il lago di Garda che è famoso storicamente per essere frequentato dai tedeschi ovviamente traducete il tutto anche in tedesco è chiaro però in generale consiglio di avere almeno l'inglese lo spagnolo tradotto da un professionista così siete certi che la traduzione che viene vista è una traduzione fatta a regola d'arte successivamente tra gli errori da evitare c'è sicuramente il fatto che tante persone vogliano fare il check-in di persona anche in semplicissimi monolocali bilocali o trilocali la mia filosofia è il check-in di persona va fatto solo se abbiamo un immobile di alta caratura e solo ed esclusivamente se viene richiesto su fasce di immobili minori dall'ospite perché? perché comunque il fatto che voi ad esempio vi mettete d'accordo per fare il check-in alle 4 di persona significa che quella persona deve arrivare alle 4 se per caso non lo so non si sente bene vuole fermarsi a bere un'aranciata ha fame e vuole pranzare vuole fermarsi a vedere un monumento vuole fare shopping ha visto una cosa che ha catturato la sua attenzione vuole fermarsi lì quella persona non può farlo perché se no voi siete lì ad aspettare questa persona inutilmente oppure può farlo e voi siete lì ad aspettare inutilmente cioè possono succedere principalmente tre cose o la persona è rispettosa e fa di tutto per arrivare in tempo per fare effettivamente il check-in all'orario concordato può fregarsene e ciò significa che voi state lì ad aspettare come dei fessi che l'ospite arrivi oppure può non fregarsene e comunque avere un disagio diciamo derivante da questa cosa cioè avrei voluto fermarmi lì a fare shopping ma devo andare a fare il check-in quindi secondo me è una cosa svantaggiosa al contrario l'avere un check-in automatizzato di cui abbiamo già parlato ovviamente all'interno del canale nel corso abbiamo un capitolo intero permette all'ospite di avere di avere massima flessibilità cioè arrivo all'ora che voglio può essere alle 4 può essere alle 5 il treno può fare ritardo nessuno mi sta aspettando posso fare le cose con estrema calma a meno che quindi l'ospite non chieda un check-in di persona io consiglio sempre di lavorare con self-check-in quindi l'errore può essere il voler fare a tutti i costi check-in di persona oltre a questo poi non è scalabile cioè se avete 5, 6, 10 casi non potete fare contemporaneamente check-in su tutte queste case se non prendendo delle persone ma prendere delle persone a un costo e oltre quindi a dover sborsare questi denari avete anche il potenziale di servizio di cui abbiamo parlato praticamente poco fa c'è un mondo intero dietro la questione check-in self-check-in e quant'altro ma oggi stiamo parlando degli errori da evitare il check-in di persone in immobili di caratura medio o medio-bassa è da evitare successivamente c'è il grandissimo errore molto frequente di non impostare tutti i filtri tanti immobili su Airbnb hanno il frigorifero ma non hanno il filtro frigorifero tanti immobili magari hanno l'aria condizionata ma si sono dimenticati di spuntare il filtro l'aria condizionata e quindi tu puoi avere anche tutta l'aria condizionata del mondo dentro casa tua puoi avere 59 condizionatori puoi avere il condizionatore smart Samsung che ti fa anche il caffè ma se tu non metti il filtro aria condizionata e io ospite o meglio potenziale ospite inserisco quando faccio la ricerca il filtro aria condizionata tu non mi compari ok quindi è inutile avere tutta una serie di caratteristiche ed equipaggiamenti se poi non andate a inserirli come filtri e come descrizione dell'immobile questo è importantissimo non date niente per scontato se il vostro televisore smart fa vedere Netflix dovete spuntare anche il fatto che è un televisore smart con Netflix eccetera 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 perché altrimenti ripeto l'ospite che imposta il filtro stupido come può essere frigorifero ve lo perdete successivamente un altro errore come vedete ci sono tante piccole cose che possono sembrare banali ma non lo sono un altro potenziale errore è quello delle foto tante persone dicono ma io l'iPhone 15 Pro ce l'ho anch'io tra le varie cose fa delle foto meravigliose ma non può essere paragonato a ad una macchinetta fotografica nata per fare foto e b alla mano di un fotografo che sa fare le foto e c ad un fotografo che sa anche post produrle quindi ci sono tre motivi ottimi per i quali dovreste scegliere un fotografo professionista l'equipaggiamento la bravura e la post produzione quindi è importante secondo me utilizzare un fotografo e non deve essere a mio cugino che fa le foto le modelle nei campi di grano la domenica pomeriggio ma un fotografo di interni che sa come deve essere l'illuminazione sa che le coperte devono essere poste in un determinato modo dall'altra parte anche voi chiaramente dovete metterci del vostro quindi fate trovare tutto quanto stirato fate trovare tutto in ordine magari dei fiori freschi per lo shooting fotografico gli asciugamani stirati togliete gli sticker dal microonde togliete gli sticker dalla lavatrice togliete gli sticker da tutti gli elettrodomestici che spesso è un altro erroraccio che vedo e quindi unite la vostra cura e precisione l'home staging e tutto quello che avete fatto per abbellire l'immobile alla bravura di un fotografo e se ha un risultato ottimale solo home staging e cura con delle foto fatte col cellulare assolutamente no piuttosto che fotografo professionista e poi le lenzuola spiegazzate assolutamente no male 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 andando avanti dovete anche ricordarvi sempre di non perdere mai la pazienza è successo purtroppo ad uno studente B&B Academy mi spiace che sia successo ad una persona della mia community ma fortunatamente è successo una volta su 4000 studenti che un ospite abbia fatto perdere la pazienza all'host l'host lo ha insultato l'ospite ha segnalato l'insulto via chat tra l'altro ad Airbnb e Airbnb gli ha bannato il profilo quindi anche se l'ospite vi insulta vi ha rubato ha fatto qualsiasi cosa che poi non accade mai dovete mantenere la calma e segnalare tutto quanto ad Airbnb che provvederà lei come azienda come piattaforma a gestire la situazione ma non permettetevi mai di insultare o discriminare eccetera 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 ospiti perché il risultato sarà sempre solamente uno oltre ad una pochissima professionalità percepita il ban dalla piattaforma e questo ovviamente vale anche per booking un altro errore stiamo giungendo al termine di questa lista abbastanza omnicomprensiva è quella del lasciare cibo e bevande quando non si è autorizzati abbiamo visto che una delle differenze tra una locazione turistica in forma non imprenditoriale e invece una forma imprenditoriale quindi la differenza tra l'operare con partita iva o senza partita iva è anche questo il non poter offrire la collazione il non poter offrire servizi aggiuntivi e spesso le persone dicono ma sì ma è solo una bottiglietta di coca cola ma sì sono due cioccolatini non potete farlo cioè tutto quello che è cibo e bevande non potete lasciarlo in casa potete lasciare il sale il pepe le ciade del caffè e il tè ma non potete lasciare le fette biscottate il formaggino o il filadelfia assolutamente no non potete farlo a meno che non siate in forma imprenditoriale a meno che la forma da voi scelta non lo permetta ma questo personalmente per me non è uno svantaggio perché comunque l'offrire la colazione al giorno d'oggi è una rottura di scatole perché c'è quello che vuole la farina vegana c'è quello che vuole la farina di grilli c'è quello che vuole il cornetto integrale col pistacchio con la marmellata di albicocche c'è quello che vuole la confettura di fragole quindi siccome soddisfare tutto è impossibile e rischiate alla fine di offrire un disservizio perché il tipo di colazione che lui si aspettava non c'è meglio non offrirla anche se siete in forma imprenditoriale e potreste farlo io preferisco non offrirla però l'errore grave è offrirla quando dal punto di vista giuridico non è concesso farlo e evitate le leggerezze anche perché lasciate magari un cioccolatino che poi era scaduto quello si sente male va all'ospedale e vi denuncia e oltre alla denuncia del fatto che avete lasciato un alimento scaduto che quindi ha recato tutta una serie di danni alla persona potreste beccarvi anche la denuncia per esercizio abusivo della professione perché avete somministrato del cibo o delle bevande quando non era consentito quindi mi raccomando fate attenzione e ultima situazione che vi consiglio caldamente di evitare un errore banale è quello della fotoprofilo non professionale spesso andando su Airbnb vedi dei bei immobili e poi sono affittati da Giuseppina fotoprofilo signora di 85 anni ora io capisco che se operate in property management è necessario fare l'annuncio a nome del proprietario perfetto a nome del proprietario l'immagine può anche essere un'immagine non veritiera può anche essere un'immagine della nipote della proprietaria di casa e siccome per logica la maggior parte dei proprietari ahimè sono persone anziane e ripeto in property management bisogna fare a meno che non si faccia dal sostituto d'imposta il profilo a nome del proprietario anche se poi è gestito da noi a livello di immagine se il proprietario non si presenta come dire in maniera accogliente evitate di mettere una fotoprofilo non professionale o comunque di una persona di una certa età perché uno potrebbe dire ma come pago 200 euro a notte per soggiornare in questo B&B e poi mi accoglio una signora di 80 anni la signora di 80 anni magari non è esperta di accoglienza magari non pulisce bene la casa e quindi uno magari preferisce un immobile che come percezione è gestito da una persona più giovane quindi se avete un immobile in gestione dovete fare il profilo per forza di cose a nome della nonna Giuseppina di 80 anni piuttosto mettete una foto di un'altra persona l'importante è che il nome e cognome siano quelli per questioni fiscali burocratiche giuridiche però dall'altra parte il mio consiglio è quello di mettere delle foto ripeto che rappresentino una persona magari più giovane che possa dare un po' più di confidenza se non lo sapete esiste un sito che si chiama this person doesn't exist dove potete generare con l'intelligenza artificiale dei volti di persone che non esistono oppure potete utilizzare un portale come Pexels vi lascio tutti i link qua ovviamente per utilizzare foto stock free quindi royalty free senza diritto d'autore che potete utilizzare per qualsiasi fine in maniera 100% legale senza pagare nulla è legale mettere la foto di una persona che non è quella sì non c'è nessuna legge che vieta di mettere su airbnb o su booking come foto di profilo la foto di un'altra persona è eticamente sbagliato secondo me no perché l'importante è che alla fine offriamo un servizio di qualità e tanto comunque a gestire l'immobile saremo noi non la proprietaria di casa quindi non vedo in realtà particolari contro nell'utilizzare ripeto un'immagine di una persona più giovane rispetto a quella della proprietaria di casa fossimo su tinder probabilmente sì sarebbe eticamente sbagliato ma siamo su airbnb e secondo me va benissimo così anzi magari una persona più giovane è anche più attraente nei confronti di un potenziale ospite che prenoterà la casa con più probabilità detto ciò spero che questo video vi sia piaciuto gli errori da evitare ormai li sapete ce ne sono tanti altri che ovviamente spieghiamo in bnb academy bene una piccola pausa da questo incredibile corso di formazione se ti sta piacendo questo corso gratuito devi sapere che troverai ancora più valore in bnb academy la mia accademia di formazione è nata proprio per formare tutti coloro che vogliono costruirsi una rendita nel settore immobiliare degli affitti brevi senza necessariamente possedere immobili di proprietà con il property management o con la subloccazione temi che abbiamo visto all'inizio di questo corso ad oggi abbiamo formato oltre 4.000 persone in tutto il mondo e offriamo una gamma molto completa di prodotti e servizi che vanno dal corso di formazione step by step al servizio chiave in mano dove noi troviamo l'immobile lo avviamo per te e tutti gli incassi li tieni tu ci paghi solamente per procacciare un immobile che sia in linea con le tue aspettative oltre a questo abbiamo dei percorsi di mentorship individuale dove i nostri coach possono seguirti step by step 365 giorni l'anno insomma se vuoi entrare nel business degli affitti brevi la soluzione corretta è B&B Academy se vuoi maggiori informazioni fai clic sul link che trovi qua in basso per prenotare una consulenza completamente gratuita con uno dei miei consulenti che capirà se e come possiamo aiutarti ma soprattutto potrà fare una ricerca di mercato dal vivo insieme a te per capire se nella zona in cui ti trovi o nella zona in cui vuoi operare c'è effettivamente l'opportunità di guadagnare con il business degli affitti brevi abbiamo già aiutato oltre 4000 persone quindi sono sicuro che potremo farlo anche con te oggi parleremo di prenotazioni cancellate come gestirle soprattutto come evitarle la cancellazione di una prenotazione può essere molto rilevante in base alla zona in cui operiamo se ad esempio lavoriamo in una città come Milano Roma o Torino e ci cancellano una prenotazione da una notte non dobbiamo impanicarci perché probabilmente qualcun altro riprenoterà al posto di quella persona o comunque anche se nessuno riprenota l'ammanco di denaro sarà sicuramente minore dall'altra parte se invece opero con delle strutture ricettive estive magari delle ville e mi cancellano il giorno prima di arrivare dal 10 al 30 di agosto sarà molto più complicato trovare un qualcuno che possa bloccare le stesse date e evitare un grosso ammanco di denaro ecco perché è importantissimo avere padronanza dei termini di cancellazione è bene dunque essere consapevoli che i termini di cancellazione li scegliamo noi ed abbiamo il pieno controllo su di essi infatti non è che l'ospite fa quello che vuole e ne esce sempre pulito ma siamo noi a scegliere che tipo di termini di cancellazione inserire in fase di prenotazione per creare delle tre macro categorie abbiamo dei termini di cancellazione flessibili moderati e rigidi come potrete intuire dai termini di cancellazione rigidi ad esempio un ospite può non ricevere nessun tipo di rimborso con dei termini di cancellazione moderati di norma può ottenere un rimborso solo se cancella con molto anticipo e con dei termini di cancellazione flessibili può cancellare praticamente poco prima di arrivare ottenendo un rimborso completo ed ecco che la prima cosa che vi consiglio di fare è quella di analizzare bene i termini di cancellazione delle piattaforme con le quali lavorate proprio per evitare gli inconvenienti di cui abbiamo parlato poco fa ad esempio in delle località estive dove una persona prenota magari con largo anticipo io tendo a mettere dei termini di cancellazione rigidi o moderati mentre nelle grandi città dove una persona soggiorna una notte e c'è un grande flusso di turisti un grande va e vieni durante praticamente tutto l'anno allora adopero dei termini di cancellazione flessibili ma perché non metto sempre i termini di cancellazione rigidi a prescindere su qualunque appartamento beh perché comunque una persona prima di prenotare guarda effettivamente i termini di cancellazione che ci sono se ad esempio a Milano da una ricerca di mercato sfruttando il software Badly Go mi rendo conto che il 90% degli alloggi ha dei termini di cancellazione flessibili il fatto che io metta dei termini di cancellazione rigidi significa che mi mette in fortissimo svantaggio rispetto ai miei competitor dall'altra parte magari faccio una ricerca di mercato con Badly Go in Liguria o in Sardegna zone ovviamente molto stagionali e dove la gente fa molti soldi principalmente d'estate è ovvio che la maggior parte delle persone utilizzerà dei termini di cancellazione rigidi e magari io per differenziarmi posso utilizzare dei termini di cancellazione moderati per essere sì tutelato ma differenziarmi appunto anche dalla concorrenza un'altra opzione che danno le piattaforme è quella di magari paghi di meno ma hai dei termini di cancellazione più rigidi oppure paghi di più e hai dei termini di cancellazione flessibili infatti sia Airbnb che Booking danno la possibilità proprio all'ospite solo ed esclusivamente se tu property manager proprietario di casa o host vuoi attivare questa cosa di scegliere quanto pagare in base al termine di cancellazione scelto quindi sei sicuro che non cancellerai e scegli dei termini di cancellazione rigidi ti faccio un piccolo sconto oppure sei incerto e vuoi dei termini di cancellazione flessibili paghi di più almeno io rischio ma guadagno di più a seguito di questo rischio che mi sto prendendo però ricordatevi di analizzare sempre quello che fa la concorrenza per evitare di essere gli unici nella zona ad avere ad esempio dei termini di cancellazione rigidi perché come dicevo poc'anzi una persona di norma un cliente prima di prenotare controlla effettivamente che tipo di facoltà di cancellazione ha se può cancellare o meno e ancora una volta se siete gli unici ad avere quella rigidità probabilmente l'ospite preferirà prenotare da un'altra parte però non tutti i mali vengono per nuocere abbiamo visto ad esempio che un ospite può cancellare una settimana prima di arrivare nel tuo alloggio ma questo potrebbe essere in realtà per te un motivo di guadagno perché a seguito di questa cancellazione tu se hai dei termini di cancellazione rigidi otterresti un rimborso ad esempio un ospite può cancellare una prenotazione una settimana prima del suo arrivo se abbiamo dei termini di cancellazione flessibili otterrà un rimborso mentre se abbiamo dei termini di cancellazione rigidi non otterrà un rimborso oppure otterrà un rimborso parziale ciò significa che noi guadagneremo denaro per non ospitare quella persona perché ha pagato una penale quindi capita spesso che una persona cancelli noi otteniamo comunque il 100% o il 50% dell'importo pagato e nonostante ciò abbiamo la possibilità di riaffittare le nostre stanze o immobili o ville ad altre persone ed ecco che da una cosa che potrebbe sembrare negativa ovvero una cancellazione in realtà abbiamo tratto un guadagno maggiore quindi una cosa negativa si è trasformata in positiva perché non solo ho ottenuto un rimborso da parte di questa persona ma sono anche riuscito a riaffittare guadagnando di più rispetto alla norma quindi è importante per tutelarsi avere la certezza di avere tutto sotto controllo impostare dei termini di cancellazione studiati su quella che è la nostra volontà e il nostro grado di rischio che vogliamo attuare ma anche sulla base di quello che stanno facendo i competitor proprio per evitare di essere fuori mercato ovviamente se hai un monolocale andrai ad analizzare quello che fanno i monolocali mentre se hai una villa ti conformerai a quello che stanno facendo le altre ville ed è importante capire se la nostra tipologia di immobile è in linea con quella dei competitor perché se ad esempio io ho un immobile a Firenze affrescato con una vista pazzesca posso permettermi magari di mettere dei termini di cancellazione rigidi anche se dall'altra parte magari c'è un bilocale normalissimo che però non è affrescato e non ha la stessa vista con dei termini di cancellazione flessibili quindi è importante anche contestualizzare un attimo di che tipologia di immobili stiamo parlando perché se abbiamo dei dettagli che rendono il nostro immobile unico possiamo permetterci di fare un qualcosa che magari i nostri competitor non possono fare e tornando al discorso che un qualcuno può cancellare e lasciarci così le date disponibili pur avendo pagato una penale è importante analizzare le opzioni che ci danno le piattaforme come Airbnb e Booking perché spesso è possibile ad esempio impostare che se un qualcuno prenota last minute magari ha un 10 o 20% di sconto così facendo incentiviamo la famosa riprenotazione a seguito di una cancellazione di un altro cliente che come dicevo poco fa ci permette di guadagnare ancora di più quindi Mario ha cancellato la sua prenotazione e ho ricevuto il 50% del suo soggiorno ma avendo impostato delle regole grazie alle quali chi prenota last minute ha un 20% di sconto sono riuscito immediatamente a far riprenotare l'immobile abbiamo sì fatto uno sconto del 10 o 20% però dall'altra parte abbiamo comunque alla fin fine guadagnato di più spero che questa lezione ti abbia aiutato a capire meglio come sfruttare i termini di cancellazione a tuo vantaggio questa ovviamente è una tematica che all'interno del nostro percorso B&B Academy analizziamo per filo e per segno con ore e ore di lezione e ci vediamo nel prossimo video oggi parleremo di social proof ovvero prova sociale per Airbnb e booking che cos'è come si ottiene quali sono i vantaggi a che cosa stare attenti partiamo dal tecnicismo social proof che tradotto in italiano è letteralmente prova sociale ovvero quel qualcosa quella prova appunto che mi permette di stare tranquillo quando magari faccio un determinato acquisto o una determinata scelta su Airbnb booking la social proof non è nient'altro che le recensioni che abbiamo ottenuto da parte degli ospiti che hanno soggiornato nel nostro immobile quando magari vado a comprare un'auto la social proof è il test su youtube della persona che ha guidato quell'auto e che mi dice che funziona molto bene quando scelgo una crema magari il fatto che ci sia un determinato testimonial o ancora una volta delle valutazioni positive su una rivista di settore su Airbnb non sono nient'altro che le recensioni che ci lasciano gli ospiti si può avere anche una social proof da parte dei proprietari di casa con i quali lavoriamo per acquisire più facilmente quindi chiedo delle recensioni chiedo delle videotestimonianze ai proprietari di casa per convincere altri proprietari a darmi in gestione il loro immobile quindi Maria che mi ha dato in gestione casa sua mi fa un video di 5 minuti dove dice che con me si è trovata molto bene che effettivamente guadagna di più e grazie a questa social proof io acquisisco più case oppure su Airbnb chiedo a chi ha soggiornato appunto di lasciarmi 5 stelle su Airbnb io 10 punti su Booking per dimostrare ad altri potenziali clienti che soggiornando nel mio immobile avranno un'ottima esperienza e questo non accadrà perché l'ho detto io ma perché l'hanno detto altre persone che precedentemente hanno già fatto questo tipo di scelta e hanno già ottenuto un feedback chiamiamolo così positivo come ho anticipato poco fa le scale di valutazione sulle due piattaforme principali con le quali lavoriamo come Airbnb e Booking sono diverse infatti su Airbnb abbiamo un sistema di valutazione a stelle che va da 1 a 5 dove l'unica valutazione realmente positiva è 5 stelle diciamo che 4 sono accettabili 3, 2 o 1 sono un risultato pessimo mentre su Booking abbiamo un sistema di punteggio che va da 1 a 10 dove ovviamente 10 è il massimo al quale possiamo ambire diciamo che 8, 9 è un ottimo punteggio 7 è accettabile sotto il 7 quindi 6, 5, 4, 3, 2, 1 è una valutazione negativa quindi dobbiamo sempre ambire al massimo su entrambe le piattaforme sono molto importanti queste valutazioni perché la prima cosa che fa un ospite prima ancora di entrare nel nostro annuncio è vedere da fuori la valutazione infatti sia Airbnb che Booking esternamente fanno vedere la valutazione di un annuncio oltre al fatto che da fuori se una persona vede una valutazione negativa non apre nemmeno l'annuncio sono le piattaforme stesse che non spingono annunci che hanno delle valutazioni negative sarebbe controproducente per Airbnb ad esempio mostrare per primo una struttura con delle valutazioni negative o la stessa Booking non spinge ovviamente una struttura ricettiva che ha 3, 4 o 5 di media quando ce ne sono tantissime che magari hanno 8 o 9 gli stessi filtri di Booking Airbnb ti suggeriscono voglio vedere solo strutture con una valutazione dall'otto in su oppure voglio vedere solo i superhost che è uno status che concede Airbnb solo a coloro che hanno una media di recensioni molto alta quindi vi rendete conto che sia lato piattaforme sia lato proprio potenziali clienti è importantissimo avere delle recensioni positive per farsi di essere sempre al massimo livello ed essere al massimo livello significa guadagnare molto denaro perché noi siamo qui per guadagnare denaro non per la gloria oltre al punteggio numerico però è importante anche ciò che scrivono le persone perché una persona potrebbe anche lasciarti 5 stelle e poi scrivere testualmente nella recensione che però c'erano gli scarafaggi in casa quindi non devi basarti solo ed esclusivamente sul numero che letteralmente ti viene lasciato ma anche su che cosa c'è scritto all'interno della recensione ma le recensioni non devono fungere solo ed esclusivamente da apripista per nuovi potenziali clienti ma anche come tuo feedback personale per migliorarti e migliorare la tua struttura perché una persona ti può anche lasciare una recensione a 5 stelle pubblicamente scrivere che va tutto benissimo e poi in privato lasciarti un feedback dove ad esempio ti suggerisce di pulire il filtro dell'aria condizionata perché era molto sporco tu potresti benissimo ignorare questo feedback che ti è stato dato questo suggerimento ma la prossima volta rischierai ancora una volta che un qualcuno ti segnali questa cosa magari lasciandoti una recensione negativa quindi al di là di quello che traspare da fuori è importante che tu prendi tutti questi feedback e queste recensioni per migliorare te stesso come property manager il tuo operato e le tue strutture ricettive dunque abbiamo visto quanto è importante e rilevante avere delle valutazioni positive ma come possiamo poi effettivamente andare a richiedere questo tipo di recensioni questo perché se ci aspettiamo che un ospite rilasci in autonomia una recensione beh sappiate che accade molto sporadicamente e infatti statisticamente è provato che una persona rilascia una recensione in completa autonomia per lo più se l'esperienza è negativa della serie una persona si è trovata bene magari non te la lascia la recensione perché trovarsi bene dovrebbe essere la normalità al contrario la stessa persona si è trovata male non vedrà l'ora di lasciarti una recensione negativa per bastonarti ed ecco perché dobbiamo creare degli incentivi per lasciarci una recensione positiva ovvero creare un'attività che attiri queste recensioni positive fortunatamente Airbnb ed altri software ci permettono di automatizzare questo tipo di attività come ad esempio impostando un messaggio automatico che 5 ore dopo il checkout invii un testo all'ospite chiedendogli se si è trovato bene ad esempio potreste scrivere gentile ospite spero che il tuo soggiorno sia stato ottimo se sei soddisfatto ti chiedo di lasciarmi 5 stelle l'unica valutazione per me positiva altrimenti ti chiedo di lasciarmi un feedback in privato in maniera tale da poter migliorare senza compromettere la mia attività un caro saluto e poi mettete il vostro nome tuttavia è impossibile avere l'assoluta certezza che tutte le recensioni da qui all'eternità saranno positive l'importante è non demordere se arriva una recensione negativa perché non dimentichiamoci che comunque le piattaforme fanno una media quindi io posso anche avere 25 recensioni a 5 stelle e ottenerne una ad una stella questo non comprometterà per il resto della vita la mia attività anzi va a fare media e quindi al massimo passo da 5 a 4.8 il problema è se iniziamo ad avere molteplici recensioni negative a quel punto abbiamo un grosso campanello d'allarme e dovremo fare un lavoro di analisi interiore analisi interiore inteso non come vado dallo psicologo ma analizzo il perché sto continuando a ricevere queste recensioni negative ma qual è il mio consiglio qualora otteneste delle recensioni non positive beh molto semplice dobbiamo innanzitutto contattare l'ospite e chiedergli scusa se il soggiorno non è stato adeguato alle sue aspettative possiamo capire che cosa è successo e sempre dopo aver chiesto scusa offrirgli magari la possibilità di ottenere un rimborso parziale piuttosto che uno sconto per un prossimo soggiorno a seguito della rimozione o della rivalutazione della struttura il mio consiglio è quello di chiedere piuttosto la rimozione perché proporgli di ti rimborso e mi metti 5 stelle può sembrare come una manipolazione della recensione è un'induzione a dire un qualcosa di falso mentre rimuovere la recensione secondo me è molto più lecito quindi se un qualcuno vi lascia 3 stelle io preferisco che lui rimuova la sua recensione piuttosto che la trasformi magicamente in una recensione a 5 stelle l'ospite può infatti contattare le piattaforme come Airbnb Booking e chiedere di rimuovere la sua recensione tuttavia ancora una volta io vi consiglio di prevenire che è molto meglio di curare perché l'ospite potrebbe anche decidere di non farlo e la recensione potrebbe rimanere lì per sempre ancora una volta però se vi accade non demordete io faccio questo lavoro da tantissimi anni ho centinaia e centinaia di immobili decine di migliaia di recensioni sparse tra tutti i miei account e ovviamente ho ottenuto anch'io delle recensioni negative eppure sono ancora qua l'importante è che queste recensioni negative siano una piccolissima frazione di tutte quelle che ricevete a livello globale avete poi anche la possibilità di rispondere a queste recensioni quindi se un qualcuno vi lascia una recensione negativa e la riputate ingiusta o semplicemente volete far sapere agli altri che state lavorando per risolvere questo problema vi basterà rispondere alla recensione dell'ospite dicendo ad esempio tutto quello che hai detto non è assolutamente vero e posso provarlo oppure mi spiace per l'inconveniente sappi che abbiamo già risolto questo problema e quindi futuri ospiti non incorreranno nello stesso inconveniente ci vediamo nel prossimo video partiamo subito con gli elementi indispensabili in un B&B ci sono tanti oggetti che una persona può decidere di inserire o meno all'interno del proprio B&B come ad esempio delle decorazioni o una jacuzzi ma ci sono alcuni elementi che sono assolutamente indispensabili e ve li spiegherò in questo video partiamo dal presupposto che le persone su Airbnb e Booking prenotano sì perché le piace un immobile ma anche perché le piattaforme gli hanno proposto determinati immobili sulla base dei filtri che loro hanno impostato ad esempio se io Ludovico vado a fare una ricerca cercherò sempre un immobile che abbia ad esempio la connessione ad internet ed il frigorifero e anche se tu dentro casa hai effettivamente una connessione ad internet ed un frigorifero ma ti sei dimenticato di mettere quella spunta nei filtri la tua casa non mi comparirà e quindi io non prenoterò mai quell'immobile ma non solo non lo prenoterò ma non mi verrà neanche mai mostrato quindi la probabilità che io o qualsiasi altra persona prenoti questo immobile è molto ma molto più bassa ed ecco perché è importante essere a conoscenza di quelli che sono i filtri più utilizzati in assoluto su Airbnb e andare incontro a questi filtri ovvero aggiungendo questi oggetti o questi servizi che i filtri più utilizzati richiedono e di conseguenza inserendo questi oggetti o questi servizi vado incontro alla richiesta e andando incontro alla richiesta posso ottenere più pronotazioni e chiedere un prezzo più alto se vuoi capire come impostare il tuo prezzo ti ricordo che abbiamo registrato tantissimi video qui sul canale e uno di questi indica proprio il come impostare il giusto prezzo su Airbnb ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo avanti con il nostro video però prima voglio farti una premessa ovviamente questi sono solo alcuni degli oggetti e dei servizi indispensabili per fare questo business dentro Airbnb Academy che è il corso più grande d'Europa te li spieghiamo tutti con oltre 70 ore di lezioni che coprono a 360 gradi tutto il business degli affitti brevi oggi ti porto una piccola selezione ma se vuoi saperne di più qua in descrizione ho preparato dei contenuti gratuiti per approfondire il tema il primo servizio che può sembrare banale ma non lo è soprattutto magari in zone stagionali dove le persone dicono ah vabbè ma affitto per 5 mesi all'anno e anche qui è un errore in realtà potresti affittare tutto l'anno comunque le persone tendono a non offrirlo proprio perché nella loro testa non ne vale la pena ed è il wifi tutti gli ospiti al giorno d'oggi si aspettano di avere una connessione ad internet dentro casa e che sia anche veloce in maniera tale di poter rimanere connessi poter lavorare fluire di contenuti come Netflix eccetera 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 soprattutto dopo una lunga giornata passata magari al mare o a fare passeggiate per la tua città se il tuo wifi è poi particolarmente veloce Airbnb ti dà anche la possibilità di fare uno speed test e di dimostrare a tutti quanti quanto è veloce il tuo internet così facendo se una persona deve scegliere ad esempio tra un BNB che ha 40 mega di velocità e un BNB che ha 800 mega di velocità probabilmente preferirà il BNB dove la connessione ad internet è più veloce se ancora non lo hai organizzati subito per avere una connessione ad internet all'interno del tuo BNB perché è un servizio che non solo ti garantisce un numero di pronotazioni maggiore e un prezzo per notte maggiore ma ti permette anche di evitare quelle che possono essere recensioni negative infatti anche se tu non lo imposti come filtro una persona può tranquillamente decidere nella recensione di menzionare il fatto che non hai una connessione ad internet e nel 2024 non avere una connessione ad internet equivale ad essere sconnessi dal mondo i consigli che ti posso dare sono principalmente tre uno chiede ad un tuo vicino di casa se ti può condividere la password magari in cambio di un rimborso spese di 5-10 euro al mese due chiedi al tuo operatore telefonico di fiducia o anche ad altri operatori telefonici se hanno dei pacchetti per offrire internet solo nei mesi che interessano a te qualora ad esempio tu affittassi a livello stagionale ed infine se pensi che nella tua zona non ci sia una copertura internet adatta esistono servizi come Starlink di Elon Musk che ti permettono con un abbonamento mensile di utilizzare una connessione satellitare molto veloce e funzionale andando avanti troviamo una Smart TV che non è una semplice televisione ma è una televisione connessa ad internet che ti permette di fruire di contenuti come Netflix e YouTube ora, tanti di voi magari hanno già una televisione anche bella, anche grande e gli sembra un peccato o uno spreco gettarla via per sostituirla con una televisione Smart beh, non ti preoccupare perché esistono dispositivi come il Google Chromecast o l'Amazon Fire Stick TV che con 30-40 euro ti permettono di attaccare una pennetta al tuo televisore e renderle Smart così facendo il risparmio assicurato manderà incontro alle richieste sempre più comuni degli ospiti potrai alzare il tuo prezzo e ottenere recensioni positive a tal proposito ti consiglio dopo aver inserito questo dispositivo Smart o se hai già una Smart TV di lasciare anche magari degli account già preimpostati per quello che concerne Prime Video e Netflix perché magari un ospite non può inserire i suoi dati per dei blocchi che ha sull'account o semplicemente non si ricorda la password e trovare un account già pronto all'uso ti assicuro che è un'ottima chicca che permette all'ospite di apprezzare ancora di più il tuo servizio e soprattutto di spuntare poi il filtro Netflix e YouTube e Prime Video proprio sulle piattaforme come Airbnb e Booking e queste possono sembrare cose da inserire solo in appartamenti molto costosi ma secondo me è proprio qua che la maggior parte di voi sbagliano ovvero io questo servizio lo offrirei in qualsiasi fascia di appartamenti anche in casi da 70-80 euro a notte perché ti permette di differenziarti dalla concorrenza e oltre a questo il fare ciò ti permette di poter inserire nelle immagini che pubblicherai su Airbnb e Booking il logo di Netflix dicendo guarda che se per notti nella mia struttura avrai accesso a Netflix durante il tuo soggiorno un'altra chicca che ti consiglio di avere assolutamente è un bollitore per l'acqua calda tante persone non bevono il caffè ma magari hanno piacere nel farsi un tè caldo ed il bollitore è una cosa che costa veramente poche decine di euro ma fa assolutamente la differenza e di diretta conseguenza c'è anche la macchinetta del caffè ti consiglio una macchinetta a cialde molto semplice da utilizzare di evitare la moca ma se vuoi offrire un extra per gli ospiti italiani che invece magari sono abituati alla moca puoi inserire entrambe la macchinetta del caffè a cialde per chi la preferisce e la classica moca italiana per chi invece preferisce quest'altra opzione infine può sembrare anche qui banale e scontato ma il mio consiglio è quello di inserire la biancheria da letto e da bagno perché tantissime persone affittano la casa con il materasso e uno si deve portare le lenzuola da casa propria e lo testimonia il fatto che mi capita ogni tanto che gli ospiti mi chiedano ma sono incluse le lenzuola il che mi sembra veramente assurdo e anche ovviamente piatti e posate perché anche qui ci sono persone che pensano che affittare la casa significhi dare letteralmente quattro mura e nessun tipo di servizio quindi biancheria da letto, biancheria da bagno, piatti, posate, stoviglie sono indispensabili insieme ai relativi detersivi per i piatti, spugnette, guanti eccetera per poterli pulire durante o alla fine del soggiorno ma tutte queste cose chi le paga? beh se lavori in property management ovviamente le paga il proprietario di casa salvo accordi diversi e se lavori in subloccazione puoi decidere di lasciarle al proprietario al termine del contratto e eventualmente farteli scalare oppure portarteli via te ma in ogni caso sono spese veramente esigue grazie agli incassi che possiamo generare e quindi in pochi giorni di lavoro ci saremo ripagati di tutti gli investimenti per questo video è tutto ci vediamo alla prossima lezione oggi andremo ad analizzare una serie di annunci negativi e positivi nel senso annunci fatti male e annunci fatti bene fatti bene che cosa significa? che rispecchiano quello che è il metodo BNB Academy dove la fa da padrona l'eleganza, la funzionalità, l'efficacia ma facciamo un passo indietro chiunque può pubblicare un immobile su Airbnb magari arriva un immobile in eredità che ci ha lasciato nostra nonna possiamo fare due foto col telefono scrivere casa di mia nonna e pubblicarlo su Airbnb quindi Airbnb è assolutamente democratica e permette a chiunque di caricare un annuncio sulla piattaforma il problema è che un annuncio caricato così non necessariamente funziona o comunque non sta sfruttando tutte le potenzialità guadagna molto meno rispetto a quello che potrebbe guadagnare se venisse seguito il metodo BNB Academy e quindi un po' di tempo fa, qualche giorno fa rispetto alla data odierna ho realizzato una live gratuita una consulenza di gruppo per chi mi segue su Instagram quindi ti consiglio di farlo per non perderti eventuali iniziative del genere future e tra le varie cose ho analizzato annunci scadenti e annunci buoni quindi annunci che rispecchiassero in totalità o nella loro parzialità diciamo quello che è il metodo BNB Academy quindi in questa live andremo ad analizzare due tipologie di annunci annunci veramente malfatti che hanno un grandissimo potenziale inespresso e annunci che possono essere stati fatti bene gli annunci che andremo a vedere sono annunci ben fatti non sono necessariamente perfetti però comunque sono ben fatti e soprattutto si nota colpo d'occhio quando un annuncio è stato fatto bene e quando un annuncio è stato fatto male ma da che pulpito arriva questo genere di recensione? beh io personalmente nella mia carriera ho avviato centinaia di mobili in affitto breve BNB Academy la mia accademia di formazione è la più grande d'Europa con oltre 4000 studenti ho anche un franchising di affitti brevi che si chiama Rental Pro con oltre 130 affiliati quindi qualcosina di affitto breve ne capisco e soprattutto dopo aver formato 4000 persone aver visto il successo di tantissime persone che hanno seguito il mio metodo posso dirmi confidente nel fatto che se reputo un annuncio un buon annuncio è perché lo è davvero ma non voglio sedermi qui sul trono a dire il tuo annuncio è pessimo, il tuo annuncio è perfetto voglio farlo motivando il perché un annuncio è un cattivo annuncio e il perché un buon annuncio è un buon annuncio e questo appunto avverrà estraendo delle clip da questa live che ho fatto quindi magari il tono sarà molto colloquiale però è una live che è stata super apprezzata con decine e decine di feedback positivi persone che mi hanno ringraziato per l'altissimo valore che abbiamo dato in questa live ecco perché vi consiglio di rimanere attaccati fino alla fine perché veramente vedremo degli annunci molto interessanti e se questa tipologia di video ti è piaciuta fammelo sapere nei commenti così ne farò altri vi faccio prima vedere quello che io reputo un cattivo annuncio ma che comunque funziona bene e vi faccio notare come nonostante sia un cattivo annuncio in questo caso abbia comunque dei numeri interessanti quindi immaginatevi se fosse un annuncio curato per filo e per segno vi faccio vedere questa casa ad esempio che non so di chi sia, ne ho trovato completamente a caso appartamento chic a 500 metri stazione centrale io le ho regato un altro titolo le foto non sono professionali oh ragazzi nonostante tutto questo ha 241 recensioni una media migliorabile però foto, è una buona foto però scattata col cellulare tutte queste grucce vuote tutto vuoto almeno insomma dare un po' di riempimento 69 foto della cucina le foto di ogni singolo cassetta aperto il frigorifero visto vuoto così secondo me è terribile la foto del citofono chi se ne frega nel citofono qua si potrebbe mettere una mensola piuttosto che lasciare questo modem che fluttuo nell'aria logo di netflix la tv che si vedono tutti i cavi sotto insomma è molto migliorabile io questa foto l'avrei fatta con le abajur accese il letto tra l'altro sembra anche tipo una piazza e mezzo non sembra manco due due piazze non è un buon annuncio è un bel immobile sì non è un buon annuncio vado a milano mi trovo un coso che ho scritto city of westminster cioè sono a milano mi metti un bel quadretto con la foto del duomo di milano i navigli come quelli che vai a milano e c'è una foto sempre di londra o di new york perché c'era il quadro all'ikea c'è un minimo di di consapevolezza di che cosa stiamo facendo queste foto sono terribili non hanno nessun tipo di senso logico per un monolocale 36 foto siamo a un carcere non so il cancello condominiale ma sembra veramente un carcere altra foto completamente inutile foto inutilissima abbastanza inutile insomma vabbè siamo capiti non è un ottimo annuncio nonostante ciò lavora bene e quindi io mi chiedo ma se questo annuncio seguisse quello che spieghiamo in bambi academy quanto in più potrebbe generare? minimo di tre notti ragazzi io li immobili in stazione centrale cioè li ho la gente vuole stare una notte e poi prendersi il treno per andarsene a Napoli e poi in costiera amalfitana non si vuole fare tre notti in stazione centrale e infatti poi affitta 76 euro a notte ma perché è troppo stringente poi certo con tre notti lui magari è contento si mette in tasca 300 euro ma questo qua è un immobile che se ce l'avessi in mano io sarebbe almeno a 100 euro a notte minimo 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 e poi ve l'ho già fatto vedere invece come è un buon annuncio dalle prime immagini vedo bene o male un tour della casa le foto sono professionali c'è il loghino di Netflix le descrizioni eccetera eccetera descrizione come vedete non è un muro di testo unico ma ogni spazio viene descritto a sé quindi qua si parla del salone vasto salone dotato di tutte le comodità un comodo divano che all'occorrenza diventa letto smart tv curva 55 pollici con Netflix Amazon Prime YouTube climatizzatore e vari giochi da tavolo molto divertenti camere da letto dispongono di comodi letti matrimoniali e cuscini spaziosi guardaroba bagno moderno completo cioè c'è un minimo di storytelling non dico che fa sognare la persona come se fosse però cioè non era come prima aria condizionata più tv più quello cioè che sembra veramente un'equazione matematica bisogna un minimo un minimo dedicarci sì questo anche qui cioè sembra la lista della spesa un comodo letto matrimoniale un guardaroba una cucina una piastra induzione un forno a micro cioè e poi anche i testi bisogna assicurarsi di utilizzare una terminologia adeguata perché comunque questi annunci vengono tradotti in automatico da Airbnb e se utilizziamo parole strane particolari non mettiamo bene la punteggiatura rischiamo che la la traduzione che fa Airbnb nelle varie lingue del mondo sia una traduzione scarsa e che quindi poi uno non prenoti perché non capisce niente di quello che c'è scritto mi ricordo una scena che mi sembrava fatto una lezione dentro Airbnb Academy cercava i mobili in Norvegia usciva giardino violento in italiano non so che caspita di titolo aveva messo questo è norvegese e Airbnb me lo traduceva in italiano con giardino violento mi sembra che c'è una lezione dentro Airbnb Academy come caso studio proprio su sul come non sbagliare i titoli titolo troppo corto hai molto più spazio utilizzalo il titolo è veramente troppo corto foto le prime 5 foto sono tutte della piscina sembra che tu mi affitti solo la piscina mentre le prime 5 foto devono darmi una piccola panoramica di quello che è l'immobile a 360 gradi ovvio è un immobile sicuramente grande non puoi farmi vedere tutta la casa in 5 foto però piscina 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 spazio esterno sono la quindicesima foto ancora non ho capito dove io dormo se soggiorno in questa casa basta è un annuncio basato sulla piscina io dormo in piscina se soggiorno in questa casa non si può vedere la descrizione è cortissima cioè una casa del genere avrebbe bisogno di una descrizione molto più ampia questo di airbnb l'ho creato ieri e perché l'hai pubblicato c'è anche questa cosa la gente che intanto lo pubblico poi fa no perché se uno capita oggi sull'annuncio lo boccia capisci lo boccia quindi tu devi pubblicare un annuncio quando è pronto non pubblicarlo tanto per anche perché airbnb se vede che nel primo nei primi giorni che è online la gente clicca e va su un altro annuncio dirà questo annuncio non è interessante non lo spingo al contrario se l'annuncio è fatto bene i primi click magari la gente ci si soffermerà tanto tempo e ci starà di più e poi mi dici posso mandarti il link di booking no perché non è che booking lo faccio bene al bmb lo faccio male devono essere tutti fatti bene comunque booking è un casino da analizzare e darti dei feedback perché poi parti del testo in realtà lo scrivono loro quindi preferisco rimanere reputo molto più semplice analizzare il tutto su su airbnb però ragazzi non pubblicate gli annunci fino a che non sono pronti cioè veramente questo è un è un errore secondo me importante check in dopo le 16 check out dopo le 10 descrizione ripeto è minuscola deve essere molto più molto più ampia e niente in generale io piuttosto farei l'annuncio un altro annuncio fatto bene su questa casa quando è pronto lo pubblichi perché questo più tempo lo lasci così peggio è quindi purtroppo non c'è molto da analizzare vediamo ponente portorotondo vi do delle osservazioni molto rapide ragazzi eh sono perso un pezzo stasera è una serata all'insegna della Sardegna allora ponente bilocale moderno con quattro posti letto ponente se è il nome proprio che gli hai dato tu alla casa io sarei sempre per non dare nomi propri a meno che non parliamo di ville famosissime villa certosa dice che villa certosa alzo le mani so che villa è però eviterei il ponente come nome proprio eviterei il bilocale perché è una cosa molto riduttiva cioè quindi una volta a scrivere monolocale bilocale è una cosa secondo me che è un semplice bilocale quindi no quattro posti letto è una cosa assolutamente un'informazione inutile perché tanto lo leggo qua sotto c'è scritto quattro ospiti quindi sfrutterei questo spazio a disposizione per comunicare altro la vicinanza a determinati posti i servizi che offri come dicevo prima se tu analizzi la maggior parte dei competitor non ha l'aria condizionata cazzo scrivimi nel titolo che tu hai l'aria condizionata perché gli altri non ce l'hanno e nella descrizione mi dirai questo è uno dei pochissimi immobili nella zona con l'aria condizionata e quindi tu automaticamente ti stai sopraelevando rispetto agli altri le foto non sono professionali questo lo si vede sin da subito ahimè foto in verticale ho detto ragazzi ve lo sconsiglio perché vedo più spazio nero che foto qui qua sotto assolutamente mettici qualcosa perché troppo vuoto un bel logo di netflix ma comunque rifate le foto professionali dentro bambi academy avete un sacco di fotografi certificati che potete utilizzare per i vostri immobili qua ragazzi stirate mettete poi un copri piumino anche se sono località estive una sola bajure quello dall'altra parte se vuole leggere non può farlo insomma non perdetevi perdetevi in queste cose qui per favore o cancellate con photoshop questi cavi aggrovigliati o nascondete dietro per fare la foto e dopo attaccate si possono vedere queste cose sta foto anche insomma non è professionale il bagno carinissimo per carità ma non è professionale anche qui cercate di abbellirlo una piantina finta dell'ikea madonna quando vedo questi tubi a vista così la casa è buona questa con 200 euro di fotografie fa il doppio le etichette le plastiche sulle sedie ragazzi dio buono imbandita un po' la tavola un po' un po' di vivacità un po' di tocco artistico cos'è questa foto qualcosa tutto vuoto qua qua per dire no poi io non mi metterei mai a mangiare con praticamente quello a fianco cioè mettete una siepe una pianta finta un qualcosa di carino per suddividere gli spazi creare un po' più di privacy e poi qua creando privacy uno ci schiaffa anche una bella jacuzzi confiabile e via per il resto per il resto l'immobile è molto carino come dice Giacomo può essere ottimizzato mancano le foto dei punti di interesse il titolo l'abbiamo già detto è quel che l'è il testo è cortissimo cioè guarda la lunghezza del tuo testo guarda la lunghezza di un mio testo ma anche perché non sono cioè ogni ogni spazio che crea Airbnb nell'annuncio dei dettagli delle descrizioni va compilato cioè compilato solo forse il primo ma poi ci sono tutte le spazi da compilare ogni spazio va compilato perché Airbnb li fa per un motivo poi spendo più di pulizia che di costo per notte ma piuttosto aumenta il prezzo per notte abbassa la pulizia perché su me stona come cosa e poi mi dici che c'è un divano letto come dicevo prima ma non c'è neanche una foto del divano letto aperto quindi stona anche questo procediamo con Valentina allora io sono quello che si è inventato le grafiche nelle foto ma queste forse sono un po' troppo grosse ce le farei un po' più no? un po' più delicate ah dopodiché non sono foto fatte da un fotografo e se le ha fate un fotografo arrestatelo però almeno c'è l'uchino di Netflix a prezzo anche qui questo è un divano letto ok c'è aperto non è proprio il modello più comodo però c'è il lavandino prima di entrare in bagno particolare come soluzione questi mobiletti un po' vecchio stile secondo me abbellendoli ancora una volta una piantina finta Ikea che casca di sotto un po' di colore secondo me può essere migliorato poi pranzare con l'aspirapolvere a fianco ha un effetto fisheye questo annuncio si è fatto tutto col grandangolo del telefono un po' troppo troppo e poi questa foto così mi sembra praticamente che è la cosa più vicina al McDonald che non penso volesse essere questo il senso della foto cioè metti una foto dell'arena di Verona e mi scrivi dieci minuti questa roba qui la prima cosa che mi casca all'occhio a me è il McDonald idem con patate metti la foto dell'aeroporto e poi scrivi dodici minuti questa della fermata dell'autobus ok può comunque essere fatta meglio qua mi metti poi un quadratino con la foto della fermata e mi dici dove vado con quell'autobus perché io che arrivo da fuori tu mi dici bus stop tre minute walk sì e con l'autobus dove ci vado al cimitero non lo so spiegami con questo autobus vicino a cosa sono e in generale alla foto dell'aeroporto mi dici poi appunto ci arrivo con l'autobus in tredici minuti no venti minuti insomma molto migliorabile poi c'è la foto all'area di Verona qua mi scrivi la distanza e quant'altro insomma molto migliorabile secondo me self check in con il lucchetto metterei piuttosto la la chiave foto di profilo ok si vede bene si sorridente accogliente descrizione totalmente cannata qua nei 500 caratteri hai cercato di spiegare più o meno la casa quando qua in realtà devi fare un riassunto a 360 gradi e poi qua mi hai fatto hai scritto praticamente più sui mezzi di trasporto che sulla casa è anche una casa insomma tutto sommato abbastanza grande quindi roba da descrivere ce l'hai non hai assegnato tra l'altro le foto agli spazi cioè Airbnb ti dice mostrami qual è il soggiorno tutte queste sono le foto del soggiorno qual è la camera da letto io qua l'ho fatto infatti mi dice dove dormirai camera da letto 1 camera da letto 2 divano letto purtroppo qua non mostra la foto del divano letto però il senso è quello qua tu non hai assegnato le foto agli spazi vedi che poi ti fa una suddivisione salotto cucina zona pranzo camera da letto 1 bagno patio cazzi e mazzi questo te lo fa Airbnb se assegni le foto agli spazi vediamo poi vabbè non ho visto i costi di servizio che sarebbe meglio non mettere a carico degli ospiti tutte queste cose qui ovunque Matteo utilizzo solo booking per questo immobile è un errore è un errore perché utilizzi solo booking per questo immobile scusate che non ha le tutele che ha Airbnb e tutto quanto la casa di Sofia che tipo di informazione è? cioè dovrei prenotarla perché si chiama la casa di Sofia? poteva chiamarsi la casa di Mario Luca e l'avrei prenotata lo stesso quindi ancora una volta non date nomi propri alle case chi se ne frega appartamento lo vedo che è un appartamento non mi interessa io questa cosa qui la chiamerei magari chalet perché mi dà l'idea di essere uno chalet di montagna anche se a quanto pare è al mare chalet rustico con vista mare e aria condizionata per dire se hai questa è in Sardegna mi sa adesso mi sembra algero mi sembra stile sardo quando ho visto alcune cose ho detto questo è stile sardo se ho un po' un mix tra baita di montagna è molto piena molto piena sì molto carica però se hai l'aria condizionata adesso non lo vedo ad esempio wifi scriverei appunto non so chalet vista mare con wifi e netflix io in molti appartamenti soprattutto magari quelli che non hanno delle grosse peculiarità nel titolo metto sempre free wifi e va va molto perché ormai gli stranieri aria condizionata e wifi le prime due cose che guardano è quello guarda cosa c'è qua una bella madonna c'è anche un rosario l'ho visto l'ho visto a qualche parte il rosario adesso non hai avuto il tempo di attuare il tutto a togliette tutti i riferimenti religiosi ragazzi le tv non mi sembrano smart cambiale o mettici un qualcosa che le renda smart tipo il google chromecast i dettagli li lascere per ultimi cioè quindi prima mi fa vedere tutta la casa poi alla fine mi metti i dettagli però che vedo prima i dettagli poi magari le peculiarità poi certi dettagli sono inutili tipo questa foto qua anche questa cioè la casa va alleggerita però è molto bella poi questo letto sembra largo cioè sembra non capisco un letto un divano camera secondaria non lo so questa foto lo fa sembrare non capisco onestamente ci si dorme in lungo e largo oddio se poi devi affittare principalmente d'estate la foto del termosifone portatile qua lasciando che sembra che c'è una macchia tipo di nuca però Alguero è una delle città con l'occupazione più alta in Sardegna però io magari d'inverno sempre quello io lo farei vedere perché comunque fai vedere che anche d'inverno è riscaldata io per come poi ognuno giustamente queste foto le metterei da settembre in poi un po' strana sto cavo in mezzo alle balle così e poi vedo delle foto di bambini però più che altro è molto carica questa casa questa va proprio alleggerita di brutto è una casa personale c'è una pistola qua in alto spero sia forse un fucile da pesca finta perché se è vera potrebbero bannarti la bambina di Airbnb credo sia un fucile da pesca fatto in legno anche pesciolini esche da traina è rischioso veramente rischioso perché se becchi quello pignolo con questa scusa ti bannano l'annuncio da Airbnb e toccherei ovviamente tutte le foto di te da bambina queste cose qui e vabbè le foto dei punti di interesse qui mi dici vista mare però una bella foto della spiaggia per dire dicendomi dista 15 minuti manca la tua immagine è minuscola metti un'immagine incentrata sul viso e la valutazione è pessima è terribile 3.67 piuttosto ho creato un nuovo account perché non prenoterei mai da un host che ha una valutazione di 3.67 male 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 purtroppo perché sono due recensioni sarà su un altro annuncio mi sa o su questo annuncio l'ha rifatto lavoro fiorista fiorista ok anche qui a volte sono messo Airbnb un po' un conto perché come diceva dormire a casa di una fiorista l'affitto breve non è il suo lavoro principale magari non mi sa non sa fare bene questo lavoro quindi cercate sempre di scavare nella psicologia però si mancano le foto di tutti i punti di interesse posti nelle vicinanze utilizzo solo Airbnb una volta che ingrano un portale l'altro non riceve prenotazioni si va nel dubbio intanto meglio che tu ci sia secondo me che magari te ne arrivano meno ma comunque meglio esserci che non esserci io quando vedo questi copri divano impazziscono perché io dico capisco che avete paura che vi rovini il divano ragazzi ma è un business e quindi sapete che quel divano è utilizzato per Airbnb tra due anni lo cambierete ma utilizzare sti copri divano terribili poi che fanno un contrasto incredibile non si può vedere se io vi prendo dieci annunci di dieci studenti di B&B Academy sono tutti perfetti dieci annunci di persone che non sono di B&B Academy non ce n'è uno che si salva questo vi dovrebbe far riflettere comunque titolo ancora una volta angolo di Roma vicino alla metro quale metro con questa metro dove arrivo arrivo al Colosseo non ci arrivo devo fare dei cambi quindi il titolo completamente cannato copri divano non si può vedere le foto non sono professionali la tv c'è uno sticker attaccato lì cioè togliete sempre gli sticker dagli elettrodomestici dalle lavatrici microonde forni non si possono vedere queste cose qui queste emoji questo peluche giochi buttati quella cioè no mi danno l'idea di questa è casa mia quando non ci sono l'affitto sta spina attaccata qua così a caso non ha senso tovaglia orribile piatti di colori diversi cercate di dare un un filo di continuità poi a volte il divano il copri divano a volte no le foto verticali si mettono ma di dirlo no questo rotolo da cucina industriale queste bottigliette appoggiate lì i manuali degli elettrodomestici insomma zero cura no non ci siamo il tavolo con la tovaglia senza la tovaglia l'estintore buttato lì no questi queste sedici questi sedici verruttori diversi metteteci degli sticker sopra trasparenti fatti con un etichettatrice perché sennò uno gioca a fare il pianista per cercare di capire cosa sta accendendo cosa sta spendendo quindi su ognuno fate un etichetta carina trasparente con scritto non so cucina sala cercate di semplificare anche perché sennò uno fa prima lasciare le luci accese piuttosto che a capire cosa deve spegnere poi le bollette però le pagate voi camera da letto carina mi sembra un po' sottodimensionato l'arredo cioè i quadretti mi sembrano un po' striminziti i comodini un po' striminziti rispetto allo spazio però devo essere onesto è la parte meglio arredata però vedi room 1 e room 2 sono talmente uguali che se non mi fossi focalizzato sul fatto che i quadretti hanno una scritta diversa mi sembra la stessa stanza dovete distinguerli molto bene ora ormai gli arredi li hai comprati non li puoi cambiare quindi puoi utilizzare un software di grafica e scriverci sopra proprio nella foto suite numero 1 suite numero 2 e cercate di chiamarle suite che suona molto più figo rispetto a room o camera da letto master suite e junior suite però le hai fatte talmente simili che uno potrebbe non accorgersi che stai parlando di due camere diverse addirittura room 3 cioè sei pieno di stanze ma sono tutte uguali poi un po' moderno un po' classico un po' miscuglio però vabbè questo è quello che passa al convento sicuramente un immobile che opportunamente gestito con il metodo bmbh mi può fare un sacco di soldi queste foto sono terribili sembra di stare a bagdad quindi le toglierei proprio non so non danno valore balcone lato sud balcone lato nord cioè o nel balcone ci metti dei tavolini un po' si accendere qualcosa oppure così è come non averli i vasi con i tronchi secchi anche no poi io spero che voi non vi offendiate però che bellissima questa cassette della posta dentro il portone che me frega a me che sono ospite delle cassette della posta dentro il portone poi mi spieghi cassetta dove lasciare le chiave al check out cioè però non so neanche se lo spiegherei perché non è un metodo molto innovativo di fare check in e check out piuttosto glielo dici dopo che hanno prenotato anche sta foto del portone è inutile e vabbè la foto dello schermo fai un bello screenshot da via del finocchio in poi bellissima via del casale del finocchio ottimo mancano le foto di tutti i punti di interesse insomma molto 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 migliorabile però nonostante ciò hai delle buone recensioni quindi significa che puoi che puoi che puoi fare molto meglio santino metterei una una tua foto del tuo volto che secondo me è molto meglio rispetto al prenotare da un brand i prezzi 181 se sono uno mi sembrano mi sembrano dei buoni prezzi però probabilmente opportunamente puoi fare di più secondo me puoi fare di più e se questo divano letto lo apri diventano 8 posti letto se non è con 8 posti letto chiedi tranquillamente anche 350 euro a notte però è da fare una buona ricerca di mercato ultimo oh va che belle foto finalmente oh tutte le foto assegnate agli spazi e scapata perfetta piscina scapata perfetta sarebbe la fuga romantica perfetta ora purtroppo qua ci sono le foto di century 21 quindi tu hai riciclato purtroppo le foto dell'agenzia immobiliare che ti ha che hai rubato col watermark se l'hai comprata da loro potresti chiedergli di darti le foto tanto le hai spese un sacco di soldi senza il watermark perché così può sembrare anche quasi che le hai rubate queste foto di questi immobili non sia realmente tua le foto sono belle e si vede che è stato fatta home staging con cura cioè vedete il dettaglio il cuscino come è stato appoggiato le lenzuola non sono stropicciate cioè si vede quando un immobile è stato arredato con cura penso lo notiate voi stessi comunque un po' di piastrelle sono ingiallite però è spettacolare fronte la marina pure la piscina condominiale oddio la foto della piscina condominiale avrei fatta senza queste cianfusaglie il tubo giallo e quant'altro però comunque rimane un'ottima foto mancano le foto dei punti di interesse posti nelle vicinanze non ho visto da nessuna parte i set di cortesia appartamento porto mar descrizione brevissima non conosco questa località minimo due notti tu hai sia rimborsabile che non rimborsabile non hai costi di pulizia anche qui può essere fatto molto meglio sunny days rental scusa se un host professionista mi fa un po' sorridere quando vedo questi profili che sembrano dei brand però poi apri c'è un immobile secondo me fino a che hai pochi immobili meglio presentarsi come persona fisica dopo quando ne hai tanti magari ti puoi anche creare un piccolo brand ma uno mi fa un po' strano insomma secondo me che ci sia un brand con un solo immobile io se un amico dice Ludo secondo te questa casa la dovrei prenotare mi direi guarda mi sembra una truffa perché un appartamento nuovo pubblicato da un brand non ha recensioni le foto sono prese dal sito dell'agenzia immobiliare non lo so mi puzza un po' ecco se le foto invece non avessero il watermark ci fosse la faccia della persona e tutto quanto mi darebbe mi darebbe un po' più di di senso di solidità ma questo è solo il mio umile parere i costi di pulizia anche strano che non ci sia cioè se uno si preoccupa dell'immobile di solito i costi di pulizia li mette anche il fatto che non ci siano questi costi puzza un po' bene siamo giunti al termine di questo video spero che anche tu abbia capito bene o male quali sono gli elementi che rendono un BNB più efficace rispetto ad uno invece meno efficace ovviamente queste sono cose che spieghiamo per filo e per segno all'interno di BNB Academy infatti oltre alla facciata tra virgolette che abbiamo potuto vedere in questo video c'è tantissimo lavoro dietro che con le nostre guide praticamente step by step vi garantisce il successo assoluto sulla piattaforma di Airbnb e non solo perché poi abbiamo anche booking ci vediamo nel prossimo video oggi parliamo dell'arredo all'interno dei nostri immobili posti su Airbnb e booking in questo video ti svelerò qual è il singolo pezzo che mi permette in ogni struttura in maniera sistematica di affittare a 30-40 euro in più a notte quindi parliamo di comunque migliaia di euro a fine anno rispetto ad un immobile che non ha questo pezzo e soprattutto rispetto ai miei competitor che non conoscono questa strategia tanto semplice quanto geniale e già lo so che alla fine mi direte tutti ah Ludovì come una banalità è così scontato beh a voi può sembrare così banale così scontato perché adesso ve l'ho detto in un video ma vi assicuro che se fate una ricerca su Airbnb il 90% degli annunci non possiede questo strumento ma prima di analizzare nel dettaglio di che cosa stiamo parlando voglio fare una piccola parentesi sull'importanza dell'home staging e dell'interior design infatti quando valuti di acquisire un immobile ad investimento zero col property management o in sublocazione devi valutare soprattutto come verrà in foto come esternamente verrà percepito dagli altri e non deve necessariamente piacere a te ma deve essere funzionale quindi deve avere un senso nei confronti di tante persone che vedranno questo annuncio e devono essere convinte nel prenotare il tuo immobile e non quello di un'altra persona e non è solo deve essere bello quando io entro nell'immobile ma deve essere bello anche e forse soprattutto quando io lo fotografo perché le fotografie di un immobile sono come la copertina di un libro se la copertina è brutta nessuno compra il libro se le foto sono belle qualcuno prenoterà quell'annuncio e attenzione quando parlo di home staging o interior design non dico che la casa deve essere arredata armani casa o che devi spendere decine di migliaia di euro anche una casa arredata con Ikea o mondo convenienza va benissimo e può rispettare tranquillamente i canoni dell'home staging e dell'interior design che sono tematiche che all'interno di B&B Academy trattiamo tantissimo e in maniera gratuita ma prima di continuare ti chiedo di sostenere questo tipo di video iscrivendoti al canale mettendo un bel mi piace ti dirò di più al contrario spesso le proprietà con un arredo normale funzionano di più perché ci sta che se io vengo con mia madre a soggiornare in quel B&B non mi interessa avere le pareti di velluto o le lenzuola ghepardate o se vengo a dormire lì con mio padre di avere gli specchi sul soffitto non mi importa quindi per assurdo un arredo semplice e funzionale è molto più appetibile rispetto ad un arredo particolare ricercato che magari a determinate culture può non piacere lo so che stai aspettando il momento in cui ti svelerò questo oggetto magico ma abbi pazienza perché tutte le nozioni che ti sto dando sono comunque molto importanti e vanno a completare un po' il concetto di arredo funzionale e si attaccano molto bene a questo oggetto segreto che ti svelerò a brevissimo un'altra considerazione da fare è quella che dobbiamo evitare l'effetto casa della nonna con arredi misti disordinati uno stile non coerente tovaglie centrini eccetera e un altro errore gravissimo sono le persone che lasciano i crocifissi o simboli religiosi dentro casa affittando noi su piattaforme come Airbnb e Booking avremo ospiti letteralmente da qualsiasi parte del mondo e anche persone con religioni diverse dalla nostra o addirittura ate e vi posso assicurare che nessuna persona magari di fede musulmana vuole dormire in un letto con sopra un crocifisso o anche semplicemente soggiornare in una casa con simboli religiosi quindi parte del buon gusto secondo me sta nel rendere i nostri mobili neutrali e senza riferimenti magari a idee politiche piuttosto che religiose quindi per fare un piccolo recap non servono i mobili con arredi pregiati o costosissimi anche perché spesso le cose costose sono anche poco funzionali al contrario l'arredo deve essere semplicemente pulito semplice e appunto funzionale anche perché un mobile di chea è facilmente rimpiazzabile si trova facilmente il pezzo di ricambio invece se utilizzate brand pregiati come ad esempio posso aver fatto io a casa mia come lago design o living divani beh lì se vi rovinano la fodera di un divano di living divani costa anche all'incirca 5.000 euro quindi capite che non è per niente funzionale e non è la tipologia di arredo che vogliamo noi e anzi mi è capitato di acquisire in property management degli immobili con arredi di pregio io li ho tolti e ho chiesto al proprietario di mettere arredi ikea proprio per evitare inconvenienti di questo genere perché ripeto pulire un divano ikea smacchiare un divano ikea o cambiare la fodera ad un divano ikea ti costa 40 euro ad un divano living divani ti può costare 5.000 euro quindi less is more ovvero il meno è per assurdo di più e arredare in maniera semplice è la scelta migliore che tu possa fare dentro bambi academy abbiamo interi capitoli sull'home staging dove ti spieghiamo tutto per filo e per segno poi vogliamo ovviamente dare uno stile personale all'immobile per farlo ovviamente possiamo utilizzare elementi come dei quadri delle piantine delle luci colorate e se il proprietario è disposto a investire un po' di più ovviamente possiamo anche puntare ad una carta da parati o elementi più carini sempre spendendo poco ad esempio da maison du monde troviamo degli oggetti di qualità superiore magari rispetto ad ikea in mondo convenienza ma sempre con dei prezzi abbordabili ricordatevi che basta veramente poco per arredare un immobile in maniera funzionale piacevole dare anche un tocco di lusso pur spendendo poco ripeto affidandosi per lo più a brand come ikea mondo convenienza o maison du monde vi faccio vedere un immobile bellissimo che abbiamo ristrutturato assieme al proprietario a sue spese con pochissimo veramente poco 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 ma che visto in foto così può sembrare un immobile di lusso ma quindi qual è questo elemento incredibile che può svoltare completamente il tuo business di affitti brevi il divano letto che ripeto può sembrare una banalità ma la maggior parte degli annunci su airbnb non lo presenta più o meno tutte le case se andiamo a vedere hanno un divano un oggetto che permette alle persone di sedersi conversare chiacchierare e magari guardare la tv ma non ci permette di monetizzare di più perché le persone non possono dormire su quel divano dall'altra parte se quel divano fosse un divano letto a parità di spazio possiamo aprirlo e farci dormire due persone in più ciò significa che in un bilocale possiamo far dormire quattro persone in un trilocale possiamo far dormire sei persone e così via creiamo praticamente soldi dal nulla con un investimento di poche centinaia di euro perché alla fine un divano letto Ikea costa 300 euro 400 euro che spesso andrà a pagare il proprietario se si parla di property management ma al di là dei posti letto questo permette anche a dei nuclei familiari di prenotare a dei prezzi più convenienti se ad esempio una famiglia con due figli dovesse prenotare una vacanza a Milano in hotel dovrebbe prendere due camere d'hotel o una suite enorme per quattro persone mentre con gli affitti brevi gli basta prenotare un qualsiasi bilocale con il divano letto e questo rende il turismo più accessibile e soprattutto il tuo immobile il tuo business di affitti brevi più profittevole così facendo non solo andiamo ad ottenere più prenotazioni perché chiaramente maggiore il numero di persone che possiamo far soggiornare più probabilità abbiamo di essere prenotati ma possiamo anche chiedere un extra per questi posti in più ad esempio lo stesso bilocale a Milano io posso affitarlo a 150 euro a notte per due persone quindi anche se prenotano in due ma ho un divano letto io lo affitto a 150 euro se le stesse persone decidono di venire in quattro anche aggiungendolo in un secondo momento ad esempio io posso chiedere 20 euro in più a persona per dormire nel divano letto giustificando il tutto col fatto che comunque dovrò chiaramente metterci delle lenzuola magari consumeranno un po' più di acqua ed energia elettrica e quindi io vado a guadagnare di più ed ecco che la stessa casa può ad esempio fatturare 150 euro a notte con due persone o 190 euro a notte con quattro persone il tutto grazie ad un divano letto che compro una volta mi dura per tantissimi anni e mi svolta completamente il business però attenzione perché ci sono modelli e modelli di divano letto ci sono alcuni che sono più convenienti e funzionali altri che costano un sacco e funzionano male divano letto con dei meccanismi molto particolari che se sollecitati troppo potrebbero rompersi in breve tempo e noi di B&B Academy ovviamente ne abbiamo testati a decine regolarmente aggiorniamo il corso inserendo quelli che sono i migliori modelli ma soprattutto i più economici ed ecco perché se non l'hai già fatto ti consiglio di guardare i contenuti che abbiamo preparato gratuitamente qua per te in descrizione dove ti spieghiamo come poter accedere a B&B Academy e perché ha molto senso perché ovviamente qua ti stiamo condensando delle informazioni che all'interno dell'accademia vengono descritte con ore e ore e ore di lezioni modelli specifici offerte sconti dove trovarli e chi più ne ha più ne metta ma chi lo paga questo divano letto beh se si è in property management lo paga il proprietario se si è in sublocazione lo paghi tu ma puoi anche chiedere uno sconto sul canone di fitto al proprietario perché ad esempio gli dici che quel divano letto al termine del contratto glielo lascerai e anche se alla fine lo devi pagare al 100% tu hai un rientro dell'investimento velocissimo nel senso che se guadagni 40 euro in più a notte e un divano l'hai pagato 400 euro ti bastano 10 notti prenotate per essere andato a pareggio tutto il resto del guadagno extra a fine anno sarà tutto profitto che ti metti direttamente in tasca spero che questa lezione ti abbia un po' aperto gli orizzonti o comunque sia stato un ottimo ripasso per te ci vediamo nel prossimo video quest'oggi andremo a capire come calcolare il giusto prezzo per il tuo immobile in affitti brevi tante persone dicono ma io voglio 100 euro a notte e mettono 100 euro a notte sbagliatissimo perché magari quell'immobile potrebbe andare tranquillamente per le oscillazioni di mercato attuali a 150 euro a notte oppure il prezzo giusto per riempire il massimo delle notti disponibili potrebbe essere di 95 euro a notte quindi è importantissimo capire come settare il giusto prezzo sulle piattaforme di affitti brevi il prezzo è una componente fondamentale della nostra strategia a livello di business perché bene o male le notti sono 365 all'anno e noi possiamo affittare quella notte massimo ad una persona o comunque ad un nucleo di persone quindi deve essere assolutamente impostato il miglior prezzo possibile perché se sto svendendo la mia stanza quei soldi non li recupererò mai più è un'opportunità persa dall'altra parte se un prezzo troppo alto e nessuno prenota anche lì è un'opportunità persa quindi è indispensabile essere consapevoli di qual è il prezzo giusto al quale affittare riassumendo se l'affitti ad un prezzo troppo basso stai perdendo soldi se l'affitti ad un prezzo troppo alto nessuno te la prenota e stai perdendo soldi quindi vi rendete conto che è fondamentale avere il giusto pricing e la giusta formazione per impostare questo pricing un po' di tempo fa ho realizzato una live completamente gratuita una consulenza di gruppo per chi mi segue su Instagram e a tal proposito iscriviti al mio Instagram per non perderti future iniziative come questa e all'interno di questa live abbiamo trattato questo tema che ovviamente all'interno di B&B Academy viene analizzato con ore e ore e ore di lezioni quindi analizziamo veramente il tutto per filo e per segno ma se vuoi una piccola introduzione ti lascio qui subito dopo questa clip un estratto di questa live che abbiamo fatto dove spiego appunto come vado ad analizzare il prezzo quali sono i tool che utilizziamo il perché eccetera 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 buona visione quello che noi facciamo che poi ci siamo evoluti in maniera totalmente onesta all'inizio cosa facevo? io andavo su Airbnb e facevo una media dei prezzi quindi dicevo ok immobili simili al mio fingiamo che sia un bilocale fingiamo che sia un bilocale bilocali con caratteristiche simili a che prezzo vanno? caratteristiche simili significa stesso numero di posti letto stesso numero di bagni che a grandi linee sono equiparabili perché poi il bilocale può essere bilocale con gli affreschi sul soffitto e il bilocale ha redato Ikea allora a quel punto non sono paragonabili o se io ho il bilocale con vista su cupola di San Pietro è una cosa se ho un bilocale normalissimo un'altra quindi è importante capire che comunque ci sono delle sfaccettature importanti legate al singolo immobile detto ciò se gli immobili sono appunto equiparabili andavo a fare una media di quello che facevano i competitor quindi impostavo tutti i filtri su Airbnb bilocale, quattro posti letto con il divano letto un bagno, smart tv, aria condizionata e vedo che caspita effettivamente i miei competitor fanno queste cifre però tu parti svantaggiato perché non hai le recensioni quindi devi essere un po' più accattivante agli occhi del tuo potenziale ospite e quindi fai un prezzo sensibilmente minore fino a che non raccogli un quantitativo decente di recensioni che per me è 5 dalla quinta recensione inizi ad alzare un po' il prezzo fino a che non arrivi anche a distinguerti magari dalla concorrenza e questa è un'altra cosa molto importante da fare ovvero se ad esempio i tuoi competitor hanno delle recensioni negative dove viene evidenziato la rumorosità dell'immobile tu cosa devi fare? devi puntare invece sulla silenziosità sperando che anche il tuo sia chiaramente silenzioso se è un immobile rumoroso sarebbe una truffa quella di dire una cosa del genere però è importante secondo me puntare al compensare i disagi che hanno avuto gli altri negli altri B&B perché se io lo dico, faccio una ricerca lì a Roma e leggo, ah questo B&B era rumoroso quello era rumoroso, quello era rumoroso e poi ne leggo uno che mi dice il mio è silenzioso spicca ancora di più questa cosa quindi non è solo questione di controllare i prezzi ma anche cercare di differenziarsi dalla concorrenza e offrire qualcosa che gli altri non offrono però questo è quello che facevo fino a tempo fa lato prezzi quindi lato ovviamente cerco di migliorare laddove i miei competitor sono deboli ovviamente quello lo faccio e lo farò per sempre perché è importantissimo distinguersi dalla concorrenza però lato prezzi poi ci siamo evoluti abbiamo iniziato a utilizzare un piccolo plugin di Google Chrome che si chiamava B&B Track Report che prendeva questi dati di Airbnb li aggregava sotto un'unica finestra molto rapido da utilizzare molto funzionale ma molto basilare e invece a partire da dicembre 2023 abbiamo sviluppato proprio abbiamo lanciato lo sviluppo iniziato ben prima un nostro software che si chiama Badly Go che vi faccio vedere al volo vi condivido un attimo lo schermo che non è un semplice software per la ricerca di mercato ma è una vera e propria super app mi piace chiamarla per i property manager e gli host quindi è un'app dalla quale fai tantissime cose e saranno queste cose sempre di più andando avanti nel tempo tantissime cose che ti aiutano nel lavoro quotidiano quindi la ricerca di mercato capire che prezzi mettere creare dei report per convincere i proprietari a darti in gestione all'immobile stiamo lavorando per aggiungere l'invio automatico delle schedine ad alloggiati web farà il business plan adesso stiamo rilasciando l'analisi anche su booking che quasi nessun software di ricerca di mercato fa insomma diventa un po' come oggi tu entri su google e c'hai gmail google drive google fogli google documenti da un punto tu accedi a tutto Badly Go ha l'obiettivo di diventare la stessa cosa cioè tu ti scarichi questo software e fai tutto gestisci il team, le prenotazioni e cavoli vari adesso intanto faccio il login e vi faccio vedere ad esempio se mi scrivi la via del tuo immobile ti regalo praticamente live una ricerca di mercato pur non avendo tu il software ecco via Candia a Roma io vi condivido lo schermo e vi faccio vedere io ho un display molto allungato quindi se non si vede bene ditemelo ma dovrebbe vedersi bene comunque via Candia a Roma i dati li prende direttamente da Airbnb in questo momento poi manca pochissimo stiamo affinando le ultime cose e avremo anche booking avremo anche la ricerca senza date quindi adesso devo inserire delle date per avere un range preciso ma questione di giorni abbiamo booking e la ricerca senza date e grazie a questo io posso capire ad esempio cosa fanno i miei competitor non solo a livello di prezzi ma anche da altri punti di vista quindi ad esempio io metto questa fascia di date a Roma metto numero due ospiti Adeligo in automatico prende i dati live da Airbnb quindi non possono essere sbagliati ci mette qualche secondo e così facendo voi siete diciamo iper consapevoli di qual è il prezzo giusto da mettere allora come vedete mi ha fatto una diciamo una ricerca di mercato dove la prima fascia di dati è sul passato quindi mi dice in media un immobile in questa zona negli ultimi 12 mesi aveva un tasso di occupazione del 70% praticamente 69,36 il prezzo medio per due ospiti in questa zona negli ultimi 12 mesi è stato di 175 euro a notte in media negli ultimi 12 mesi i ricavi che ha fatto un immobile con queste caratteristiche sono circa 28.700 euro e la stima nei prossimi 12 mesi di un immobile con queste caratteristiche in questa zona è di circa 36.700 euro cosa significa annunci con statistiche significa che di 280 annunci che è analizzato adesso presi direttamente da Airbnb questi dati che abbiamo visto del passato si riferiscono a 194 annunci perché sono gli annunci che esistevano più di un anno fa ciò significa che quindi 86 annunci sono stati pubblicati negli ultimi 12 mesi ed essendo stati pubblicati negli ultimi 12 mesi chiaramente non può avere lo storico di un anno perché non esistevano un anno fa mentre tutta la parte sotto è la situazione attuale quindi comprende anche i nuovi annunci che appunto in totale me ne sta analizzando 280 adesso la mappa è un po' larga però vi sto spiegando come funziona il software dopo zoomiamo sulla via però mi dà invece tutta la situazione attuale quindi a Roma bene o male i prezzi per questo tipo di immobili sono 154 euro a notte prezzo minimo per soggiornare tre notti è 277 euro il prezzo massimo è 1362 euro eccetera 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 ora restringo la ricerca quella che dovrebbe essere la zona dell'immobile essendo in zona vaticano e vediamo come ad esempio i dati variano ora voi per fare questo tipo di ricerca dovreste impazzire perché si parla di segnarsi mille dati fare calcoli e molti di questi dati ad esempio i dati passati voi non potete averli mentre noi si vediamo come avvicinandoci c'è la zona del vaticano che è la zona della persona che ci ha fatto la domanda il tasso di occupazione bene o male rimane quello ma il prezzo aumenta adesso mi ha analizzato i 280 annunci perché questo Airbnb purtroppo non ti fa analizzare più di 280 annunci però mi analizza 280 annunci nella zona del vaticano vediamo che in questo caso il prezzo massimo se ci focalizziamo su questo tipo di ricerca è di 16.500 euro quindi c'è qualcuno che affitta il proprio immobile a 16.500 euro quindi è una zona sicuramente molto interessante poi possiamo giocare con i filtri come dicevo prima per cercare di andare incontro a un criterio che sia molto simile a quello dell'immobile ora io l'immobile non lo conosco però fingiamo che abbia una camera da letto un letto un bagno ha il wifi ha la cucina ha l'aria condizionata è una casa intera e ha la vasca idromassaggio badly going automatico mi rifà la ricerca con questi con questi criteri gli annunci non sono più 280 ma sono 4 perché la vasca idromassaggio non ce l'avrà probabilmente quasi nessuno se hai la vasca idromassaggio però e tutti questi filtri in realtà il tasso di occupazione è minore quindi significa che probabilmente la gente a Roma non sta cercando immobili con la vasca idromassaggio adesso non voglio dilungarmi tantissimo però per rispondere alla domanda quindi come calcolo i prezzi un tempo facevamo la media poi siamo passati ad un piccolo plugin che però è diventato secondo me obsoleto oggi con uno strumento del genere tu puoi capire alla perfezione che prezzo fare perché sai che cosa stanno facendo i tuoi competitor poi è inutile dirvi che io clicco su annunci e ho poi lo snapshot dei singoli competitor quindi in questo caso ce ne sono solo 4 perché nella zona vaticano con la jacuzzi sono in 4 però io posso vedere che poi questo big jacuzzi loft l'anno scorso ha fatto un tasso di occupazione del 45% l'anno scorso ha fatto 48 mila euro e per queste date va fuori a 2,55 a notte posso vedere che quest'altro appartamento l'anno scorso ha fatto invece un tasso di occupazione del 23% è una rendita molto bassa quest'altro 54% e quest'altro ancora 65% poi clicchi sull'annuncio ti riporta ad airbnb e quindi puoi estrapolare anche le informazioni di airbnb quindi per rispondere alla domanda questo è come io oggi capisco che prezzo fare per evitare di essere troppo alto o troppo basso il software ovviamente ha un costo però se tu ti fai un calcolo e grazie a questo software ottieni anche solo un tasso di occupazione in un anno del 10% più alto e alzi i prezzi del 10% ti sei già ripagato il software e ti sono avanzati anche soldi quindi spero di aver dato una risposta abbastanza esaustiva bene spero che questo estratto della nostra zoom call sia stato utile dentro Airbnb Academy ci sono veramente ore e ore e ore di analisi sul come fare ricerche di mercato con questi tool e non solo talvolta anche senza necessariamente dover investire in un software anche se io te lo consiglio caldamente quest'oggi come avrete potuto intuire dal titolo parleremo dell'assicurazione di Airbnb non tanto perché è un servizio a noi indispensabile perché oggettivamente viene utilizzato molte poche volte durante l'arco dell'anno talvolta anche zero ma ne parleremo perché invece è una leva che può essere utilizzata con i proprietari di casa per convincerli a fare questo business o anche a voi stessi nel senso che può aiutarvi a convincervi ad entrare in questo business perché molte delle leggende metropolitane che ruotano attorno a questo fantastico modello per fare soldi sono errate tra queste leggende metropolitane annoveriamo sicuramente quella che gli ospiti ci distruggono casa in questo video vi spiego il perché non è così partiamo dal presupposto che Airbnb a differenza di booking ti permette di recensire anche l'ospite che cosa significa se io soggiorno in un hotel o in una struttura ricettiva su booking io ospite soggiorno la struttura ma la struttura non può soggiornare me la struttura può segnalarmi come diciamo utente poco poco serio poco pulito o comunque utente non gradito però su Airbnb invece esiste un vero e proprio sistema di recensioni dove io recensisco la struttura nella quale ho soggiornato ma è anche la struttura che recensisce me quindi se io ospite ho lasciato la casa uno schifo particolarmente sporca beh il proprietario di casa può lasciarmi una recensione negativa una, due, tre stelle così facendo i futuri proprietari di strutture ricettive i futuri host possono dire ah caspita questo qui ha ottenuto una recensione negativa o più recensioni negative io non lo ospito quindi c'è un vero e proprio senso di comunità dove gli host si aiutano tra di loro dove io Ludovico non farò soggiornare delle persone se queste persone si sono comportate male in altre strutture ricettive e questa sorta di blocco passatemi il termine può avvenire in maniera automatica o manuale nel senso che noi possiamo impostare quando carichiamo un annuncio su Airbnb due opzioni l'opzione uno è automaticamente tu accetta solo le persone che hanno ottenuto valutazioni positive oppure dai la possibilità di accettare qualsiasi tipo di prenotazione se arriva una richiesta da parte di una persona che magari non è stata consigliata da altri host non è che viene automaticamente rifiutata anche perché magari insomma è una recensione di cinque anni fa ci sta che la persona nel frattempo si sia data una svegliata ma appunto non viene rifiutata bensì ci viene data la possibilità di manualmente decidere se accettare o meno la prenotazione quindi le casistiche sono due o noi impostiamo che qualsiasi prenotazione può arrivare oppure impostiamo che se appunto l'ospite non è stato recensito bene e soprattutto non è stato consigliato da altri host noi possiamo decidere manualmente se accettarlo o meno ma cosa significa essere stati consigliati da altri host significa che quando io host quindi per esempio Ludovico recensisco un ospite oltre a poterli mettere le varie stelline su come si è comportato eccetera eccetera posso anche proprio letteralmente scegliere tra sì e no la domanda è questo ospite lo consiglieresti ad altri host sì o no io posso aver messo cinque stelle e non consigliarlo perché magari comunque non lo so non si è comportato bene ma non si è comportato bene è stato cafone quindi non lo consiglio seppur io ho lasciato cinque stelle su tutti i temi oppure posso al contrario magari averli lasciato tre stelle perché ha lasciato la casa sporca ma alla fin fine consigliarlo perché magari non è stato così poi particolarmente scortese quindi la correlazione tra stelle ed essere consigliati o meno non è così stretta cioè per logica se io lascio una recensione negativa tecnicamente non dovrei consigliare quest'ospite o meglio io ragiono così però vi spiego come funziona proprio Airbnb io posso lasciare una recensione positiva e non consigliare l'ospite o posso lasciare una recensione negativa e consigliare l'ospite non ha nessun tipo di senso logico sì concordo con voi che non ha nessun tipo di senso logico però così è come funziona la piattaforma ma in realtà ripeto è una cosa positiva perché questo ci permette di avere il pieno controllo sui nostri ospiti innanzitutto perché se un ospite appunto non è stato consigliato io posso decidere di non farlo soggiornare nella mia struttura ricettiva e in secondo luogo e torniamo diciamo al tema originario l'ospite non ha nessun interesse nel comportarsi male perché se si comporta male lì lasciamo una recensione negativa e se lui ha una recensione negativa nessuno vorrà poi ospitarlo oltre a questo non dimentichiamoci che noi siamo in possesso dei documenti di identità queste persone perché li abbiamo caricati sul portale della polizia per il famoso alloggiati web e ve lo dice uno che negli anni seppur veramente poche volte comunque qualche richiesta di risarcimento d'anni ad Airbnb l'ha fatta talvolta anche da migliaia di euro e sono estremamente contento di dirvi che non ho mai avuto problemi nel senso sono stato sempre rimborsato ma come funziona quindi perché una leggenda metropolitana quella di mi distruggono casa abbiamo visto dal punto di vista diciamo di prevenzione quanto è comunque semplice prevenire questo tipo di problema attraverso le recensioni o comunque anche gli ospiti sono molto educati in tal senso consapevoli che abbiamo i documenti eccetera 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 ma se dovesse succedere il funzionamento è super semplice io vado su Airbnb richiedo innanzitutto all'ospite di ripagarmi questo danno quindi effettivamente gli descrivo quello che è successo gli allego delle prove così che lui sia consapevole se l'ospite decide di non pagare per qualsiasi motivo perché dice che non è stato lui perché ignora la richiesta perché vuole fare il furbo noi possiamo scalare il caso ad Airbnb quindi se l'ospite accetta ben venga ha pagato lui l'importante è che qualcuno paghi ma se non dovesse accettare o dovesse dire che non è vero il caso viene scalato ad Airbnb che leggerà tutto quello che abbiamo scritto e gli elementi che abbiamo allegato e ci penserà lei stessa a pagare il danno fatto ovviamente attenzione non è che Airbnb paga ad occhi chiusi controlla che effettivamente le immagini appartengano a quella casa che ci sia realmente un danno e che l'importo che state chiedendo è giù di lì insomma quello corretto è ovvio che per una sedia rotta non potete chiedere 2000 euro magari quella sedia costa 100 euro voi ci calcolate anche il fatto che dovete andarla a prendere la benzina quello e quell'altro chiedete 150 euro mandate un link dove quella sedia costa 150 euro e vi vengono dati questi soldi però comunque c'è sempre un minimo di controllo da parte di Airbnb ma se lavorate e operate in maniera seria e onesta non mi è mai successo che Airbnb non mi paghi quindi state tranquilli funziona veramente bene e a differenza di un'assicurazione solita non c'è il perito la polizza assicurativa la franchigia eccetera 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 no questa assicurazione è attiva di base su qualsiasi pronotazione su Airbnb e vi paga in tempo zero senza periti senza franchigie senza rotture di scatole con i soldi accreditati direttamente su PayPal o conto bancario sono sicuro però che alcuni di voi staranno pensando Ludovico ma magari io questo prodotto l'ho acquistato anni fa o mi è stato regalato l'ho trovato già dentro casa e non ho lo scontrino per far vedere effettivamente quanto l'ho pagato piuttosto che non esiste più questo prodotto non posso sostituirlo perché è fuori produzione o addirittura è fallita l'azienda che lo produce e allora non vi preoccupate l'importante è mandare un link di Amazon di Ikea o la ricevuta se l'avete già acquistato di un prodotto equivalente se ad esempio mi è stato rotto un TV 40 pollici full HD e oggi un TV full HD non esiste più perché esistono solo i 4K prenderò un televisore delle stesse dimensioni seppur addirittura qualitativamente migliore e Airbnb mi rimborserà il nuovo televisore però anche qui attenzione non è che vado a prendere il 4K OLED 100 pollici che mi fa anche il caffè deve essere un prodotto simile talvolta anche migliore ma deve essere un prodotto simile non che sostituisco il tubo catodico col videoproiettore le tempistiche per risolvere questa tipologia di problemi di norma sono 24 barra 48 ore a esagerare di norma si va sulle 72 ore e anche qui il feedback che ho avuto da parte degli studenti B&B Academy è comunque ottimo quando hanno avuto problemi li abbiamo aiutati noi all'interno della community e sono sempre riusciti ad ottenere il rimborso a tal proposito vi ricordo che B&B Academy l'accademia da me fondata è il corso di formazione e la community più grande d'Europa per tutto quello che riguarda gli affitti brevi e se volete approfondire il tema qua in descrizione trovate dei contenuti gratuiti tra le varie cose è anche la possibilità di prenotare una consulenza gratuita con il nostro team per aiutarvi a capire se questo percorso può fare a caso vostro ma proseguiamo con il video perché questo è un tema veramente importante che penso che possa far scegliere a tantissimi di voi di intraprendere questo business perché veramente nessun business vi dà queste tutele al contrario anzi spesso lavorare in determinati business online significa avere contro le piattaforme con magari Amazon che deve inviare dei prodotti ai clienti fanno il reso e Amazon non ti tutela per niente da questo punto di vista con i resi quindi forse questa è la prima e unica casistica dove un grande colosso come Airbnb ti aiuta ti rimborsa ti supporta nell'attuare il tuo business mentre dall'altra parte abbiamo visto veramente tantissimi altri business dove questi grossi colossi praticamente ti fanno una guerra e voglio parlarvi dell'ultimo diciamo caso studio in ambito rimborsi che mi è successo un po' di tempo fa ovvero un ospite ha rotto una chiave nella serratura della porta di casa e ho ottenuto un rimborso di ben 400 euro per risolvere questo problema vi allegro qui gli screenshot per farvi vedere insomma che è un caso studio reale non è un qualcosa di inventato il tutto è stato risolto in maniera super semplice perché ho mandato una foto del danno il preventivo da parte del della persona del fabolo insomma che avrebbe risolto il problema e airbnb mi ha pagato senza batter ciglio per chiudere il video alcuni di voi si staranno chiedendo ludovico ma su booking invece visto che parli spesso anche di booking su booking puoi chiedere una caparra anticipata quindi prima di entrare puoi impostare il fatto che all'ospite venga addebitata anche una caparra per eventuali danni che eventualmente puoi trattenere oppure in aggiunta o in contemporanea passami il termine puoi anche decidere di stipulare un'assicurazione esterna e dentro B&B Academy abbiamo delle convenzioni e spieghiamo quali sono le migliori per questo video è tutto ci vediamo nel prossimo video quest'oggi parliamo di automazione dell'ingresso e della fuoriuscita di ospiti dalle strutture ricettive in nostra gestione se avete visto la terminologia o meglio la lezione sulla terminologia abbiamo parlato del check in del check out ovvero il momento in cui una persona entra all'interno del nostro immobile check in e il momento in cui una persona esce dal nostro immobile ovvero check out bene abbiamo probabilmente anche già accennato al fatto che esiste un self check in e un self check out ovvero come dice la parola stessa una metodologia attraverso la quale l'ospite può accedere o lasciare l'immobile in maniera completamente autonoma questo è un grandissimo vantaggio per noi innanzitutto che ci permette di non essere dipendenti dai nostri immobili quindi anche se io ho un immobile e un ospite sta entrando in esso io posso magari essere a cena con la mia famiglia a dormire giocare alla playstation o fare quello che voglio ma dall'altra parte per non essere egoisti in realtà stiamo dando anche un grandissimo vantaggio al nostro ospite che può entrare con assoluta flessibilità infatti quando io sono entrato nel mondo degli affetti brevi non esisteva nessuno che facesse formazione non esistevano libri non esisteva assolutamente niente all'inizio è inutile dirvi che io il check-in li facevo di persona cioè andavo lì ci accordavamo che alle 4 ci vediamo di fronte al palazzo io arrivavo alle 4 e l'ospite magari arrivava alle 5 arrivava alle 5 e mezza alle 6 talvolta non arrivavano neanche e lì mi sono reso conto dei limiti di questa cosa perché subito dopo essere partito ho iniziato ad acquisire altri immobili e chiaramente non potevo sdoppiarmi all'inizio ho fatto affidamento ai portinai a delle persone che potevano aiutarmi dopodiché mi sono ingegnato con dei dispositivi che vedremo in questa video lezione chiamiamola così uno dei grandi vantaggi del self check-in come dicevo è sicuramente l'avere un sacco di tempo libero per noi è avere flessibilità nei confronti dell'ospite ma è anche il poter accettare prenotazioni last minute solo oggi me ne sono arrivate 3 all'ultimo minuto per lasciando che io mi trovo dall'altra parte del mondo rispetto agli immobili ad esempio dove ho ricevuto queste queste prenotazioni l'avere un self check-in mi permette anche di poter accettare una prenotazione alle 11 di sera per una persona che magari arriverà mezz'ora dopo all'interno dell'immobile mentre se facessi un check-in classico qualcuno dovrebbe volare in quell'immobile lì last minute con conseguenti magari costi maggiorati per me ma anche costi maggiorati per l'ospite perché poi in realtà un late check-in ad esempio può essere pagato di più però chiaramente un ospite magari non prenota quella casa perché deve pagare late check-in mentre essendoci un self check-in non deve pagare quindi l'offrire un self check-in oltre ad avere un sacco di vantaggi logistici ci permette anche di avere una probabilità di ottenere prenotazioni maggiore rispetto a chi non offre questo servizio ma in questa lezione non voglio ripassare tutta la teoria del perché il self check-in è comodissimo eccetera eccetera voglio parlare di quali sono principalmente i dispositivi per automatizzare il check-in infatti abbiamo principalmente tre tipologie di self check-in attivi passivi e rudimentali dove per attivi chiaramente parlo di tutti quei dispositivi smart connessi intelligenti con i quali puoi interagire magari da remoto quelli passivi parlo di cassettine per le chiavi serrature per la cassetta della posta create ad hoc per il self check-in e quelli rudimentali parlo di accessori veramente incredibili geniale chi l'ha pensato che possono comunque funzionare anche se rudimentali e andremo a vederli un po' più nello specifico partiamo dai rudimentali perché? perché ce li ho qui con me ne ho acquistati esattamente tre adesso metto qui e ve li faccio vedere a brevissimo e non sono nient'altro appunto come dicevo prima dei sistemi di self check-in non proprio super professionali però che magari funzionano quindi devo essere onesto non li ho mai attuati però se ad esempio mi trovassi in una situazione dove per qualsiasi motivo magari non c'è connessione ad internet e quindi non posso utilizzare un sistema di self check-in intelligente sono impossibilitato ad installare una masterlock o semplicemente tengo questi sistemi rudimentali come backup quindi ho un self check-in attivo ho un self check-in passivo ma per sicurezza se si incastra la chiave se un altro si dimentica di lasciarla ok come backup come scorta ho uno di questi sistemi e partiamo dal primo che non è nient'altro che un fantastico sasso finto ok cerco di avvicinarmi alla camera sperando che metta a fuoco vedete è un sasso a tutti gli effetti con la possibilità di rimuovere un coperchio e inserirci delle chiavi non è troppo spazioso devo essere onesto c'entrano probabilmente le chiavi condominali se avete quelle chiavi lunghissime di mille mila anni fa già questo sistema non va bene però insomma è un buon sistema ad esempio qui ho le chiavi di un altro sistema di self check in rudimentale che vi mostrerò a breve quello che posso fare è prendere queste chiavi che adesso sono in un sacchetto di plastica infilarle qua dentro chiudere il tutto con questo fantastico coperchio e mettere questo sasso in giardino manderò chiaramente agli ospiti le istruzioni dicendo guarda sotto l'albero a destra trovi un sasso in questo sasso togli il coperchio e trovi le chiavi ripeto non è il massimo della professionalità non lo consiglio non è la cosa più sicura del mondo però è importante in qualità di formatore che io menzioni tutte le opzioni possibili immaginabili con i pro e i contro infatti insomma fare il formatore non significa ti dico cosa fare fare il formatore significa io ti spiego tutte le opzioni possibili immaginabili dalla più stupida alla più intelligente dalla più economica alla più costosa e poi tu in base alle tue esigenze in base al tuo feedback in base al tuo pensiero scegli l'opzione che più ti aggrada ma non è che io ti impongo il mio pensiero ad esempio Ludovico utilizzo molto le masterlock e utilizzo molto il sistema nuki piuttosto che switchbot ma non è che io nel corso insegno solo masterlock switchbot e nuki io parlo di tutte le opzioni possibili immaginabili perché è giusto che un formatore faccia questo tipo di lavoro quindi primo sistema rudimentale un fantastico sasso finto ovviamente acquistato su amazon 10-15 euro non mi ricordo però è fatto veramente bene molto simpatico ma non troppo professionale il secondo sistema non è nient'altro che un finto irrigatore quindi chiaro che se avete un appartamento e non avete un giardino l'irrigatore non lo mettete da nessuna parte così come questo in pieno centro a milano dura 5 secondi prima che qualcuno non li tiri un calcio non lo tiri in testa qualcuno su un'auto ok però se avete una villa ok ci sta ad esempio io ho una villa ci sta che voi inseriate un finto irrigatore ancora una volta potete dare delle istruzioni al vostro ospite e dirgli guarda troverai un irrigatore in un determinato luogo lì basta fare un video e ovviamente è inutile dirvi che questo irrigatore una volta svitato in questo caso contiene delle viti non so perché però ci potete però ci potete incastrare delle chiavi dentro quindi questo è un altro esempio di self checking rudimentale devo essere onesto è abbastanza credibile soprattutto nessuno va nel vostro giardino a cercare gli irrigatori quindi difficile che qualche malintenzionato possa accorgersi che avete delle chiavi dentro un irrigatore però ripeto come sistema di backup se dovesse non funzionare il sistema solito questo secondo me è funzionale arriviamo poi ad un terzo sistema di check-in rudimentale particolare come potrete intuire dai rumori è un oggetto abbastanza metallico e non è nient'altro che un finto vaso ok che dentro ha un doppio fondo finto e una volta sollevato questo doppio fondo si apre diciamo un ulteriore vano con una chiave che all'occorrenza può essere chiuso non capisco perché nel senso lo scopo di questa cosa è nasconderci delle chiavi se per nascondere le chiavi ho bisogno di una chiave diciamo che diventa un po' complicato il tutto però insomma ha un doppio fondo io qui ci posso nascondere delle chiavi chiudere mettere questa cosa qui con sopra una pianta e all'occorrenza l'ospite può semplicemente sollevare questa parte qui con la pianta dentro vera o finta che sia capovolgere il tutto e trova le chiavi è funzionale ni nel senso ancora una volta anche per questo vaso si applica lo stesso concetto di prima ovvero non è funzionale ma per backup casistiche estreme eccetera è bene sapere che esistono anche queste tipologie di self check in passiamo adesso alle metodologie meno rudimentali ma comunque passive analogiche quindi niente di digitale purtroppo non le ho qui con me perché le ho tutte installate però parliamo principalmente delle cassettine per le chiavi o serrature particolari che con un codice ti permettono magari di aprire la cassetta della posta dove trovi le chiavi io personalmente sono un grande fan delle masterlock perché sono economiche costano dai 20 ai 40 euro funzionali esteticamente anche abbastanza gradevoli si integrano abbastanza bene puoi fissarle al muro alcune hanno i ganci e ti permettono di settare un codice da dare all'ospite e l'ospite una volta inserito questo codice chiaramente potrà aprire la masterlock e ottenere così il mazzo di chiavi ripeto il vantaggio è principalmente la praticità e l'economicità il fatto che chiaramente non sia collegata alla corrente il fatto che non abbia bisogno di una connessione ad internet quindi blackout non blackout wifi che funziona wifi che non funziona non abbiamo problemi noi con questa tipologia di dispositivo però dall'altra parte cambiare il codice è abbastanza rognoso e quindi a livello di sicurezza non è il massimo perché scommetto che se io adesso vado a distanza di un anno in degli immobili che ho prenotato precedentemente dove il check-in è stato fatto con una masterlock scommetto che il codice è rimasto lo stesso quindi molte poche persone cambiano il codice della masterlock e soprattutto se lo fanno lo fanno con un'elevata frequenza quindi non è proprio il dispositivo più sicuro come dicevo esistono poi anche delle serrature per la cassetta della posta che anche esse funzionano con il codice quindi abbiamo praticamente gli stessi vantaggi e svantaggi di una masterlock diciamo l'unico vantaggio è che se magari nel condominio storcono il naso per il fatto che voi abbiate applicato una masterlock a muro o che vogliate applicare una masterlock a muro beh nessuno vi può dire niente se applicate invece una serratura differente nella vostra cassetta della posta quindi laddove rompono le scatole per la masterlock o dove non c'è spazio per la masterlock l'opzione della serratura per la cassetta della posta è sicuramente un'ottima alternativa passiamo poi infine alla macro categoria chiaramente dei self check-in attivi quindi tutti questi self check-in smart come ad esempio Nuki piuttosto che VK quindi dispositivi intelligenti collegati ad internet con funzionalità bluetooth wifi che ti permettono di creare un codice univoco per ogni ospite che viene a casa di controllare gli accessi di inibire talvolta anche gli accessi se necessario e di fare tutto in maniera un po' più smart questo è un video youtube diciamo abbastanza basico ovviamente nel corso abbiamo ore e ore con casi studio specifici per ogni singola tipologia di self check-in ma per darvi un'infarinatura ovviamente esistono anche ripeto tante metodologie per automatizzare l'ingresso e la fuoriuscita degli ospiti in maniera smart non solo serrature di casa non solo proprio la porta per entrare in casa ma anche ad esempio magari il portone condominiale il tutto sempre senza intervenire sull'impianto del condominio perché voi non potete andare e aprire i cavi del citofono diciamo condominiale quello che voi potete fare è intervenire ad esempio sulla vostra cornetta di casa sulla cornetta del vostro citofono lì potete fare quello che volete ovviamente spieghiamo tutta una serie di dispositivi come switchbot i relaiscelli il ring eccetera tutti i dispositivi che ripeto in maniera smart quindi controllabile da remoto permettono agli ospiti di entrare il mio consiglio è in generale di avere sempre un sistema principale che può essere attivo o passivo e poi un sistema di backup quindi ad esempio serratura smart e come backup una masterlock o serratura smart e come backup un sistema rudimentale o semplicemente un sistema passivo come una masterlock e una seconda masterlock o sempre un sistema rudimentale è importante avere dei backup perché comunque tra i vari diciamo contro di questi dispositivi è che talvolta ci può essere un guasto può essere che una chiave si incastri nella masterlock e lo sportellino non si riesca più ad aprire bene può essere che l'ospite precedente si dimentica di lasciare le chiavi e voi lo scoprite solo quando arriva l'ospite successivo può essere che ci sia un blackout e la serratura smart magari non funzioni o può essere che ci sia un blackout questo inibisce la possibilità di comunicare attraverso il wifi con la serratura smart che magari funziona a pile e quindi potrebbe aprirsi lo stesso ma in virtù del fatto che non c'è connessione ad internet comunque la serratura smart non funziona ed ecco che a quel punto è indispensabile avere un sistema di backup ora tutto questo potrebbe sembrare estremamente complicato oh mio dio devo spendere un sacco di soldi è complicatissimo ovviamente spiegato così in 10 minuti su youtube può sembrare complicato ma ovviamente dentro Gameby Academy abbiamo delle guide step by step dedicate al cosa scegliere quando sceglierlo quanto costa eccetera 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 quindi molto più semplice di quanto non possiate immaginare e si può automatizzare un immobile letteralmente a partire da 20 euro come ho detto all'inizio fino ad arrivare magari a 200 euro per le serrature smart più costose ma ci sono anche serrature smart che funzionano benissimo da noi recensite a 100 euro per concludere quindi quest'infarinatura su self check in e self check out quando consiglio di adoperare questa tipologia di fuoriuscita o entrata degli ospiti beh come ho detto laddove la flessibilità è importante come può essere ad esempio in delle grandi città dove gli ospiti arrivano magari anche solo per soggiornare 24 ore dall'altra parte se affittate ad esempio delle ville o in località estive dove una persona innanzitutto magari sta 2-3 settimane secondo me è meglio avere un contatto fisico non è obbligatorio ma se una persona sta 2 settimane andare voi o mandare qualcuno per dare le chiavi e dover fare il check out tra 2 settimane è sicuramente una scelta intelligente anche per capire chi sta soggiornando a casa tua e soprattutto quando si parla di immobili di lusso è importante avere un referente perché non si può vendere un immobile da 1000 euro a notte e dire trovi le chiavi nella cassettina o meglio puoi farlo ma secondo me una persona che spende 1000 euro a notte almeno la decenza di presentarti per ringraziarlo della soprenotazione tu o un qualcuno di delegato per conto tuo anche pagato 20 euro secondo me è importante averlo questo non è ripeto indispensabile non è una legge è semplicemente una regola di buonsenso nei confronti di chi sta spendendo veramente tanti soldi per soggiornare nel nostro immobile dopodichè conosco gente che fa i self check in anche in immobili di lusso sono scelte sono filosofie io come dico sempre devo sempre raccontarvi e spiegarvi tutte le metodologie al di là che io le condivida o meno quindi sappiate che si può fare self check in anche in immobili di lusso anche se io personalmente lo sconsiglio per questo video è tutto breve ma intenso oggi parleremo di un tema molto importante che abbiamo affrontato tantissimo all'interno del corso che ha appassionato moltissimo la nostra community che ho deciso di portare anche oggi qui sul nostro canale youtube ovviamente in forma ridotta perché abbiamo pochi minuti e non avrebbe senso essendoci ore e ore di lezione ma comunque affrontando un tema importantissimo ovvero quello di lavorare da soli o lavorare con dei soci ovviamente parleremo di questo tema declinato agli affitti brevi alcuni concetti secondo me riguardano in generale lavorare con dei soci o meno cioè sono regole che potreste applicare in realtà per qualsiasi tipologia di business però nello specifico io mi occupo di affitti brevi e quindi magari alcune casistiche che andremo a vedere sono appunto relative agli affitti brevi fate tesoro di quello che vi sto per dire e partiamo subito con il video molto spesso le persone quando iniziano un'avventura imprenditoriale sentono il bisogno di farsi accompagnare in questa avventura da un qualcuno che può essere il proprio partner può essere un familiare può essere un amico e magari in preda un po' all'ansia alla paura ma anche all'eccitazione dell'avviare questa cosa vogliono condividere questo percorso con un'altra persona magari una persona la quale vogliono bene e questo talvolta può essere un errore perché alla lunga quando le cose magari iniziano farsi importanti rilevanti sia in termini di mansioni che in termini soprattutto di guadagni poi nascono i primi screzzi infatti la maggior parte delle aziende che falliscono di norma falliscono proprio per litigi tra i soci ed è importante secondo me e ve lo dice uno che ha fatto tantissime aziende con soci grazie a Dio con i quali non litiga capire quali sono gli elementi tali per cui ha senso avere un socio o non ha senso avere un socio partiamo dal presupposto che non esiste una risposta giusta o sbagliata cioè non è che è giusto partire da soli o è sbagliato partire da soli così come non esiste una risposta univoca al partire e lavorare con dei soci o meno perché ogni casistica è a sé ciò che è importante distinguere innanzitutto è la tipologia di socio perché un socio può essere finanziatore quindi principalmente mette il denaro può essere un socio operativo quindi fa fisicamente un qualcosa per mandare avanti il business come ad esempio chiamare le agenzie immobiliari per acquisire gli immobili e poi esiste il socio che è sia finanziatore che operativo quindi facciamo questa distinzione un socio finanziatore di solito mette del denaro e non fa nient'altro quindi può essere un socio che lavora con noi da qui al resto dei nostri giorni perché ha finanziato la nostra opera e lo portiamo avanti con noi o può anche essere semplicemente che facciamo un accordo tale per cui lui ci presta diecimila euro gliene ridiamo quindici e finisce lì questo a questo punto sarebbe più un prestito di denaro un finanziamento però qualsiasi persona che crede in noi secondo me può essere definita un socio che crede in noi e che ovviamente ci aiuta a sviluppare la nostra idea non un semplice supporter morale però vi ricordo che questo business ha un grandissimo vantaggio ovvero quello di poter essere avviato e anche cresciuto ad investimento zero grazie al property management ovvero la gestione di proprietà altrui in cambio di una percentuale quindi non è obbligatorio spendere del denaro anzi talvolta secondo me è anche quasi controproducente ovviamente esiste la sublocazione che richiede del budget neanche troppo elevato e allora a quel punto se uno non ha il denaro o non vuole spenderlo può aver senso trovare dei soci finanziatori ma se il tuo unico scoglio è quello economico ovvero non hai il denaro da investire per fare questa attività beh allora buttati a capofitto sul property management dove puoi acquisire immobili ad investimento zero e di conseguenza puoi guadagnare ad investimento zero e non dico iniziare a guadagnare ma parlo proprio di guadagnare potenzialmente all'infinito così abbiamo studenti B&B Academy che hanno costruito aziende che valgono centinaia di migliaia di euro basandosi sul property management quindi hanno costruito aziende che oggi potrebbero vendere a mezzo milione di euro 700 mila euro forse anche un milione ma sono aziende che sono cresciute letteralmente spendendo zero perché hanno acquisito interi portfolli in property management ciò non significa che la sublocazione non sia un'opportunità e non significa che sia sbagliata anche perché all'interno di B&B Academy la trattiamo con ore e ore e ore di corso semplicemente siate consapevoli che non è necessario del budget per iniziare questo business se di conseguenza non è indispensabile neanche avere dei soci finanziatori dall'altra parte anche i soci operativi spesso si ritrovano lì perché magari pensa potrebbero darmi una mano ma a parte che gran parte del business è automatizzabile quindi non è di certo necessario avere un socio che va a consegnare le chiavi all'interno degli immobili assolutamente sbagliato e spesso le persone si ritrovano a mettersi in società anche solo per compagnia perché ah sì è il mio amico delle scuole superiori sai mi sta molto simpatico no chi se ne frega è un tuo amico rimane un tuo amico è la tua fidanzata rimane la tua fidanzata anche perché rischi di rovinare non solo il rapporto lavorativo ma anche il rapporto personale in caso di problemi e quindi come capiamo se effettivamente noi abbiamo bisogno di un socio se è giusto o meno beh secondo me ti devi porre principalmente due domande ovvero potrei fare questa cosa senza questa persona quindi potrei avviare il mio business di affitti brevi anche senza questa persona sì no se la risposta è no non posso avviare il business senza questa persona beh allora quella persona è indispensabile e deve diventare un tuo socio se la risposta è sì posso farlo anche senza questa persona beh quel socio non è indispensabile puoi farne benissimo o meno e la seconda domanda è questa persona mi permette di raggiungere degli obiettivi molto più alti rispetto a quelli che potrei raggiungere in autonomia oppure questa persona mi permetterebbe di raggiungere questi obiettivi molto più velocemente magari nella metà del tempo magari da solo ci metto cinque anni con questa persona ce ne metto due beh se la risposta è sì allora potrebbe valerne la pena ma se la risposta a questi quesiti è no quindi posso farcela da solo ci metto lo stesso tempo a farmelo da solo eccetera 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 allora questi non sono dei soci sono delle zavorre che vi state portando dentro solo ed esclusivamente perché avete paura a fare una cosa da soli vi piace l'idea di poter contare su qualcuno perché se no la tua ragazza si offende eccetera 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 sbagliatissimo non fate questo errore anche perché all'inizio è tutto molto bello e divertente ma poi quando sorgono i problemi e quando si iniziano a guadagnare bei soldi beh è lì che l'avere un socio può diventare molto problematico perché quando sorgono i problemi le persone tendono a lavarsene le mani e quindi a non aiutarti e ti ritrovi magari da solo o da sola ad affrontare delle difficoltà e tu pensavi di poter contare su quella persona e il caso completamente opposto è quello dei guadagni ovvero quando inizi magari a guadagnare 10-15 mila euro al mese ti chiedi ma aveva senso partire a lavorare con questa persona adesso potevo mettermi in tasca 10k e me ne devo mettere in tasca la metà 5 perché ho deciso di partire con un socio del quale avrei potuto benissimo fare a meno altro discorso importantissimo è quello di quanta percentuale dare a queste persone e di quanti soci siamo perché poi non è che i soci sono sempre due possono essere anche di più per quanto riguarda la percentuale beh tutto deve essere rapportato all'importo che una persona investe o all'apporto che una persona dà cioè non necessariamente essere soci significa 50-50 io con il mio socio ho fatto tante aziende al 50-50 su determinate aziende ci siamo resi conto invece che il suo apporto non sarebbe stato nell'ordine del 50% magari sarebbe stato nell'ordine del 15% e quindi lui ha acquisito il 15% di quella società dall'altra parte delle volte magari invece ci siamo resi conto che abbiamo fatto un errore ovvero gli abbiamo dato una percentuale troppo bassa e il suo apporto è stato maggiore quindi è importante analizzare molto bene quanto vale l'apporto di quella persona e quindi non basarsi semplicemente sul siamo in due facciamo 50-50 o siamo in tre facciamo 33-33-33 ma è importante dare percentuali in base all'apporto che una persona dà e poi c'è il secondo discorso ovvero in quanti soci siamo? mi è capitato di avere a che fare con aziende di vario genere sia di affitto breve che di qualsiasi altro business dove i soci magari inizialmente erano in 5 e io ho detto ragazzi ma per avviare un'agenzia di property management essere in 5 non serve a niente eh ma lui fa le foto lui cura il sito web lui le piattaforme lui le agenzie immobiliari lui le imprese di pulizia sì ma capite che partire con un progetto che vale 0 inizialmente ed essere in 5 significa che se anche dopo 3 mesi arrivi a guadagnare 10.000 euro al mese che è una cifra magnifica che può letteralmente cambiare la vita di molti e che in tantissimi studenti B&B Academy sono riusciti a raggiungere diventa in realtà una cifra inutile perché 10.000 euro al mese diviso 5 persone sono 2.000 euro a testa quindi capisci che non serve letteralmente a nulla essere in 5 persone ora se hai un'azienda enorme dopo anni puoi decidere di vendere le tue quote e far entrare dei nuovi soci e a quel punto ha senso ma partire da 0 secondo me in più di 3 soci è veramente inutile anche perché non dimenticatevi che se avete bisogno di un fotografo potete comunque trovarlo a letteralmente pochi euro da investire e inizialmente voi potete occuparvi un po' di tutto dopodiché crescete iniziate a delegare iniziate ad automatizzare iniziate a collaborare con altre persone ed ecco che queste mansioni tra virgolette possono essere svolte da altre persone che non necessariamente devono essere soci cioè essere soci non significa ah vabbè così almeno non devo pagare qualcuno perché oggi non lo devi pagare ma un domani quella quota potrebbe valere talmente tanti soldi che forse ti conveniva pagare un qualcuno di esterno e poi tornando al discorso del property management ovvero di poter guadagnare ad investimento zero il vantaggio è che anche successivamente quando inizierai a guadagnare cifre importanti non dovrai spartire questo denaro con altre persone mentre magari adesso appunto parti con un qualcuno che ti aiuta dopo un mese due mesi sei indipendente ma ti ritrovi a dover contribuire o meglio a dover suddividere gli incassi a vita con questa persona qui immaginati che magari per aver avviato oggi un progetto che tra due anni vale un milione di euro devi dare il 50% di quella roba lì a qualcuno solo perché ti ha dato una mano all'inizio e poi magari non ha più contribuito a questa cosa qui sarebbe veramente una follia quindi l'avere un socio deve essere un qualcosa di non dettato da circostanze temporanee non deve essere un qualcosa di ah ne ho bisogno adesso ma devi essere molto proiettato o proiettata sul futuro e capire se sul lungo termine questa è una cosa di cui tu puoi avere bisogno o meno e poi un altro errore che fanno spessissimo le persone quando partono è il non contrattualizzare questi rapporti di collaborazione magari dici sì vabbè ma io mi fido di lui di lei ma sappi che le persone quando ci sono di mezzo i soldi cambiano completamente ed è importantissimo contrattualizzare qualsiasi tipo di collaborazione ovviamente all'interno di B&B Academy trovi tutti i contratti di cui tu puoi aver bisogno per collaborare con agenti immobiliari amici parenti proprietari di casa eccetera eccetera sono frutto di 5 anni di formazione quindi abbiamo aggiunto qualsiasi tipo di contratto di cui la nostra community potesse aver bisogno quindi mi raccomando non lasciare nulla al caso e contrattualizza tutto dalla A alla Z anche se è la persona di cui ti fidi di più al mondo o è la persona di cui sei super innamorato o innamorata anche perché domani la relazione potrebbe finire ma il lavoro invece potrebbe dover continuare quindi è importante avere tutto scritto nero su bianco e poi un'altra questione di cui spesso le persone sono ignare è che essere soci collaborare eccetera eccetera non significa necessariamente dover avere una società assieme può anche essere tutto frutto di una scrittura privata che ha comunque valenza legale e quindi puoi decidere di avere un socio o socia anche magari iniziando come persona fisica piuttosto che con una normalissima partita IVA forfettaria o partita IVA ordinaria ed individuale esiste anche la possibilità della SRL ovviamente ed assolutamente ma si può essere socio e collaborare in mille formule diverse che ovviamente spieghiamo dentro B&B Academy anch'esse insomma siamo giunti alla fine di questo video il riassunto in parole povere è se pensi di poter raggiungere questi risultati in completa autonomia fallo se invece pensi di avere bisogno di qualcuno ed è indispensabile beh circondati di uno o più soci contrattualizza sempre qualsiasi tipo di collaborazione o socio barra socia e mi raccomando pensaci attentamente perché potrebbe essere un'esigenza attuale ma magari tra qualche mese potresti già non averne più bisogno ci vediamo nel prossimo video oggi voglio parlarti di un tema importantissimo una delle leggende metropolitane in assoluto più assurde che io abbia sentito ovvero per svolgere il business degli affitti brevi devo avere il patentino d'agente immobiliare sbagliatissimo e in questo video ti spiego perché ho preparato una serie di appunti che andrò a leggere perché è anche difficile ricordarsi tutto quanto ho cercato di prendere tutte quelle osservazioni che negli ultimi anni mi hanno fatto soprattutto quando ho iniziato ad insegnare questo business appunto oltre 4.000 persone le ho racchiuse queste queste osservazioni queste domande che mi hanno fatto in un unico file cercherò di toccare tutti i punti approfondendoli di maniera tale che innanzitutto tu sia consapevole che no non devi essere un agente immobiliare per fare questo business al contrario gli agenti immobiliari sono dei nostri partner delle persone che ci aiutano a guadagnare molto denaro in questo settore e anche per smontare magari eventuali obiezioni che un proprietario di casa potrebbe farti dicendoti ad esempio ah ma non sei agente immobiliare no non sono agente immobiliare perché è un lavoro completamente distinto premessa l'agente immobiliare come ho detto poco fa non è un nostro nemico non è un qualcuno che ci va contro anzi in realtà è un nostro partner perché se avete le giuste competenze sapete come approcciarli in realtà diventano dei nostri cavalli di troia passatemi il termine per entrare ed acquisire tantissime case in questo mercato super florido basti pensare che all'incirca il 50% dei miei immobili parliamo di oltre 100 immobili sono stati acquisiti attraverso agenzia immobiliare e tra le varie cose forse anche gli immobili più belli in assoluto che io ho acquisito li ho acquisiti grazie a degli agenti immobiliari perché sono riuscito a spiegare loro quali sono i principali vantaggi di questo business a rendere partecipi loro dei guadagni che vengono generati da questo business che fortunatamente sono molto alti e quindi ci permette di dare una parte di questi guadagni appunto agli agenti immobiliari e quindi siamo diventati una macchina da lavoro perfetta dove collaboriamo gli agenti immobiliari in Italia sono centinaia di migliaia quindi non è che Ludovico ha preso tutti gli agenti immobiliari d'Italia e gli ha saturati tra virgolette gli ha monopolizzati no io lavoro con qualche decina di agenti immobiliari là fuori è pieno di agenti con i quali potete collaborare anche voi adesso poi tra l'altro siamo nel canale lingua italiana io ho community e accademi di formazione anche in altre lingue in portoghese in inglese in spagnolo e questo è un concetto che si applica ovunque nel mondo anche in Svizzera anche in Francia anche in Spagna Argentina Stati Uniti che più ne ha più ne metta quindi non è un qualcosa all'italiana è un qualcosa di comprovato e testato a livello mondiale da me e da migliaia di studenti che fanno parte delle mie community ma lo scopo del video di oggi non è dire quanto è bello lavorare con gli agenti immobiliari come vi ho detto poc'anzi è il spiegarvi il perché non c'è bisogno di fare l'agente immobiliare per fare questo business anche perché alcuni commercialisti potrebbero dirvi no devi avere il patentino d'agente immobiliare e rischiare così di compromettere una vostra acquisizione prima di iniziare ad entrare nello specifico voglio informarti che qua nella descrizione di questo video youtube trovi due regali che ho per te oltre a questo meraviglioso video che è già un regalo di per sé e sono un ebook completamente gratuito dove ti spiego i primi passi da fare per entrare in questo business e in secondo luogo la possibilità di prenotare una consulenza gratuita con il mio team per capire se nella tua zona c'è effettivamente la possibilità di fare questo business in maniera profittevole e se è un qualcosa che ti si addice perché ci sta che a qualcuno effettivamente questo lavoro possa non andare a genio magari sei iper introverso non ti piace parlare con nessuno ti piace stare nella tua cameretta dalla mattina alla sera forse questo non è un lavoro per te al contrario se comunque due parole le riesci a dire in pubblico al contrario se una persona molto ambiziosa vuoi guadagnare tanti soldi non ti spaventa magari il pensare di iniziare a ragionare come un grande imprenditore che guadagna decine di migliaia di euro al mese ebbene queste cose ovviamente possiamo capirle in consulenza con il mio team così come magari stai cercando semplicemente un business che ti faccia guadagnare 1000 euro al mese in più questa è un'altra opzione ad esempio che si può percorrere con questo business quindi il mio consiglio è prenotate questa consulenza è gratis non vi costa nulla e capite alla fine di questa chiamata se è una cosa che fa per voi o meno altrimenti tornate alla vostra vita di tutti i giorni a me questo business ha cambiato la vita l'ho fatto anche con mia madre la mia ragazza anche la mia ex ragazza se vogliamo essere onesti è un business che ha cambiato veramente la vita di tantissime persone attorno a me oltre alla mia community che è composta da migliaia di persone da tutto il mondo comunque passiamo al video in sé per sé tutti sappiamo che per fare l'agente immobiliario in generale per essere un intermediario all'interno di questo settore serve una licenza specifica non è nulla di trascendentale avere il patentino da gente immobiliare basta studiare e fare un esame di abilitazione però comunque possiamo reputarlo uno scoglio ma anche no perché in realtà non abbiamo bisogno di questo patentino e ci sono purtroppo tante aziende o persone che vogliono a tutti i costi vendervi licenze patentini per fare il property manager spesso sono avvocati che puntano al fatto di spaventarvi e farvi paura per dirvi no devi avere il patentino e non c'è nulla di più sbagliato quindi non fatevi fregare se volete fare il patentino è perché volete fare l'intermediazione immobiliare intesa come rappresenta un cliente per la compravendita di un immobile ma se dovete fare gestione di affitti brevi non c'è bisogno di nessun tipo di patentino men che meno da agente immobiliare ovviamente se in futuro diventerà necessario avere un patentino non mancheremo di aggiornarvi ma è veramente difficile non l'hanno fatto fino ad oggi non ha nessun tipo di senso logico che venga fatto in futuro e posso dirlo con certezza perché comunque su 4.000 studenti la quasi totalità di questi sono partiti con questo business e ciò significa che sono state fatte 4.000 dichiarazioni di erediti decine di migliaia di contratti di locazione commercialisti dei proprietari che si sono interfacciati con i nostri studenti insomma abbiamo avviato una macchina abbiamo creato veramente una rivoluzione nel settore lavorativo in Italia e ogni qual volta è stata fatta questa obiezione abbiamo portato la nostra documentazione che ovviamente è trovata all'interno di B&B Academy e nessuno ha mai detto che ciò fosse sbagliato quindi tutti hanno confermato che effettivamente questo business si può fare senza patentino e basti pensare che al contrario dentro B&B Academy il 99% delle persone non è agente immobiliare perché chiaro se sei agente immobiliare magari puoi partire leggermente avvantaggiato ma abbiamo tanti casi studio uno in particolare è quello di Simone che era agente immobiliare e ha lasciato la professione di agente immobiliare per dedicarsi solo ed esclusivamente all'affitto breve perché? perché questo è un business molto più profittevole dove hai molti meno obblighi e meno concorrenza vi basti pensare quante agenzie immobiliari ci sono nella vostra città se siete in una grande città parliamo di centinaia se non migliaia di agenzie immobiliari invece quante agenzie di affitti brevi esistono? probabilmente zero una o due perché le agenzie di affitti brevi praticamente non esistono quindi capite che è un mercato che ha ancora tantissimo margine per essere sviluppato e oltre al fatto che la concorrenza è centomila volte minore il grande vantaggio che ha ad esempio fatto decidere a Simone ma anche a tanti altri agenti immobiliari che sono entrati in B&B Academy di lasciare questa professione è che di norma l'agente immobiliare deve continuamente trovare nuovi affari cioè io prendo una casa riesco a venderla mi intasco la provvigione è finita lì devo sempre trovare il nuovo affare devo sempre trovare la nuova casa da acquisire la nuova il nuovo cliente al quale vendere quindi è un continuo rincorrere i soldi al contrario con l'affitto breve tu puoi tranquillamente acquisire una due tre case e non è che devi sempre trovare la nuova casa perché finisce lì no la casa rimane quella la metti online le prenotazioni arrivano in automatico da Airbnb e Booking che ci pensano loro a fare tutto il marketing e a trovarti i clienti e quindi tu puoi letteralmente sederti sdraiarti dimenticarti di queste case automatizzarle e guadagnare in maniera passiva e praticamente automatica mentre ripeto con la compravendita di immobili una volta venduta la casa voi dovete sempre trovarne un'altra 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 io ho case da 6-7 anni che sono ancora lì che mi fanno soldi mentre come agente immobiliare questa cosa sarebbe letteralmente impossibile e un'altra leggenda immobiliare è pensare che coloro che sono agenti immobiliari fanno affitti brevi assolutamente no meno dell'1% degli agenti immobiliari fa affitti brevi e al contrario consapevoli che un business completamente diverso si affidano a noi property manager certificati quindi non dal primo che passa ma solo da property manager certificati per segnalarci immobili laddove ad esempio un proprietario voglia prendere appunto il suo immobile e metterlo in affitti brevi e perché per farvi un esempio classico un agente immobiliare dovrebbe voler collaborare con noi e non farselo da solo innanzitutto indole non ha esperienza non ha formazione e rischia anche di sembrare un tutologo perché se l'agente immobiliare fa anche affitti brevi il cliente potrebbe dire scusa ma allora non sei bravo a fare nessuno dei due se fai due cose e soprattutto perché noi aiutiamo gli agenti immobiliari a vendere più immobili perché prima potevano vendere una casa dicendo questa è una bella casa di 100 metri quadri finita là collaborando con noi possiamo realizzarli delle ricerche di mercato certificate utilizzando software come Bedly Go e quindi un proprietario non sta più vendendo una casa ma sta vendendo una casa con una ricerca di mercato che dimostra che quella casa ad esempio può fare 100.000 euro all'anno di incassi mentre prima potevano parlare praticamente solo di affitto classico che in media ti fa guadagnare la metà rispetto ad un affitto breve ed ecco perché gli agenti immobiliari ci adorano ecco perché è un business completamente diverso ed ecco perché collaborano con noi perché grazie a noi possono vendere più case e come dicevo prima circa il 50% degli immobili che io ho acquisito li ho acquisiti proprio così sfruttando delle ricerche di mercato che hanno permesso alla gente immobiliare di vendere l'immobile con più facilità e dopo averlo venduto è entrato direttamente in gestione a me e quindi c'è stato anche un doppio guadagno perché ho preso anche una diciamo segnalazione una provvigione per aver aiutato la gente immobiliare a vendere l'immobile e in più ogni mese io guadagno da quell'immobile la mia provvigione da property manager che può arrivare sino al 40% e se parliamo di immobili invece da darci in subloccazione non ve lo dico neanche che quello è un altro business incredibile da fare in collaborazione con agenti immobiliari perché? perché l'agente immobiliare non deve neanche fare le foto professionali non deve pubblicarli sui portali eccetera 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 praticamente appena prendono le chiavi della casa la prima cosa che fanno è mostrarlo a noi property manager certificati e dopo aver visto l'immobile noi diciamo subito sì lo voglio o no non lo voglio se non lo vogliamo lo pubblicano e fanno la solita tiritera che fanno di solito ma adesso non devono neanche più pubblicizzare l'immobile perché sanno già che molto probabilmente lo acquisiremo noi appunto in property management o in subloccazione a questo punto ti starei chiedendo Ludovico ma qual è la legge che regolamenta effettivamente il fatto che io non devo essere agente immobiliare beh puoi accontentarti e fidarti di quello che ti sto dicendo oppure se vuoi una spiegazione precisa con riferimenti a legge e quant'altro ovviamente lo spieghiamo dentro B&B Academy per questo video è tutto ci vediamo nel prossimo video oggi parliamo di un tema molto importante ovvero le piccole città diamo tutti per scontato giustamente che le grandi città di qualsiasi parte del mondo questo business sia un business molto profittevole Milano, Torino, New York Parigi, Tokyo, Shanghai dove vogliamo ovviamente se si tratta di una grande città si fanno pacchi di soldi con questo business ma parliamo anche delle piccole città perché erroneamente tante persone pensano che piccola città uguale piccoli guadagni invece no talvolta nelle piccole città si può guadagnare ancora di più e si fanno affari migliori che nelle grandi città per due motivi se operiamo in sublocazione i canoni di locazione magari in città secondari ma comunque con un ottimo richiamo come possono essere Pisa Lucca Isernia Termoli per fare degli esempi completamente a caso ma poi ce ne sono letteralmente a migliaia i canoni di fitto sono molto bassi eppure se andiamo a vedere i prezzi su Airbnb sono ottimi ciò ci permette di fare praticamente ancora più soldi rispetto ad una sublocazione in una grande città cioè investo mille in una delle città più piccole di cui ti ho parlato poco fa e ho un ROI più alto rispetto ad investire gli stessi mille euro in una grande città quindi già questo è un esempio che poi andremo un attimo a snocciolare un po' più nel dettaglio il perché e il secondo esempio è proprio perché magari in queste piccole città non ci sono tanti property manager in generale in Italia ce ne sono pochissimi un mercato ancora in fortissimo sviluppo ma magari a Milano qualcuno lo troviamo ecco a Isernia i property manager ad esempio potrebbero essere due a Lucca saranno cinque ad Asti saranno tre e siccome ce ne sono pochi e quei pochi che ci sono nella maggior parte dei casi non hanno ottenuto formazione non sono certificati i B&B Academy eccetera eccetera possiamo chiedere di più cioè laddove c'è poca offerta il prezzo lo facciamo noi e quindi possiamo magari chiedere un 40% di provvigione alcuni studenti i B&B Academy sono riusciti a chiudere delle case al 50% chiaro che 50% a Milano è impossibile saresti completamente fuori mercato però in una zona dove i property manager non ci sono e se ci sono sono molto scarsi il mercato lo fai tu e le cifre da richiedere ai proprietari le fai tu hai il coltello dalla parte del manico detto ciò non mi fraintendere non significa che questo business funziona in qualsiasi città d'Italia o del mondo possiamo fare delle ricerche di mercato ovviamente dobbiamo fare delle ricerche di mercato ma per mia esperienza che non è solo la mia di centinaia di proprietà che ho gestito o che gestisco ma è l'esperienza di oltre 4.000 persone nel 99% dei casi anche nelle città dove tu non pensavi che si potesse guadagnare si può guadagnare poi oh non è che magari a Casal Pusterlengo diventi ricco a gestire immobili sto prendendo un esempio a caso magari a Casal Pusterlengo si guadagna un sacco di soldi però veramente abbiamo avuto evidenze di località dimenticate da Dio con pochissimi abitanti dove la gente fa veramente tanto 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 denaro andiamo a vedere quali sono i punti da tenere in considerazione quando vogliamo capire se in una zona c'è richiesta o meno punto numero 0 non è neanche l'1 proprio è la base e la domanda che ti devi fare è nella città in cui opero voglio operare nella città in cui vivo dove voglio andare a vivere esistono strutture ricettive? ovvero esiste già almeno un hotel almeno un bed and breakfast almeno un immobile su Airbnb una fitta camera una qualsiasi struttura ricettiva dove una persona può soggiornare se la risposta è sì beh complimenti hai trovato una zona nella quale operare perché se c'è già una struttura ricettiva e non è fallita quindi esiste da più di un anno significa che evidentemente c'è della richiesta cioè se esiste un hotel ad esempio ed esiste lì da anni o esiste un Airbnb ed esiste da anni eccetera 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 significa che evidentemente guadagna perché nessuno tiene aperta una struttura ricettiva o un qualsiasi tipo di attività per perdere denaro no? se perdessero denaro avrebbero già chiuso e sarebbero falliti quindi se quella struttura esiste da anni è perché evidentemente c'è richiesta quindi se nella tua città o appunto dove vuoi operare c'è almeno un hotel o un Airbnb o una qualsiasi cosa e magari butta anche un occhio alle recensioni per capire insomma da quanto tempo esiste bingo hai trovato una località dove puoi guadagnare il quanto poi lo vedremo successivamente quello era il punto numero zero adesso partiamo dal punto numero uno l'Italia benché tu magari non ci abbia mai fatto caso è una delle mete turistiche più ambite al mondo e turismo non significa solo grandi città non significa solo Roma Torino Firenze Venezia eccetera ma significa anche forse soprattutto queste piccole località ad esempio ci sono gli appassionati di montagna e quindi andranno in montagna gli appassionati della mountain bike ci sono le località specifiche della mountain bike quelli che amano lo sci di fondo e quindi vanno in quei posti lì insomma ragazzi c'è un turismo incredibile in Italia parliamo di decine di milioni di turisti che quando arrivano da qualche parte dovranno pur dormire quindi ogni singolo turista che ogni tanto vedi nella tua città sappi che sta pagando qualcuno per dormire in quella città nel luogo in cui ti trovi quel qualcuno potresti essere tu ma per essere tu devi avere delle competenze e per avere delle competenze ovviamente devi formarti da dei professionisti ma sei molto fortunato o fortunata perché sei di fronte al fondatore della più grande accademia di formazione in Europa lato affitti brevi ovvero B&B Academy della quale e poi proseguiamo con il video trovi una serie di contenuti gratuiti importantissimi qua in descrizione termina il video e non perderteli perché sono delle vere e proprie chicche quindi abbiamo visto che esistono delle località dove esiste comunque turismo di nicchia ma è sempre turismo sono sempre soldi ti basti pensare poi anche solo alle Langhe vicino Alba in Piemonte dove la gente va a visitare lo stabilimento della Nutella dove la gente va a provare i vini i formaggi eccetera o nella zona dell'Emilia Romagna dove c'è la Motor Valley la gente va a vedere le fabbriche di Lamborghini di Ferrari di Ducati eccetera 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 o sempre nella stessa zona vai a mangiare il parmigiano reggiano insomma ragazzi c'è un turismo incredibile ve lo posso assicurare anche nelle zone ci scommetto dove voi pensavate che non avreste fatto due lire ma ho menzionato principalmente realtà del nord bene anche al sud ad esempio in Salento la gente va a brere il vino a vedere la costiera amalfitana e chi più ne ha più ne metta e cosa fa una persona che non si può permettere di soggiornare ad esempio a Positano perché è troppo costosa beh va nel paesino magari a 20 minuti da lì dove costa meno ma dove comunque tu guadagni i paccati di soldi perché l'affitto ti costa meno comprare casa ti costa meno ma comunque affitti ai turisti e l'americano di turno paga paccate di soldi parliamo di paesini di 1000 2000 abitanti dove comunque tu puoi affittare a 100 150 200 euro a notte guarda tu con i tuoi stessi occhi punto numero 2 non affittiamo in realtà solo ai turisti di solito le persone collegano Airbnb affitti brevi e al turista sbagliato c'è chi viaggia per lavoro quindi anche italiani stessi c'è chi viaggia per questioni di salute magari un ospedale nelle vicinanze uno specialista particolare c'è chi viaggia per passioni per lo yoga per il mountain bike ritiri spirituali chi più ne ha più ne metta o anche finiamo per affittare magari ad aziende che stanno facendo dei lavori di ristrutturazione devono ospitare gli operai o devono ospitare gli stagionali ed ecco che ovviamente vengono a prenotare i nostri immobili mi è capitato spessissimo in zona riccione di ospitare magari delle persone che dovevano fare dei lavori di ristrutturazione e degli immobili in bianchini eccetera 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 d'inverno tra l'altro quindi poi qua si apre un altro capitolo importantissimo di anche nelle zone dove uno può pensare che si guadagni solo d'estate in realtà si guadagna molto bene anche d'inverno proprio perché vengono persone per i congressi perché devono fare i lavori quindi io riccione d'inverno affitto agli operai e guadagno paccate di soldi dunque le motivazioni per le quali una persona può venire a soggiornare nei nostri immobili sono potenzialmente infinite a noi non interessa il perché ci interessa che paghino e sganci al contrario di altri business dove devi impazzire per trovare un cliente e magari se lavori su una nicchia specifica quel cliente ti paga una volta e non lo vedi mai più mentre noi abbiamo persone che potenzialmente con una prenotazione ci coprono anche un mese mesi un anno ma anche nella peggiore delle ipotesi ci basta avere 30 notti prenotate tu hai riempito il mese e ti sei assicurato un ottimo incasso di norma da un immobile si guadagna in media come property manager o sublocatario 1000 euro un immobile 1000 euro 10 immobili 10.000 euro ovvio che se prendi in gestione o in sublocazione una villa non guadagni 1000 euro al mese ma ne guadagni molti di più però sto parlando di una casistica base applicabile bene o male a chiunque sta guardando questo video che è anche un po' il minimo garantito cioè tu quando entri in questo business di norma ambisci a guadagnare almeno 1000 euro di immobile poi ovviamente scalando puoi arrivare a guadagnare molto di più per singolo immobile dunque se nella tua zona ci sono musei ospedali ristoranti strutture ricettive già esistenti eccetera 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 fabbriche grosse aziende e quant'altro sappi che sicuramente ci sono delle persone che vengono lì per quel motivo anche un semplice il ristorante magari molto famoso o stellato beh quello è un ottimo motivo per il quale la gente verrà e magari siccome beve due bicchieri di vino da qualche parte dovrà pur dormire e ovviamente sceglierà te per non parlare poi di stazioni di treni aeroporti porti stessi per le navi eccetera 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 c'è l'imbarazzo della scelta l'importante è sapere ovviamente come approcciare questo mercato per evitare di perdere tempo e denaro ti consiglio di leggere i link che trovi qua in basso di studiare attentamente tutti i contenuti gratuiti che abbiamo e di prenotare una consulenza con il nostro team per capire se nella tua zona c'è mercato o meno infatti il mio team sarà ben contento di fare una ricerca di mercato in questa consulenza per te gratuitamente al fine di agevolare la tua entrata all'interno del business degli affetti brevi la ricerca di mercato in sé per sé non basta ovvero non è che fai la ricerca di mercato e diventi ricco quella ti aiuta a capire se c'è mercato dopodiché ovviamente ti puoi formare studiare e avviare in maniera seria il tuo business di affitti brevi anche senza partita IVA in maniera 100% legale ed unirti alla nostra community che conta oltre 4.000 studenti quest'oggi voglio parlare di un tema molto delicato perché quando le persone vogliono avvicinarsi a questo business la prima cosa che fanno e concettualmente è anche giusto è cercare di iscriversi a delle community di vario genere spesso gratuite per captare un po' di informazioni per imparare per chiedere aiuto per chiedere supporto il problema qual è? che spesso queste community sono tossiche sono community create da arrangiati persone che sono entrate nel business della fitto breve per gioco perché hanno ereditato la casa della nonna perché hanno sentito dire che era una cosa funzionale ma che purtroppo non avendo esperienze non avendo formazione non avendo neanche magari il giusto background a livello di mindset quindi proprio la mentalità imprenditoriale magari trovano la casa leggermente sporca e scrivono questi post come se li avessero distrutto casa piuttosto che hanno un inconveniente e scrivono questi papiri di tragedie magari persone che lavoravano in maniera illegale non pagavano le tasse e adesso che è stata inserita ad esempio la riscossione automatica delle tasse che noi che lavoriamo in maniera seria non cambia assolutamente niente dovevamo pagarle prima queste tasse tra l'altro tasse agevolate solo al 21% dovevamo pagarle noi oppure le trattine Airbnb a noi non cambia niente invece vedi queste persone che si lamentano e dicono no ma come io così non riesco a sopravvivere beh questa è la prova che ad esempio queste persone che fanno queste tipologie di post prima evadevano le tasse quindi lavoravano bene perché non pagavano le tasse mentre noi guadagniamo un sacco di soldi eppure paghiamo anche le tasse pensate voi che stupidi che siamo però scherzi a parte queste community purtroppo sono popolate al 99% da gente che questo lavoro non lo sa fare e quindi quello che può sembrare una genialata quindi mi scrivo a delle community per imparare spesso significa ritrovarsi in realtà ad essere demotivati svantaggiati e quasi queste persone vi fanno passare la voglia sembra che parliamo di due business completamente diversi questa non è una lezione questo video è per lo più un consiglio pratico la restante parte dei video sono tutte lezioni praticamente questo è più diciamo condividere un'esperienza infatti è verso la fine di questa playlist è una delle ultimissime lezioni che vi voglio dare ed è quella di non iscrivervi a queste community o se proprio volete farlo fatelo guardandole un po' con distanza perché sembra quasi che parliamo veramente di due business diversi se tu entri ad esempio nella community b&b academy composta da oltre 4.000 persone leggi di gente che con grande gioia dice ho acquisito un nuovo immobile questo mese ho fatto record di guadagni ho venduto le mie strutture ricettive a centinaia di migliaia di euro guardate quante recensioni ho ottenuto sono praticamente tutti super host quindi tutti vincono questo riconoscimento che dà rb&b per gli alloggi di qualità e poi entri in queste community gratuite purtroppo tossiche e invece vedi solo gente che si lamenta gente negativa gente che dice no lascia stare non fare questo lavoro gente che lo fa anche perché è invidiosa o ha paura della competizione ha paura che tu gli possa rubare il lavoro mentre in b&b academy abbiamo costruito una community molto sana dove non c'è questa paura di tossicità di competizione anzi spesso si collabora assieme e quando fai un posto in questa community a parte non b&b academy dici magari faccio il property manager iniziano a prenderti per il culo ti sfottono ma sì ma come ma fammi vedere ma di cosa stai parlando ma tornate in a casa tua mentre quando in b&b academy si fa un post di cerco persone con le quali collaborare tutti ti dicono ti scrivo va bene ottimo anch'io stavo cercando per collaborare quindi un altro discorso è che magari poi in questi gruppi effettivamente c'è anche gente che guadagna bene con l'affitto breve ma sono persone che l'hanno fatto con il fai da te capite quindi non hanno magari neanche le competenze corrette tantissime volte ho letto delle affermazioni completamente sbagliate fatte all'interno di queste community come gente che diceva che era obbligatorio avere la partita IVA per fare questo business quando abbiamo dimostrato per filo e per segno leggi con leggi alla mano che non c'è bisogno della partita IVA per fare questo business altra gente che in questi gruppi diceva che la sublocazione è illegale altra gente che dice che c'è bisogno del patentino da gente immobiliare insomma inesattezze su inesattezze che dicono o per ignoranza perché sono loro in primis a non essersi mai formati oppure perché vogliono depistare le persone per non farli iniziare questo business ed è anche lo stesso motivo per il quale vedono di cattivo occhio magari le accademie di formazione come la mia e dati alla mano nonostante noi fatturiamo milioni con gli affitti brevi riescono a dire che non sono nulla di valido poi vai a vedere gli annunci di queste persone sono foto scattate con lo smartphone e con dei titoli veramente illegibili cioè cose che non si possono vedere e spesso ahimè succede anche che tante persone si iscrivono a B&B Academy e hanno fatto degli errori gravi proprio perché si sono affidati a queste persone ma dovete come dire fare una considerazione ovvero come può un qualcosa di essere gratis essere di valore nel senso perché un qualcuno dovrebbe darvi gratis dei consigli dovrebbe insegnarvi un qualcosa gratuitamente se lo fa probabilmente lo farà male mentre al contrario un'accademia come la nostra che si è a pagamento ma proprio perché è a pagamento riesce a garantire la miglior qualità aggiornamenti gratuiti contratti redatti da avvocati contratti redatti da commercialisti riferimenti di legge presi da esperti del settore eccetera 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 ecco perché se proprio volete entrare in questo business fatelo bene altrimenti non fatelo perché rischiate come queste persone anche per ignoranza di ritrovarvi ad essere degli evasori fiscali e tutto ciò alla fine si traduce in una community tossica composta per lo più da persone che non sanno fare questo business che dicono che non si guadagna che si lamentano in continuazione e danno la colpa allo stato alle tasse eccetera 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 e spesso dicono anche che poi magari non ricevono prenotazioni beh fatti due domande se tu non ricevi prenotazioni e noi di B&B Academy ad esempio ne riceviamo appalate e talvolta andiamo anche in overbooking se avete visto la lezione sulla terminologia sapete che cosa significa overbooking prima di proseguire con delle altre motivazioni che spero vi faranno desistere dall'iscrivervi a queste community io mi sono disiscritto da molte di queste perché veramente sono imbarazzanti vi ricordo che qua in descrizione trovate dei contenuti gratuiti ma di valore perché sono stati creati da noi per farvi capire se questo business fa il caso vostro se fa il caso vostro dopo avete la possibilità la facoltà lo scegliete voi di iscrivervi a B&B Academy che è un'accademia a pagamento però questo diciamo che è un regalo che vi voglio fare come orientamento per farvi capire se questo business fa il caso vostro o meno così da non farvi perdere tempo e neanche denaro questi contenuti gratuiti li trovate qua in descrizione non perdeteveli perché sono di altissimo valore e proseguiamo con il video perché però dall'altra parte ad esempio la community B&B Academy è una community di altissimo valore beh perché innanzitutto c'è un commitment quindi c'è un impegno da parte nostra ovvero abbiamo investito del denaro ovviamente vogliamo avere dei risultati a cambio non ci accontentiamo di lamentarci no vogliamo ottenere dei risultati e siamo anche ben consapevoli che per farlo ci basterà seguire un percorso step by step certificato e comprovato nel senso io so che se faccio queste cose che vengono descritte all'interno del corso e della community otterrò successo in maniera matematica anche perché l'abbiamo dimostrato nelle precedenti lezioni con anche delle analisi di casi studio di immobili che vengono pubblicati senza l'opportuna formazione non basta prendere una casa scattare 4 foto col telefono mettere un titolo a caso e buttarla su Airbnb e sperare di ottenere prenotazioni potresti anche ottenere prenotazioni anzi sicuramente le otterrai ma non starai creando un business non starai creando un qualcosa che tu puoi scalare in maniera sistematica non starai creando un qualcosa che ti renderà ricco non starai creando un qualcosa che ha il 100% di tasso di occupazione ma neanche l'80% perché arriveranno le prenotazioni a basso costo di gente arrangiata ma starai lasciando sul tavolo tantissimi soldi che potresti ottenere ottimizzando l'annuncio ad esempio seguendo il metodo B&B Academy perché ovviamente esistono gli ospiti che sono disposti a pagare 50 euro a notte ma questi a noi non interessano e poi ci sono gli ospiti disposti a spendere il triplo 150 200 300 euro a notte e a parità di immobile l'applicare il nostro metodo può letteralmente farti guadagnare due o tre volte tanto ecco perché abbiamo deciso di creare B&B Academy un'accademia con sì meno persone ovviamente rispetto a questi gruppi facebook o magari 40.000 persone dove poi non ti risponde nessuno una community sì più piccola ma meno sappiamo che chi è dentro e parliamo comunque di 4.000 persone è realmente motivato ad ottenere dei risultati perché ha investito denaro in questa cosa e infatti poi ogni post all'interno della community ha sempre delle risposte di altissimo valore sia perché abbiamo dei coach che paghiamo per rispondervi sia perché risponde in prima persona sia perché le altre persone sono appunto persone di alto livello all'interno del business non stiamo parlando della signora di 70 anni che per gioco si è messa a mettere la casa della sorella ormai defunta su Airbnb parliamo di persone che chi con una casa chi con 50 chi con 100 comunque qualsiasi cosa fanno la fanno con un grande impegno quindi entrando in Airbnb Academy non solo ad esempio hai formazione di altissimo livello aggiornata gratuitamente da anni e che verrà aggiornata negli anni contratti file chi più ne ha più ne metta tutto certificato in maniera 100% legale ma avrai accesso anche appunto a queste community che sono ben due facebook e telegram alle quali puoi accedere solo se sei studente c'è un controllo rigoroso e oltre a questo anche a degli eventi dal vivo che svolgiamo ogni anno come gli aperitivi Airbnb Academy ti lascio una foto qua in basso o altre tipologie di eventi come le inaugurazioni degli store di affitti brevi che apriamo sempre insieme a persone della nostra community quindi parliamo di una community a 360 gradi dove ottieni sempre risposta ottieni sempre assistenza ottieni la miglior formazione e hai anche eventi dal vivo eventi dal vivo dove ancora una volta non ti trovi con la signora concetta di 70 anni che non ha idea neanche di che cosa sia il CIR ma con professionisti con i quali volendo puoi anche collaborare e fare soldi assieme a loro ed ecco che entrando in una community come la nostra ti renderai conto che tutti quelli che si lamentavano che dicevano che questo business magari non funziona eccetera 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 si sbagliavano ed il motivo per il quale nella loro testa questo business non funzionava è perché non sapevano fare questo business così come ci sono tantissime persone che aprono il ristorante il bar e falliscono e persone che invece creano catene intere di ristoranti tipo all'antico vinaio com'è possibile che lui sta aprendo decine di negozi in tutto il mondo e poi ci sono altre persone che falliscono perché lui ha studiato sa come fare questo business e volendo potrebbe insegnarlo agli altri mentre tante altre persone sono arrangiate e falliscono stesso business persone hanno un grandissimo successo fatturando centinaia di milioni e altre persone falliscono miseramente perdendo tutto il loro denaro com'è possibile beh la differenza la fa la strategia e noi la strategia ve la diamo questo oggi parleremo delle spese di pulizia più nello specifico gli errori da evitare uno dei temi più ricorrenti quando si vive nel mondo degli host è quello della pulizia partiamo dal presupposto che la pulizia non è un vero e proprio costo per noi perché in realtà se andiamo a vedere è una voce che pagano i clienti ad esempio in questo screenshot che vi faccio vedere notate che una persona ha pagato un costo per notte la tassa di soggiorno e i costi di pulizia e quei costi di pulizia che noi impostiamo nella maggior parte delle casistiche sono gli stessi costi che poi andiamo a pagare o addirittura di più ciò significa che se ad esempio io chiedo 100 euro di pulizia può essere che o pago quelle pulizie effettivamente 100 euro o addirittura le pago 80 euro e vado anche a marginare 20 euro sulle pulizie quindi le pulizie partiamo dal presupposto che non sono un vero e proprio costo per noi ma un giroconto passatemi il termine quindi me li paga l'ospite a me e poi io le pago all'impresa di pulizia esistono delle casistiche dove l'host coincide col proprietario dell'impresa di pulizie tantissimi studenti bmb academy della nostra community hanno aperto poi delle loro imprese di pulizie o può essere che alcuni si facciano le pulizie in autonomia anche se non è una cosa che io condivido persone che tendono a farsi le pulizie da sé perché o hanno difficoltà a trovare persone ma la difficoltà deriva in realtà dal non sapere come cercarle soprattutto dove cercarle un tema che dentro bmb academy spieghiamo per filo e per segno oltre a raccomandarvi noi stessi delle imprese di pulizia nella vostra zona oppure dal fatto che vogliono guadagnare di più quindi siccome io dovrei pagare 50 euro di spese di pulizia anche se sono pagati dall'ospite preferisco intascarmi io ai 50 euro e non pagare un'impresa di pulizia e io non sono d'accordo perché significa che finisci a farlo schiavo cioè il bello di questo lavoro è che puoi farlo ad investimento zero avendo un sacco di tempo libero senza sforzi fisici automatizzando tutto ma se poi finisci a fare lo spazzino o la spazzina dentro casa che va benissimo non c'è nulla di male nel fare questo tipo di lavoro è un lavoro normalissimo però se entri in questo business non è perché poi finisci a pulire le tue case quindi in primis lo reputo diciamo poco appagante e poco sensato se il motivo per il quale sei entrato in questo business o sei entrata in questo business è guadagnare non è pulendo la casa che diventerai ricco o ricca ma in secondo luogo è anche proprio il fatto che se pulisci non hai il tempo di fare cose molto più importanti come ad esempio acquisire altri immobili quindi il vero guadagno maggiore ce l'hai se il tempo che dedicheresti alle pulizie lo dedichi a trovare nuove case a scalare questo business e a delegare tutto quanto ma torniamo agli errori da evitare è un errore pulire in prima persona ma è un errore anche non trovare l'impresa di pulizie ed è un errore imputabile solo ed esclusivamente a voi perché non avete le competenze e il mindset per riuscire a delegare avete paura magari che quella persona non pulisca bene e quindi preferite fare da voi avete paura che quell'impresa non pulisca bene e allora andate a controllare dopo ogni singolo check out attenzione è importantissimo controllare che tutto figli liscio perché ovviamente se riceviamo una recensione negativa soprattutto lato pulizie può essere abbastanza problematico ma come faccio io a gestire oltre 100 immobili lato pulizie ho cercato di automatizzare nei limiti del possibile ovviamente anche queste operazioni ad esempio fornendo all'impresa di pulizie una checklist che mi devono compilare al termine di ogni pulizia firmare e inviare su whatsapp questo funge un po' da autodichiarazione ovvero sì io sto dichiarando che davvero controllato che nel letto non ci siano capelli davvero controllato che il water sia pulito davvero controllato che l'immondizia sia sporca eccetera 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 quindi io sto dichiarando firmando il tutto attraverso questa checklist e quindi sicuramente siccome non voglio dichiarare il falso effettivamente controllerò che ciò sia avvenuto io inteso come io persona che sto pulendo mi assicurerò di aver controllato in secondo luogo puoi inserire delle penali ovvero ogni qualvolta fai un errore mi fai lo sconto in fattura di 25 euro vi assicuro che quando ci sono i soldi di mezzo le persone smettono di fare errori e questa può essere una metodologia e un'altra un'altra chicca che vi do ovviamente dentro Bambi Academy trattiamo questo tema per ore e ore e ore e ore è quello di farvi fare un video da ogni impresa di pulizie qua ad esempio vi faccio vedere adesso un video che mi ha mandato l'impresa di pulizie perché anche qui il video è una sorta di dichiarazione se io so che non ho pulito un qualcosa ho paura a filmarlo perché il filmare il fatto che non abbia pulito magari il water significa dichiarare la mia colpevolezza invece se tu non hai nulla da nascondere non hai nessun problema a farmi un video e tu mi fai vedere nel dettaglio la casa poi diciamocelo chiaramente io arrivato al mio livello non guardo questi video lo fanno delle persone che lavorano per me ma da un certo punto di vista potreste anche non farlo voi nel senso potete dire all'impresa di pulizia che deve fare il video non significa che voi doviate guardare veramente ogni singolo video però è una sorta di prevenzione l'impresa non sa quali video voi vedrete e se li vedrete voi chiedete di farlo per ogni singolo check out ok? dopodiché vedrete voi però intanto il fatto che loro debbano fare questi tipo di filmini passatemi il termine fa sì che loro si responsabilizzino molto e se poi alleghiamo le penali se poi alleghiamo la checklist diventa pressoché impossibile cannare poi ovvio che una dimenticanza l'essersi dimenticato un sacco dell'immondizia va bene può capitare anche ai migliori soprattutto sulle grosse quantità però errori grossolani e molto gravi così facendo riusciamo a estirparli dal nostro business però come dicevamo il problema principale di norma è l'impossibilità al delegare e qui c'è la differenza secondo me tra host quindi persona che gestisce gli immobili e imprenditore noi dentro B&B Academy non creiamo solo degli host che guadagnino un sacco di soldi ma creiamo dei veri e propri imprenditori infatti ad esempio dentro il corso che dura più di 70 ore abbiamo interi moduli legati al mindset all'imprenditoria al come delegare al come gestire al come controllare il tutto perché potete anche guadagnare 10.000 euro al mese con gli affitti brevi ma se dopo siete schiavi del vostro stesso lavoro o siete limitati non riuscite a scalare è un peccato e alla lunga questa cosa potrebbe anche distruggervi mentalmente e fisicamente ma non è un problema se siete dentro la community perché è un tema che abbiamo trattato per filo e per segno e che portiamo anche sotto forma di aggiornamenti gratuiti con una certa costanza nel tempo infatti ogni volta che scopriamo nuove metodologie nuove tecniche nuovi strumenti nuovi modi di automatizzare non ci inventiamo il corso 2.0 o vi vendiamo il corso segreto no aggiorniamo gratuitamente perché ci teniamo a che la nostra sia una community profittevole infatti poi B&B Academy ha vinto anche un premio che vedete qui per i risultati ottenuti abbiamo vinto anche un altro premio il premio le fonti per esserci contraddistinti a livello di qualità siamo l'unico percorso certificato da Alter Edu dato affitti brevi e sono stato anche inserito nella lista degli imprenditori più promettenti d'Italia sotto i 30 anni da parte di Forbes proprio grazie a B&B Academy quindi sono sicuro al 100% di avere tra le mani il prodotto numero 1 in Europa per tutto quello che riguarda gli affitti brevi e probabilmente anche al di fuori dell'Europa ma oltre a questo tocchiamo un tema che ho anticipato prima ovvero io Ludovico ma non solo io anche molte persone della nostra community non gestisco più in prima persona determinati temi perché? perché io ormai lavoro a livelli manageriali quindi io gestisco le persone che a loro volta poi gestiscono queste questioni qua e si apre un altro un altro come dire argomento importante che è quello del saper formare dei collaboratori ora se state partendo secondo me fino a 10 case talvolta anche 15 10 case in media riuscite a farvele da sole ok? non avete bisogno di nessun altro dopodiché una certa diciamo raggiunto un certo livello volete assumere qualcuno che poi può anche essere un collaboratore a partita IVA volete farlo perché questo vi permette di vivere più serenamente cioè vi dico sempre ad esempio a mia madre stai guadagnando talmente tanti soldi che potresti delegare ulteriormente praticamente non fare più niente però lei mi piace in realtà ogni tanto andare a controllare le case quindi continua a farlo però non siate avidi cioè se state guadagnando 10.000 euro al mese per dire investitene anche 1.500 o 2.000 per delegare perché grazie a quel delegare potete o vivere una vita veramente senza fare niente oppure scalare ancora di più il business quindi non concentrarvi più sul si è rotta la serratura l'ospite si è dimenticato la valigia ma concentrarvi sul vendo la mia azienda un milione di euro concentrarvi sul apro una sede fisica oppure mi espando in un'altra città che sono cose che sono diciamo un moltiplicatore molto più ampio quindi ecco perché è importante delegare e parte del delegare è legato alle pulizie un errore molto grande è quello di non delegare le pulizie e di andare lì a controllare con la lente di ingrandimento ogni singolo immobile cioè immaginatevi anche una catena alberghiera Hilton che conoscono tutti quanti ma secondo voi il signor Hilton andava a controllare ogni singola camera d'hotel con la lente di ingrandimento no è iniziato a delegare è iniziato a fidarsi ed è diventata una delle catene alberghiere più grossi al mondo Jeff Bezos controllava ogni singolo pacco che usciva dagli stabilimenti di Amazon ovviamente no ha iniziato a delegare ed è diventato uno degli uomini più ricchi del mondo dovete iniziare a delegare e a fidarvi delle persone e dovete rendere soprattutto le pulizie così come tanti altri aspetti del business che spieghiamo dentro B&B Academy le pulizie sistematiche e automatiche che ancora una volta vi ricordo non significa bassa qualità scarse valutazioni eccetera 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 assolutamente niente di più sbagliato scommetto che il mio sistema di pulizie completamente automatizzato è molto più efficiente del 99% degli host là fuori che magari vanno anche in prima persona a controllare gli immobili però dall'altra parte voglio anche rassicurare coloro che magari come dire hanno il semplice obiettivo di fare 1000 2000 3000 euro extra al mese cioè tutti questi discorsi incredibili che sto facendo in realtà poi se i tuoi obiettivi sono di fare appunto dai 1000 3000 euro al mese non c'è bisogno di nulla di tutto ciò cioè si puoi comunque farti compilare la checklist puoi comunque automatizzare questo discorso puoi comunque farti inviare dei video però non dovrai mai assumere nessuno non dovrai creare team di pulizie eccetera 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 che sono al contrario cose che riguardano chi vuole crearsi diciamo una certa struttura di un certo livello e un altro errore da non commettere è quello di assumere persone lato pulizie questa è una cosa non so perché forse tutta italiana io sono più international ma c'è l'ossessione di devo assumere devo assumere chi devi assumere cosa devi assumere assumere un dipendente ha dei costi esorbitanti se poi si fa male rimane incinta c'ha la febbre la diarrea qualsiasi cosa sei nella e devi comunque pagare qualcun altro quindi il mio consiglio è di lavorare ovviamente sempre e solo con persone che rilasciano fattura perché non lavoriamo in nero e non sarebbe serio non sarebbe scalabile bisogna fare tutto a regola d'arte qui non siamo per le cose illegali se c'è il modo di risparmiare ben venga ma sempre in maniera legale quindi puoi lavorare con dei professionisti quindi singoli che hanno una partita IVA forfettaria ordinaria senza nessun tipo di problema oppure con imprese di pulizia dove se la persona si è fatta male non è colpa tua e non riguarda te soprattutto starà l'impresa di pulizia trovare poi il sostituto mandarti qualcun altro e spesso sono poi aziende organizzate quindi questa cosa non è un problema e vi do una piccola chicca di cui abbiamo parlato in un altro video ma se non l'avete visto ve lo diciamo ve lo spoilerò qui sappiate che se le spese di pulizia sono opportunamente fatturate anche come persona fisica potete detrarvi il costo ciò significa che se avete incassato 3000 euro e avete delle fatture per 500 euro di pulizia in un mese ad esempio beh voi pagherete le tasse anche se come persona fisica solo su 2500 euro perché i 500 euro di spese di pulizia opportunamente fatturati da una persona o un'azienda compartita IVA non vengono conteggiati nei calcoli della cedolare secca e quindi non fate l'errore di pagare visto che è un video sugli errori non fate l'errore di pagare le tasse anche sulle spese di pulizia se opportunamente fatturate e dico se opportunamente fatturate ovviamente perché uno degli errori ovviamente che abbiamo spiegato nel video qualora non sia chiaro è quello di assumere persone in nero che non è assolutamente consigliato perché se si fa male succede qualcosa nei casini ce andate voi è poco professionale anche gli standard qualitativi di una persona che lo fa in nero non possono essere quelli magari di un'impresa di pulizia con anche degli standard e delle certificazioni e poi diciamocelo chiaramente se uno è un professionista nel settore delle pulizie come minimo a una partita IVA profettaria ed infine un altro errore di cui voglio parlare oggi e poi ne abbiamo analizzati tantissimi altri in B&B Academy e ti spiego alla fine del video come puoi accedervi è quello di impostare dei costi di pulizia creativi nel senso ma oggi mi sento di mettere 100 euro di pulizia no non funziona così oppure ah l'impresa mi ha chiesto 150 quindi io metto 150 assolutamente no il costo di pulizia che noi dobbiamo impostare deve essere concorrenziale ed in linea con quello che fanno i nostri competitor perché se i nostri competitor chiedono 70 euro per un bilocale e tu me ne chiedi 100 per un bilocale sei fuori mercato di 30 euro e nessuno prenoterà mai un immobile dove i costi di pulizia costano il 30% in più rispetto agli altri non ha senso non lo faresti nemmeno tu tu non soggiorneresti mai in un mio B&B se io ti chiedo 30 euro in più di pulizia rispetto agli altri ti chiederesti ma perché prenoto da quell'altro e lo stesso deve valere per voi quindi il prezzo che fate non deve essere in base alla vostra sensazione a quanto volete marginarci o a quello che vi chiede l'impresa di pulizia ma deve essere tarato su quello che fanno i vostri competitor come si scopre che prezzo fanno i nostri competitor con una ricerca di mercato che ovviamente andiamo a fare sfruttando Bedly Go che è il software numero uno per la ricerca di mercato e non solo in ambito affitti brevi per darvi un range un costo di pulizia può andare dai 30 a 40 euro per un monolocale e ovviamente questo costo include anche magari la biancheria a noleggio i saponi liquidi consumabili eccetera eccetera sino alle centinaia o migliaia di euro per delle ville mastodontiche qui ti faccio vedere uno screenshot ad esempio di una ricerca di mercato fatta con Bedly Go che dopo aver inserito gli opportuni filtri mi fa capire che in zona questo è il prezzo medio che chiedono i miei competitor e questo è il numero di annunci che chiedono un costo di pulizia perché alcuni annunci non lo chiedono io preferisco chiederlo perché secondo me dà un senso di maggior pulizia al cliente cioè il ragionamento che faccio io è questo annuncio non mi chiede dei soldi per la pulizia magari è poco pulito questo mi chiede dei soldi per la pulizia e quindi magari si affida ad un'impresa di pulizia professionale quindi magari più pulito rispetto a quell'altro quindi se vuoi azzeccare al 100% il costo di pulizia per il tuo B&B per le tue strutture ricettive devi utilizzare Badly Go ma poi non vi preoccupate che insomma l'investimento su questo software viene ripagato ampiamente dalle mille altre funzionalità del software siamo giunti al termine del video questi sono solo alcuni dei consigli fondamentali per avere successo in questo business con gli errori da non fare in ambito pulizie e ci vediamo nel prossimo video quest'oggi parleremo di contratti e contrattualistica uno strumento importantissimo per la buona riuscita del nostro business infatti come ben sappiamo buona parte del nostro business si basa proprio sui contratti che andiamo a stipulare con i proprietari di casa agenti immobiliari eccetera 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 se decidiamo di lavorare in property management utilizziamo una tipologia specifica di contratto che ci permetterà di operare e guadagnare ad investimento zero se decidiamo di operare in sublocazione avremo un'altra tipologia di contratto che deve espressamente accettare la sublocazione e permetterci di operare in maniera 100% legale in maniera serena quindi i contratti la contrattualistica in generale sono degli strumenti indispensabili per chiunque voglia svolgere questo business e l'errore che fanno in tanti è quello di utilizzare dei contratti trovati su google a caso ma non si può costruire un business solido non si può basare il nostro futuro su dei contratti trovati online gratuitamente e ricordatevi che nessuno vi regala niente quindi un contratto trovato online quasi sicuramente sarà un contratto che presenta degli errori delle falle delle anche superficialità quindi mi raccomando non utilizzate i contratti che trovate online che contratti dovreste utilizzare o farvene creare ad hoc dal vostro avvocato se ne avete uno oppure potete utilizzare i contratti che forniamo noi all'interno di B&B Academy inclusi nel percorso di formazione redatti dai nostri avvocati e utilizzati da migliaia di studenti B&B Academy quindi migliaia di host questi contratti sono stati ultra comprovati sono stati depositati decine di migliaia di volte tra una cosa e l'altra e ovviamente trovate tutte le tipologie di contratti possibili immaginabili parliamo di contratti di sublocazione contratti per lavorare con dei soci contratti di property management contratti di sola gestione online eccetera 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 nel video di oggi vi spiegherò comunque in generale a che cosa fare attenzione quando lavoriamo sfruttando questo strumento importantissimo ed indispensabile che sono appunto i contratti partiamo dal presupposto che in questo business ma in generale in qualsiasi business la contratualistica è fondamentale la prima cosa che fai anche solo quando richiedi una sim o una tessera al supermercato è firmare un modulo bene quel modulo alla fine non è nient'altro che un contratto tra te e l'ente che sta ad esempio emettendo la carta o la sim e dal nostro punto di vista è la stessa identica cosa con la differenza che non stiamo richiedendo la carta fedeltà del supermercato ma stiamo creando una rendita nell'ordine delle migliaia o decine di migliaia di euro al mese quindi è importantissimo basare il nostro business su dei contratti che siano solidi anche se un domani voleste rivendere la vostra attività ad esempio avete un portfoglio di 25 proprietà quel portfoglio quell'azienda che avete creato con 25 proprietà può arrivare a valere centinaia di migliaia di euro però la differenza tra il valere zero e il valere centinaia di migliaia di euro è proprio lì nei contratti perché se voi avete dei contratti fatti male che non vi tutelano dove magari il proprietario vi può non pagare o letteralmente vi può togliere la casa nel giro di un giorno quei contratti non valgono niente di conseguenza la vostra azienda non vale niente al contrario se utilizzate dei contratti professionali redatti in maniera corretta che vi tutelino bene avete fatto bingo perché a quel punto la vostra azienda può valere veramente tanti ma tanti soldi la differenza sta proprio nella tipologia di contratti che avete fatto in questo business ci troviamo a realizzare dei contratti con tante tipologie di persone potenziali soci con i quali andiamo a lavorare imprese di pulizia proprietari di casa agenzie immobiliari eccetera 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 vi rendete conto quindi che per ognuna di queste figure è indispensabile avere un contratto che sia ipertutelante perché la legge non ammette ignoranza e se voi avete fatto un errore nel contratto nessuno verrà in vostro soccorso nessuno vi aiuterà a risolvere il problema vi siete fregati con le vostre stesse mani e non voglio fare terrorismo psicologico ma ormai sono tanti anni che faccio questo lavoro ho formato oltre 4.000 persone con Bambi Academy che tra le varie cose è l'accademia di formazione più grande d'Europa e soprattutto ho visto tanti casi di persone che sono arrivate da me dopo aver fatto in autonomia o essersi affidati a percorsi strani con problemi dove magari i proprietari non gli pagavano piuttosto che i proprietari gli disdicevano il mandato e non potevano fare nulla per tutelarsi proprio perché hanno utilizzato dei contratti di scarsa qualità e non è che potete venire a chiedermi aiuto dopo che avete utilizzato dei contratti di scarsa qualità la miglior cura è la prevenzione prevenire è meglio che curare quindi la miglior cosa è partire sin da subito con dei contratti al 100% sicuri al 100% tutelanti e di conseguenza che vi facciano operare in maniera 100% sicura perché potrebbe anche essere che per un contratto sbagliato di punto in bianco dopo un anno perdete letteralmente tutto quanto dopodiché un altro errore che spesso viene commesso dalle persone è dire ma sì ma io lavoro con mio zio mio padre mia sorella la mia fidanzata o il mio migliore amico quindi non ho bisogno di un contratto errato niente di più sbagliato perché quando le cose vanno bene siamo tutti contenti si va tutti d'accordo ma le due principali cause del fallimento di società sono i litigi tra soci e soprattutto quando le persone vedono tanto denaro magari tendono a fregare l'altro quindi può essere che voi lavoriate con la persona che reputate la più sincera la più sicura la più affidabile di questo mondo ma dal momento in cui poi magari vedono che si sta guadagnando tanto denaro provano a fregarvi oppure le cose non stanno andando bene e vi lasciano col cerino in mano ecco perché è importantissimo anche nei confronti di persone che reputiamo estremamente affidabili e fidate avere una contrattualistica che vi tuteli perché diciamocelo chiaramente non puoi costruire un business solido senza dei contratti non puoi costruire un business solido basandoti sulla fiducia è importante fidarsi delle persone accanto a noi ma è altrettanto importante avere comunque come garanzia dei contratti perché verba volant scripta manent quindi le parole volano via col vento ciò che è scritto rimane andiamo dunque ad analizzare i contratti più importanti per chi svolge il business degli affitti brevi il primo in assoluto è ovviamente il contratto di mandato di gestione è un contratto che ci permette di operare sull'immobile anche ad investimento zero e che ci permette non solo di gestirlo ma anche di avere il diritto di incassare una ben definita percentuale sugli incassi che andremo a generare quindi questo contratto mi permette di avere le chiavi di casa di pubblicare l'immobile sulle varie piattaforme di generare questi incassi e di pretendere il pagamento ad esempio del 35% di tutti gli incassi che vengono generati questo è molto utile se non indispensabile per avviare il nostro business perché potremmo anche convincere un proprietario a voce senza firmare un contratto dopodiché arrivano gli incassi questa persona non ci paga e noi non abbiamo nessun elemento al nostro supporto che ci permetta di pretendere quei soldi oltre a questo come dicevo prima questi contratti ci permettono di avere anche la sicurezza che il proprietario non ci può togliere l'immobile da un giorno all'altro o solo perché gli gira così e ci non solo tutela garantendoci di avere la sicurezza che guadagneremo da quell'immobile per un lasso di tempo minimo garantito è ben definito ma ci permette anche un domani di poter rivendere questo contratto o la nostra azienda che possiede questi contratti ad una cifra molto alta quindi non solo guadagniamo magari mille euro al mese grazie a quel contratto ma gli diamo anche un valore che un domani costituirà il valore della nostra azienda che eventualmente potremo rivendere contestualmente per chi opera in subloccazione abbiamo un contratto molto simile che poi in realtà è completamente diverso ma per il senso che ha il contratto è molto simile quindi è un contratto di subloccazione che permette di subloccare l'immobile ma soprattutto stabilisce il rapporto tra noi e il proprietario di casa stabilisce quanto si dovrà pagare di canone di fitto ma soprattutto stabilisce quali sono le regole attraverso le quali eventualmente il proprietario può mandare disdette quindi rientrare in possesso dell'immobile spoiler nei nostri contratti ovviamente è molto difficile che il proprietario rientri in possesso dell'immobile e in secondo luogo stabilisce anche la durata del nostro rapporto perché ovviamente un contratto di subloccazione della durata di sei mesi vale molto meno rispetto ad un contratto di subloccazione della durata di otto anni a questo punto alcuni di voi potrebbero pensare Ludovico ma se è così svantaggioso che poi svantaggioso in realtà non è il proprietario di casa non firmerà mai questa tipologia di contratti e invece ti sbagli di grosso i nostri contratti di subloccazione sono stati firmati oltre mille volte da proprietari di casa perché magari tutelano anche di più noi rispetto a lui ed è giusto così ognuno cura i propri interessi ma sono scritti talmente bene dai nostri avvocati che il proprietario talvolta non se ne accorge neanche di ciò che diciamo sta firmando o meglio lo capisce ma dall'altra parte si sente comunque tutelato perché i contratti sono ben fatti e di conseguenza lui firma in maniera soddisfatta noi anche perché sappiamo che siamo ipertutelati il proprietario non ci può togliere la casa da un giorno all'altro e noi abbiamo guadagni garantiti da qui in avanti e ancora una volta chiaramente l'avere la garanzia di avere questo immobile per molti anni ci permette un domani di rivendere questo contratto ad un valore molto alto ma se dall'altra parte cambiassimo idea volessimo lasciare questo immobile per qualsiasi motivo noi siamo sempre tutelati e possiamo mandare la disdetta praticamente come quando vogliamo dall'altra parte il proprietario non può fare lo stesso ed ecco perché sono contratti molto tutelanti dal nostro punto di vista quindi dal punto di vista di noi che facciamo questa professione che siamo host che investiamo nella sublocazione ma dall'altra parte il proprietario non può toglierci l'immobile per guadagnarci lui siamo noi che dobbiamo mandare praticamente la disdetta ma non finisce qui perché come dicevo in B&B Academy troviamo letteralmente decine di contratti un altro contratto molto importante è quello di locazione turistica che facciamo firmare in forma automatizzata all'ospite ogni qualvolta soggiorna nel nostro immobile quindi è un contratto importantissimo che regolamenta il rapporto tra noi e l'ospite ma non dobbiamo star lì ogni volta ad andare a firmare il contratto digitalizziamo il tutto quindi possiamo farlo da remoto e in maniera automatica ma soprattutto siamo comunque tutelati e completamente a norma di legge quindi non si tratta solo di avere i migliori contratti che ovviamente trovate dentro B&B Academy ma si tratta anche di sapere come e quando farli firmare questi contratti e soprattutto come automatizzare questa tipologia di firma quindi la firma di contratti che possono essere diciamo richiesti che devono essere firmati con una elevata frequenza il contratto di sublocazione si firma una volta praticamente ogni 8 anni il contratto di locazione potrebbe essere potenzialmente da dover firmare tutti i giorni ma ancora una volta non vi preoccupate perché in B&B Academy vi insegniamo come automatizzare questo processo esiste poi ad esempio un contratto dove vuoi prendere in gestione un immobile di un tuo parente vuoi incassare tu il 100% dei guadagni ma l'immobile non è intestato a te ovviamente esiste un contratto anche per questo che è ancora diverso da tutti quelli che abbiamo visto fino ad ora ma vi ricordo ancora una volta che c'è un pericolo incombente ovvero quello di firmare un contratto che ci è stato passato da un nostro amico che è stato fatto da un non professionista o peggio ancora scaricato da Google beh a quel punto potreste avere guai molto grossi perché ad esempio potrebbero chiedervi a titolo di cosa hai incassato questo denaro beh tu dovresti mostrare il contratto ma il contratto magari è errato non lo hai firmato o peggio ancora è un contratto completamente errato e a quel punto potresti incorrere addirittura in multe e sanzioni e questa è una cosa che non auguro assolutamente a nessuno neanche al mio peggior nemico ma se operi in maniera 100% legale con dei contratti certificati come i nostri non hai nulla di cui preoccuparti immagina di trovarti in una situazione dove hai costruito un business di affitti brevi che ti genera 3-5000 euro al mese e da un giorno all'altro vedi tutto svanire semplicemente perché non hai utilizzato i contratti corretti o hai scaricato un contratto trovato su Google ecco perché in B&B Academy ci siamo avvalsi di avvocati professionisti tra cui l'avvocato Davide Orto molto celebre nel settore del business che è un avvocato tributarista che tra le varie cose ha scritto anche pareri per il tribunale di Milano è l'avvocato che personalmente mi segue da tantissimi anni col quale ho sviluppato anche alcuni dei miei business di maggior successo come Rental Pro ed è un sinonimo di garanzia per chiunque entri dentro B&B Academy perché si troverà contratti redati da lui inutile dirvi che questi contratti mi sono costati migliaia e migliaia di euro ma sono ben felice di darli a disposizione della mia community B&B Academy questo tra le varie cose vi permette di operare in assoluta tranquillità di essere tutelati al 100% e di costruire un business di valore inattaccabile di maniera tale che un domani potenzialmente possa anche essere venduto o che semplicemente vi permetta di vivere sereni consapevoli e consci che il vostro business è inattaccabile spero che questo video vi sia piaciuto i contratti sono veramente tantissimi in B&B Academy poi ogni contratto viene corredato da una lezione di spiegazione che vi spiega effettivamente a cosa serve come compilarlo eccetera 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 per questo video è tutto e ci vediamo nel prossimo oggi parleremo del lavoro da dipendente dal lavoro da imprenditore coniugato all'attività di affitti brevi è indispensabile lasciare il proprio lavoro assolutamente no vi do questo spoiler è possibile svolgere l'attività di affitti brevi in concomitanza col vostro lavoro da dipendente o col vostro lavoro da imprenditore ve lo posso dire con assoluta certezza perché io stesso porto avanti altre aziende nel mentre che gestisco oltre 100 immobili e ve lo dico anche perché tra i nostri oltre 4.000 studenti abbiamo tantissime persone che svolgono altre attività nel mentre che fanno affitti brevi bando alle cianci iniziamo con questo fantastico video partiamo da un presupposto le persone che accedono a B&B Academy che vi ricordo essere la community di affitti brevi legata alla formazione più grande d'Europa con oltre 4.000 studenti da tutto il mondo tantissimi di coloro che appunto accedono a B&B Academy hanno il desiderio di inizialmente lasciare il proprio lavoro devo essere onesto con voi la maggior parte delle persone accedono a B&B Academy perché sono stufe del loro lavoro ma ci sono anche tante persone che al contrario sono estremamente soddisfatte del loro lavoro sia dal punto di vista economico che dal punto di vista etico personale abbiamo tanti professionisti chirurghi chirurghi ingegneri persone anche molto famose nel loro settore anche sportivi importanti a livello calcistico pallacanestro arti marziali mista ad esempio Stefano Quaternò è molto famoso per essere uno degli studenti B&B Academy più celebri dal punto di vista sportivo e nonostante ciò hanno avuto il piacere di intraprendere questo percorso e di come dire affiancare questo business al loro lavoro principale la loro attività principale perché parlo di affiancamento perché è un business che permette quello degli affitti brevi di avere grandi soddisfazioni economiche se fatto in maniera professionale seguendo il nostro metodo ma anche di farlo come dire senza dover necessariamente investirci tante ore ogni giorno quindi è possibile guadagnare bene automatizzando gran parte dei processi e di conseguenza avendo una rendita passiva o semi passiva quindi se ad esempio tu che stai guardando questo video vorresti accedere al mondo degli affitti brevi vorresti accedere a B&B Academy e hai un lavoro da dipendente non ti devi preoccupare perché non è un grosso limite piuttosto che hai già un'attività imprenditoriale meglio ancora in realtà perché puoi tranquillamente talvolta anche utilizzare la partita IVA che già possiedi anche per il business degli affitti brevi benché in realtà è un business che si può fare in maniera 100% legale anche senza partita IVA se non sai di che cosa stiamo parlando qua sul canale trovi tantissimi video sul tema ma proseguiamo un altro degli innumerevoli vantaggi di poter iniziare un business senza doverci si dedicare anima e cuore dalla mattina alla sera è quello di poter testare se questa cosa fa il caso vostro vi spiego meglio può essere che siate già molto soddisfatti del vostro lavoro e la vostra situazione economica vi appaghi già così com'è ma avete quella curiosità di voler provare a fare questo business anche solo per aumentare il vostro reddito mensile beh potete farlo non dovete per forza mollare tutto e dedicarvi amici anima e cuore potete nel mentre che fate appunto la vostra attività anche solo testare e vedere come va o semplicemente vi accontentate di 1000 euro al mese extra acquisite una o due case ed ecco che avete i vostri 1000 barra 1500 euro al mese extra con una o due case dopodiché è successo tantissime volte che le persone si avvicinassero a questo business quasi per gioco tanto per provare per avere una famosa rendita extra se ne sono innamorate e hanno lasciato il loro lavoro è il caso ad esempio del nostro celebre studente Matteo che abbiamo intervistato forse anche due o tre volte addirittura negli anni che era un ricercatore di sicurezza informatico si è dedicato agli affitti brevi e oggi vive di questo è un portfoglio incredibile che vale secondo me più di un milione di euro piuttosto che tantissime altre testimonianze vi lascio qui gli screenshot di persone che comunque avevano altre situazioni lavorative e grazie al business degli affitti brevi hanno migliorato la loro vita hanno lasciato il lavoro che non gli piaceva fare eccetera abbiamo veramente tantissime storie di successo la maggior parte di queste sono entrate in questo business per cambiare la loro situazione economica e lavorativa ma facciamo un piccolo riassunto se vuoi lavorare in forma non imprenditoriale quindi senza partita IVA puoi farlo sino a 4 immobili in maniera 100% legale senza limiti di incassi quindi tu puoi avere il tuo lavoro da dipendente qualunque esso sia anche se lavori negli organi di stato che diciamo normalmente non possono avere altri business in forma non imprenditoriale puoi farlo perché si tratta di un reddito da allocazione quindi qualunque sia il tuo lavoro tu puoi guadagnare anche se fai il poliziotto se fai il pompiere puoi guadagnare in maniera 100% legale dal business degli affitti brevi sino a 4 case fossero anche 4 ville incredibili sino a 4 immobili tu puoi farlo dall'altra parte invece se vuoi operare in forma imprenditoriale hai bisogno di una partita IVA che può essere forfettaria o ordinaria dove si pagano molte e poche tasse ma come dicevamo questo business ha il grandissimo vantaggio di poterlo iniziare e anche continuare potenzialmente per sempre in forma non imprenditoriale se poi hai la partita IVA e hai anche un lavoro da dipendente o hai un lavoro da dipendente e vuoi aprirti una partita IVA dedicata è anche il grandissimo vantaggio di non dover ad esempio versare nuovamente i contributi IMS perché questi vengono già versati dal tuo lavoro da dipendente quindi hai un incasso ancora maggiore infatti molte persone sfruttano proprio questo vantaggio per dire mi metto in tasca dei soldi extra non devo neanche pagarci poi così tante tasse perché ho delle forti agevolazioni quindi per riassumere abbiamo visto che se fai il dipendente puoi guadagnare con gli affitti brevi se sei disoccupato puoi guadagnare con gli affitti brevi se sei un imprenditore o un libero professionista puoi guadagnare con gli affitti brevi in parole povere questo è l'unico business dove non hai nessun tipo di limite ai guadagni che puoi generare e alle forme con le quali puoi generare i guadagni perché ad esempio se tu volessi aprire un business di e-commerce devi obbligatoriamente avere la partita IVA e di conseguenza non solo hai dei costi da sostenere per aprire la partita IVA ma alcune professioni come dicevamo prima soprattutto dipendenti statali forze dell'ordine eccetera non possono aprire la partita IVA quindi se ad esempio fossi un poliziotto non potresti fare un business di e-commerce ma puoi fare un business di affitti brevi questo è un vantaggio enorme e questa era diciamo una spiegazione molto riassunta di un tema che dentro B&B Academy viene trattato con decine e decine di lezioni tenute tra l'altro tra le varie cose da Massimiliano Allievi e Riccardo Allievi dello studio Allievi che è il canale social numero uno in Italia per tutto quello che riguarda la fiscalità canale social ovviamente e anche studio di commercialisti con migliaia di clienti rappresentano tra l'altro alcune delle personalità digitali più importanti in Italia influencer cantanti tiktoker eccetera 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 e soprattutto tanti imprenditori ed ecco perché abbiamo scelto di collaborare insieme a loro e questi professionisti non solo li potrete trovare con dei video sul nostro canale di Youtube ma con lezioni vere e proprie della durata di ore e ore e ore all'interno di Bambi Academy con questo video abbiamo terminato ci vediamo nel prossimo oggi parleremo di un tema molto importante ovvero gli affitti brevi sono realmente alla portata di tutti spesso le persone quando si avvicinano a questo business trovano le scuse più disparate per dire no questo business non fa per me sicuramente nella mia città non c'è spazio ma col mio lavoro come faccio ho bisogno di requisiti particolari niente di più sbagliato abbiamo visto nelle precedenti puntate di questa fantastica serie che in realtà funziona anche nelle piccole città quindi non puoi utilizzare questa scusa abbiamo visto che lo puoi fare anche senza partita IVA quindi non puoi utilizzare questa scusa abbiamo visto che è altamente automatizzabile quindi non puoi utilizzare la scusa che non hai molto tempo da dedicarci abbiamo anche visto che non c'è bisogno di nessun tipo di licenza o patentino e quindi non puoi neanche utilizzare questa scusa allora per evitare di dover rispondere sempre a nuove obiezioni sempre più creative quindi per evitare di dover rispondere a migliaia di scuse possibili immaginabili oggi sarò io in prima persona a dirvi quali sono le casistiche tali per cui non potete fare il business degli affitti brevi o non è conveniente fare il business degli affitti brevi quindi sì esistono delle casistiche delle posizioni chiamiamole così tali per cui non è possibile svolgere il business degli affitti brevi ma sono situazioni veramente particolari ed è molto improbabile che tu rientri in queste categorie quindi è quasi sicuro al 99% che tu puoi svolgere questo business di affitti brevi lo devi volere chiaramente devi avere un giusto supporto devi avere una giusta formazione quella la offriamo noi ti ricordo che puoi iniziare con dei contenuti gratuiti che trovi qua nella descrizione del video ma andiamo a capire quali sono queste casistiche tali per cui non puoi fare affitto breve punto numero uno vuoi operare in un paese ma vivi dall'altra parte del mondo ad esempio vuoi operare in Italia ma vivi in Giappone ora perché non puoi svolgere il business degli affitti brevi se vivi in Giappone e vuoi operare in Italia in realtà il business è altamente automatizzabile quindi tu puoi essere dall'altra parte del mondo e gli ospiti entrano ed escono dal tuo immobile io ne sono la prova vivente vado spesso in Giappone e comunque i miei immobili continuano a fatturare in tutta Europa e non solo quindi indipendentemente da dove io sono gli immobili vanno avanti il problema qual è se vivi costantemente in un paese come il Giappone e hai degli immobili in Europa il fuso orario è veramente folle parliamo di un fuso orario di otto ore in più rispetto all'Italia quindi se ad esempio un ospite prenota le sette di sera italiane in Giappone è nottefonde quindi tu ci metterai una vita eventualmente ad esempio a rispondere a questa persona o ad approvare la sua prenotazione quindi se vivi dall'altra parte del mondo e hai un fuso orario incredibile non puoi svolgere questo business degli affitti brevi quantomeno in Europa se vivi in Giappone ovviamente puoi fare il business degli affitti brevi in Giappone o in altri luoghi dell'Asia quindi diciamo è un problema a metà secondo motivo per il quale eventualmente non puoi fare il business degli affitti brevi se sei in stato di arresto quindi ad esempio in carcere o se sei agli arresti domiciliari ovviamente se sei agli arresti domiciliari devi avere l'autorizzazione da parte del giudice a poter svolgere una serie di attività quindi se sei in carcere probabilmente non stai neanche guardando questo video ma se sei agli arresti domiciliari non puoi svolgere questo business purtroppo ci è capitato ragazzi ci è stata fatta questa domanda quindi rispondo puoi chiedere l'autorizzazione al giudice difficile poi dipende da che tipo di reato hai commesso ma difficile che se sei agli arresti domiciliari ti permettano di svolgere un lavoro così a stretto contatto col pubblico come l'affitto breve soprattutto un lavoro dove un minimo di rappresentanza ce la devi avere qui non so se andrei mai a dormire a casa di un carcerato motivazione numero 3 per la quale potresti non svolgere il business degli affitti brevi ed è molto simile alla numero 2 è se hai ricevuto un divieto di avvicinamento ad una determinata location se ad esempio hai ottenuto il daspo da Venezia è impossibile che tu faccia il business degli affitti brevi a Venezia se sei stato espulso dall'Italia per qualsiasi tipo di motivo ovviamente non puoi rientrare in Italia e quindi non puoi avviare neanche un'attività che sia in forma imprenditoriale o non imprenditoriale semplicemente non puoi farlo andando avanti è molto difficile che tu possa fare il business degli affitti brevi se ad esempio fai un lavoro come il camionista perché sei costantemente in viaggio sei costantemente alla guida magari anche 10-12 ore al giorno ed è molto difficile che tu riesca magari ad avere il tempo di chiamare un proprietario di casa di organizzare una visita ad un immobile o anche semplicemente rispondere ai messaggi che poi sono semplicissimi però di un potenziale ospite che vuole prenotare il tuo immobile perché se stai guidando da qui all'est Europa per 12 ore di fila senza fermarti a parte che probabilmente per le regole dovresti fermarti ma è difficile che tu riesca ad essere sul pezzo in questo business quindi se fai ad esempio il camionista è molto improbabile secondo me che tu possa fare questo business quello che puoi fare eventualmente con una persona di tua fiducia tua moglie marito figli eccetera dare a loro la giusta formazione per avviare questo business ma tu in prima persona secondo me difficilmente potrai fare questo lavoro ed infine fatemi sapere poi nei commenti se vi viene in mente qualche altro tipo di situazione tale per cui non potreste svolgere il business degli affitti brevi è secondo me praticamente impossibile se fai dei lavori che ti portano ad essere sconnesso per molto tempo ad esempio l'altro giorno sono andato in miniera effettivamente il telefono non prendeva e non puoi essere sul pezzo anche solo per un'eventuale emergenza il non essere reperibile chiaramente ti come dire ti vieta secondo me di fare questo lavoro se fai l'astronauta o lavori nei sottomarini insomma se fai dei lavori così particolari secondo me il business degli affitti brevi non puoi farlo ovviamente è tutto automatizzato e ovviamente potresti delegare queste cose quindi una soluzione c'è sempre però in prima persona se rientri in una delle categorie che ho citato poco fa il business degli affitti brevi non puoi farlo tutte le altre categorie abbiamo tra i nostri studenti di successo anche medici ingegneri super manager attori cantanti sportivi semplici persone disoccupati insegnanti poliziotti abbiamo un sacco di poliziotti in B&B Academy non chiedetemi perché anche membri dell'esercito beh se rientrate in queste categorie o comunque ad esclusione non rientrate in tutte le categorie diciamo di cui abbiamo parlato in maniera negativa ovvero che non possono svolgere questo business beh se non rientrate in queste categorie voi questo lavoro potete farlo in maniera semplice non avete scuse l'unica scusa è la forza di volontà che vi può mancare se non avete la forza di volontà non andate da nessuna parte perché il cambiamento ovviamente avviene da parte vostra non sarò io a dire oh vieni qua prendi il corso studialo guadagna e cambia vita devi volerlo tu una volta che tu lo vuoi segui ovviamente la nostra formazione ripeto qua in basso trovi già dei contenuti gratuiti fichissimi quello è il primo passo cioè se non sei neanche in grado di leggerti un ebook gratuito gratis zero euro non andrai da nessuna parte nella vita te lo posso assicurare se invece inizi dici vabbè dai ho un contenuto gratuito inizio a capire come funziona questa cosa qui magari poi utilizzo il secondo contenuto gratuito che è una chiamata con il team di Ludovico fammi capire un po' come funziona questo business e valuto questo è il primo step per cambiare vita bene per questo video è tutto può essere diciamo un po' ironico ma un fondo di verità effettivamente c'è iscrivetevi al canale mettete un bel mi piace e guardate tutto il resto della serie affitti brevi in 30 giorni perché è veramente molto interessante molto pratico e soprattutto molto utile per questo video è tutto da Ludovico Cianchetta Vasquez ci vediamo nel prossimo bene siamo giunti al termine di queste fantastiche lezioni spero che ora tu abbia un quadro più chiaro di come funziona il mondo degli affitti brevi e di come puoi anche tu costruire un'attività in questo settore e soprattutto cambiare la tua vita una volta per tutte ma anche se vuoi semplicemente crearti una seconda entrata che non dipende dal tuo tempo e che ti permetta di arrotondare i tuoi guadagni a fine mese sei nel posto giusto se hai capito il reale potenziale di questo mercato possiamo aiutarti a costruire il tuo business con un percorso passo passo o un servizio di affiancamento individuale in questo modo potrai ottenere risultati più in fretta senza errori e senza evitare di sprecare soldi e opportunità in metodi magici che non funzionano o che semplicemente ti fanno promesse impossibili da mantenere io sono la prova che questo business effettivamente funziona e gli oltre 4.000 studenti di B&B Academy lo sono anch'essi fai clic sul link che trovi qua in basso e prenota subito una videochiamata gratuita con un consulente esperto del mio team se invece non vuoi fare una videochiamata ma vuoi fare una semplice chiamata non ti preoccupare potrai specificarlo sempre cliccando il link che trovi qua in basso i consulenti con i quali avrai l'opportunità di parlare svolgono questo business in prima persona sono in primis persone come te in secondo luogo studenti B&B Academy ed infine imprenditori di successo che oggi grazie al business degli affitti brevi stanno guadagnando e hanno un obiettivo comune ovvero quello di aiutare anche te ad entrare in questo fantastico business e cambiare vita una volta per tutte durante la chiamata come ti ho spiegato in precedenza analizzeranno i tuoi obiettivi la tua situazione attuale e ti aiuteranno a capire se questo è il business giusto per te ancora una volta clicca il link che trovi qua in basso per prenotare la tua consulenza iscriviti al canale metti un bel mi piace e grazie per essere stato qui con me fino adesso un grande saluto da Ludovico Cianchetta Vasquez fondatore di B&B Academy a presto